Filotea di San Francesco di Sales. Parte prima contiene consigli ed esercizi necessari per condurre l'anima dal primo desiderio della vita devota fino alla ferma risoluzione di abbracciarla. Capitolo primo. Descrizione della vera devozione. Mia cara Filotea, tu vorresti giungere alla devozione perché sai bene come cristiana quanto questa virtù si accetta Dio, ma siccome i piccoli errori commessi all'inizio di qualsiasi impresa i gigantiscono con il tempo e risultano alla fine irreparabili o quasi, è necessario prima di tutto che tu sappia che cos'è la virtù della devozione. Di vera ce n'è una sola, ma di false e vane ce ne sono tante e se non sai distinguere la vera, puoi cadere in errore e perdere tempo correndo dietro a qualche devozione assurda e superstiziosa. Areglio dava a tutti i volti che dipingeva, le sembianze e l'espressione delle donne che amava. Ognuno si crea la devozione secondo le proprie tendenze e la propria immaginazione. Chi si consacra al digiuno penserà di essere devoto perché non mangia, mentre al cuore pieno di rancore e mentre non se la sente di bagnare la lingua nel vino e neppure nell'acqua. Per amore della sobrietà non avrà alcuno scrupolo nel tuffarla nel sangue del prossimo con la maldicenza e la calunnia. Un altro penserà di essere devoto perché biascica tutto il giorno una filza interminabile di preghiere e non darà peso alle parole cattive, arroganti e ingiuriose che la sua lingua rifilerà per il resto della giornata, a domestici e vicini. Qualche altro metterà a mano volentieri al portafoglio per fare le lemosi nei poveri, ma non riuscirà a cavare un bricio di dolcezza dal cuore per perdonare i nemici. Ci sarà poi l'altro che perdonerà i nemici, ma di pagare i debiti non gli passerà neanche per la testa. Ci vorrà il tribunale. Tutta questa brava gente dall'opinione comune è considerata devota, ma non lo è per niente. Ricordi l'episodio degli sgherri di Saul che cercano Davide? Micol li trae in inganno mettendo nel letto un fantoccio con gli abiti di Davide e fa loro credere che Davide è ammalato. Così molti si coprono di alcune azioni esteriori, proprie della santa devozione, e la gente crede che si tratti di persone veramente devote e spirituali, ma se vai a guardare bene scopri che sono soltanto fantocci e fantasmi di devozione. La vera e viva devozione, Filotea, esige l'amore di Dio, anzi non è altro che un vero amore di Dio, non un amore genericamente inteso. Infatti l'amore di Dio si chiama grazia in quanto abbellisce l'anima perché ci rende accetti alla divina maestà, si chiama carità in quanto ci dà la forza di agire bene, quando poi è giunto a un tale livello di perfezione, per cui non soltanto ci dà la forza di agire bene, ma ci spinge ad operare con cura, spesso e con prontezza, allora si chiama devozione. Gli struzzi non possono volare, le galline svolazzano di rado, goffamente e raso terra. Le aquile, le rondine e i colombi volano spesso con eleganza e in alto. Similmente i peccatori non riescono a volare verso Dio, ma si spostano esclusivamente sulla terra e per la terra. Le persone da bene, che non possiedono ancora la devozione, volano verso Dio per mezzo delle buone azioni, ma di rado, con lentezza e pesantemente. Le persone devote volano in Dio con frequenza, prontezza e salgono in alto. A dirlo in breve, la devozione è una sorta di agilità e vivacità spirituale per mezzo della quale la carità agisce in noi o, se vogliamo, noi agiamo per mezzo suo, con prontezza e affetto. Ora, come è compito della carità farci praticare tutti i comandamenti di Dio senza eccezioni e nella loro totalità, spetta alla devozione aggiungervi la prontezza e la dirigenza. Ecco perché chi non osserva tutti i comandamenti di Dio non può essere giudicato né buono né devoto. Per essere buoni ci vuole la carità e per essere devoti, oltre alla carità, bisogna avere grande vivacità e prontezza nel compiere gli atti. Siccome la devozione si trova in grado di carità eccellente, non soltanto ci rende pronti, attivi e dirigenti nell'osservare tutti i comandamenti di Dio, ma ci spinge inoltre a fare con prontezza e affetto tutte le buone opere che ci sono possibili, anche se non cadono sotto il precetto, ma sono soltanto consigliate o indicate. Come un uomo guarito di recente da una malattia, cammina quel tanto che gli è necessario, piano piano e trascinandosi un po'. Così il peccatore, guarito dal suo peccato, cammina quel tanto che Dio gli comanda, trascinandosi ad agio ad agio fino a che non giunga la devozione. Allora, da uomo completamente sano, non soltanto cammina, ma corre e salta nella via dei comandamenti di Dio e, inoltre, prende di corso i sentieri dei consigli delle ispirazioni celesti. In conclusione, si può dire che la carità e la devozione differiscono tra loro come il fuoco dalla fiamma. La carità è un fuoco spirituale che quando brucia con una forte fiamma si chiama devozione. La devozione aggiunge al fuoco della carità solo la fiamma che rende la carità pronta, attiva e dirigente, non soltanto nell'osservanza dei comandamenti di Dio, ma anche nell'esercizio dei consigli e delle ispirazioni del cielo. Capitolo secondo Caratteristiche ed eccellenza della devozione Coloro i quali volevano scoraggiare gli israeliti dall'entrare nella terra promessa, dicevano che era un paese che divorava gli abitanti, ossia che l'aria era talmente pestilenziale, che nessuno vi poteva vivere a lungo. Per di più era abitata da mostri che divoravano gli uomini come locuste. Allo stesso modo, mia cara Filotea, la gente della strada dice tutto il male che può della devozione e dipinge le persone devote in musonite, tristi e imbronciate, e va blatterando che la devozione rende malinconici e insopportabili. Ma sull'esempio di Giosuè e di Caleb, che non solo sostenevano che la terra promessa era fertile e bella, ma che il suo possesso sarebbe stato utile e piacevole. Lo Spirito Santo, per bocca di tutti i santi e nostro Signore, con la sua parola ci danno assicurazione che la vita devota è dolce, facile e piacevole. La gente vede che i devoti digiunano, pregano, sopportano le ingiurie, servono gli infermi, assistono i poveri, fanno veglie, controllano la collera, dominano le passioni, fanno meno dei piaceri e dei sensi, e compiono altre azioni simili a queste, di per sé e per loro natura aspre e rigorose. Ma non sa vedere la devozione interiore e cordiale che trasforma tutte queste azioni in piacevoli, dolci, docili e facili. Guarda l'ape sul timo, ne può ricavare soltanto un succo amaro, ma succhiandolo lo trasforma in miele, perché questa è la sua caratteristica. Mi rivolgo a te, persona del mondo, e ti dico, le anime devoti incontrano molta amarezza nei loro esercizi di mortificazione, questo è certo, ma praticandoli li trasformano in dolcezza e suavità. Il fuoco, la fiamma, la ruota, la spada, per i martiri, sembravano fiori odorosi, perché erano devoti, e se la devozione riesce a rendere piacevoli le torture più crudeli e la stessa morte, cosa non riuscirà a fare per le azioni proprie della virtù? Lo zucchero rende dolci i frutti un po' acerbi e toglie il pericolo che facciano il male a quelli troppo maturi. La devozione è il vero zucchero spirituale, che toglie l'amarezza alle mortificazioni e la capacità di nuocere alle consolazioni. Toglie la rabbia ai poveri e la preoccupazione ai ricchi, la desolazione a chi è oppresso e l'insolenza al favorito della sorte. La tristezza a chi è solo e la dissipazione a chi è in compagnia. Ha la funzione di fuoco in inverno e di rugiade in estate. Sa affrontare e soffrire la povertà. Trova ugualmente utile l'onore e il disprezzo. Riceve il piacere e il dolore con un cuore quasi sempre uguale e ci colma di una meravigliosa suavità. Guarda la scala di Giacobbe che è la vera immagine della vita devota. I due montanti tra i quali si sale e ai quali sono fissati gli scalini rappresentano l'orazione che chiede l'amore di Dio e i sacramenti che lo conferiscono. Gli scalini sono i diversi livelli della carità per i quali si sale di virtù in virtù o discendendo in aiuto e sostegno del prossimo o salendo per la contemplazione all'unione d'amore con Dio. Ed ora, da uno sguardo a coloro che si trovano sulla scala. Sono uomini con il cuore di angeli o angeli con il corpo di uomini. Non sono giovani, ma lo sembrano, perché sono pieni di forza e di agilità spirituale. hanno ali per volare e si lanciano in Dio con la santa orazione, ma hanno anche i piedi per camminare con gli uomini in una santa e piacevole conversazione. I loro volti sono belli e radiosi, per cui ricevono tutto con dolcezza e suavità. Le gambe, le braccia e la testa sono scoperte, perché i loro pensieri, i loro affetti e le loro azioni hanno il solo scopo di piacere a Dio. Il resto del corpo è coperto da una tunica fine e leggera, perché sono realmente inseriti nel mondo e usano le cose di questo mondo, ma in modo pulito e limpido, prendendo esclusivamente il necessario. Così agiscono le persone devote. Cara Filotea, devi credermi. La devozione è la dolcezza delle dolcezze, è la regina delle virtù, perché è la perfezione della carità. Se vogliamo paragonare la carità al latte, la devozione ne è la crema. Se la paragoniamo a una pianta, la devozione ne è il fiore. Se ha una pietra preziosa, la devozione ne è lo splendore, se ad un unguento prezioso, ne è il profumo suave che dà la forza agli uomini e gioia agli angeli. Capitolo terzo. La devozione si adatta a tutte le vocazioni e professioni. Nella creazione Dio comandò le piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo, ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso, dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa, ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre la rincorsa di servizi da rendere al prossimo in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile? Eppure, queste stranezze capitano spesso e la gente di mondo che non distingue o non vuol distinguere tra la devozione e le originalità di chi pretende essere devoto, mormona e biasima la devozione che non deve essere confusa con queste stranezze. Se la devozione è autentica non rovina proprio niente, anzi perfeziona tutto. E quando va contro la vocazione legittima, senza esitazione, è indubbiamente falsa. Aristotele dice che l'ape ricava il miele dai fiori senza danneggiarli e li lascia intatti e freschi come li ha trovati. La vera devozione fa ancora meglio perché non solo non porta danno alle vocazioni e alle preoccupazioni, ma al contrario le arricchisce e le rende più belle. Qualunque genere di pietra preziosa, immersa nel miele, diventa più splendente. Ognuna secondo il proprio colore. Lo stesso avviene per i cristiani. Tutti diventano più cordiali e simpatici nella propria vocazione, se le affiancano la devozione. La cura per la famiglia diventa serena, più sincero l'amore tra marito e moglie, più fedele il servizio del principe e tutte le occupazioni più dolci e piacevoli. Pretendere di eliminare la vita devota dalla caserma del soldato, dalla bottega dell'artigiano, dalla corte del principe, dall'intimità degli sposi, è un errore, anzi un'eresia. È vero che la devozione contemplativa, monastica e religiosa non può essere vissuta in quelle vocazioni, ma è anche vero che, oltre a queste tre devozioni, ce ne sono tante altre, adatte a portare alla perfezione quelli che vivono fuori dai monasteri. Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Giobbe, Tobia, Sara, Rebecca e Giuditta ne sono la prova per l'Antico Testamento. Nel nuovo abbiamo San Giuseppe, Lidia, San Crespino che vissero la perfetta devozione nelle loro botteghe, Sant'Anna, Santa Marta, Santa Monica, Aquila, Priscilla nel matrimonio, Cornelio, San Sebastiano, San Maurizio nella vita militare, Costantino, Elena, San Luigi, il Beato Amedeo, San Edoardo sul trono. È capitato anche che molti abbiano perso la perfezione nella solitudine, per sé molto utile alla vita perfetta, mentre l'avevano conservata in mezzo alla moltitudine, che sembra invece di natura sua poco adatta a favorire la perfezione. Lot, dice San Gregorio, fu casto in città e peccatore nella solitudine. Poco importa dove ci troviamo, ovunque possiamo e dobbiamo aspirare alla devozione. Capitolo IV. Necessità di un direttore spirituale per entrare e progredire nella devozione. Quando il giovane Tobia ricevette l'ordine di recarsi a Rage, rispose, non conosco la strada. Il padre gli disse allora, va tranquillo e cerca qualcuno che ti faccia da guida. Ti dico la stessa cosa, Filotea. Vuoi metterti in cammino verso la devozione con sicurezza? Trova qualche uomo capace che ti sia di guida e ti accompagni. È la raccomandazione delle raccomandazioni. Qualunque cosa tu cerchi, dice il devoto Avila, troverai con certezza la volontà di Dio soltanto sul cammino di una umile obbedienza, tanto raccomandata e emessa in pratica dai devoti del tempo antico. La beata madre Teresa, vedendo Caterina di Cordova fare grandi penitenze, ebbe un grande desiderio di imitarla contro il parere del confessore che glielo proibiva e al quale era tentata di non obbedire. Almeno in questo Dio allora le disse, figlia mia, tu stai camminando su una strada buona e sicura. Vedi le sue penitenze? Eppure io preferisco la tua obbedienza. Teresa concepì tanto amore per questa virtù che, oltre all'obbedienza dovuta ai superiori, votò una particolare obbedienza ad un uomo straordinario, impegnandosi a seguirne la direzione e la guida. Ne ebbe grandi consolazioni. Prima e dopo di lei è capitata la stessa cosa a molte anime elette che, per garantirsi una più perfetta sottomissione a Dio, hanno posto la loro volontà sotto la direzione dei suoi servi, cosa che Santa Caterina da Siena elogia con sante espressioni nei suoi dialoghi. La devota principessa Santa Elisabetta obbediva, con estrema esattezza, al dotto maestro Corrado. Ecco un consiglio dato da San Luigi sul letto di morte a suo figlio. Confessati spesso, scegli un confessore adatto che sia molto prudente e che possa insegnarti con sicurezza a fare il tuo dovere. L'amico fedele, dice la Santa Scrittura, è una forte protezione. Chi lo trova, trova un tesoro. L'amico fedele è un balsamo di vita e di immortalità. Coloro che temono Dio lo trovano. Queste parole divine si riferiscono in primo luogo, come puoi notare, all'imortalità, per camminare verso la quale è necessario, prima di tutto, avere un amico fedele che diriga le nostre azioni con le sue esortazioni e i suoi consigli. Ci eviterà così i tranelli e gli inganni del nemico. Sarà per noi un tesoro di sapienza nelle afflizioni, nelle tristezze nelle cadute. Starà il balsamo per alleviare e consolare i nostri cuori nelle malattie spirituali. Ci proteggerà dal male e ci renderà stabili nel bene. E se dovesse colpirci qualche infermità, impedirà che diventi mortale e ci farà guarire. Ma chi può trovare un amico di tal sorta? Già che ti sta tanto a cuore camminare con una buona guida, in questo santo viaggio della devozione, cara Filotea, prega il Dio con grande insistenza che ne provveda una seconda al suo cuore e poi non dubitare. Sii certa che, a costo di mandare un angelo dal cielo, come fece per il giovane Tobia, ti manderà una guida capace e fedele. Per te deve rimanere sempre un angelo, ossia, quando l'avrai trovato, non fermarti a dargli stima come uomo e non riporre la fiducia nelle sue capacità umane, ma in Dio soltanto, che ti incoraggerà e ti parlerà tramite quell'uomo, ponendogli nel cuore e sulla bocca ciò che sarà utile al tuo bene. Tu devi ascoltarlo come un angelo venuto dal cielo per condurti là. Parla con lui a cuore aperto, in piena sincerità e schiettezza. Manifestali con chiarezza il bene e il male senza infingimenti e dissimulazione. In tal modo il bene sarà apprezzato e reso più solido e il male corretto e riparato. Nelle afflizioni ti sarà di sollievo e di forza, nelle consolazioni di moderazione e misura. Devi riporre in lui una fiducia senza limiti, unita a un gran rispetto, ma in modo che il rispetto non diminuisca la fiducia e la fiducia non tolga il rispetto. Apriti a lui con il rispetto di una figlia verso il padre e portagli il rispetto con la fiducia di un figlio verso la madre. Per dirla in breve, deve essere un'amicizia forte e dolce, santa, sacra, degna di Dio, divina, spirituale. A tal fine scegliene uno tra mille, dice Avila. Io ti dico uno tra diecimila, perché se ne trovano meno di quanto si dica capace di tale compito. Deve essere ricco di carità, di scienza e di prudenza. Se manca una di queste tre qualità, c'è pericolo. Ti ripeto, chiedilo a Dio e, una volta che l'hai trovato, benedici la sua divina maestà. Fermati a quello e non cercarne altri, ma avviati con semplicità, umiltà e confidenza. Il tuo sarà un viaggio felice. Capitolo V. Si deve cominciare dalla purificazione dell'anima. I fiori sono apparsi nei campi, dice lo sposo nel Cantico dei Cantici. È giunto il tempo di potare e sfrondare. I fiori del nostro cuore, o filotea, sono i buoni desideri. Ora, appena compaiono, bisogna mettere mano alla roncola per sfrondare dalla nostra coscienza tutte le opere morte e inutili. La ragazza straniera, per sposare un'israelita, doveva togliersi la veste della prigionia, tagliarsi le unghie e raddersi i capelli. Similmente, l'anima che vuole andare sposa al figlio di Dio deve spogliarsi del vecchio uomo e rivestirsi del nuovo, lasciando il peccato. Poi, tagliare e radere tutti gli impedimenti che distolgono dall'amore di Dio. Essersi purificati dalla malizia e del peccato è l'inizio della salvezza. San Paolo venne purificato totalmente in un attimo. Lo stesso avvenne a Caterina da Genova, a Santa Maddalena, a San Pelagia e a qualche altro, ma questa sorta di purificazione è miracolosa ed eccezionale in grazia, come la risurrezione dei morti lo è in natura. Non possiamo pretenderla. Ordinariamente la purificazione, come la guarigione sia del corpo che dello spirito, avviene ad agio d'agio, per gradi, un passo dopo l'altro, a fatica e con il tempo. Sulla scala di Giacobbe gli angeli hanno le ali, ma non volano, anzi salgono e scendono ordinatamente, uno scalino dopo l'altro. L'anima che sale dal peccato alla devozione viene paragonata all'alba, che quando spunta non mette immediatamente in fuga le tenebre, ma gradatamente. Dice il saggio che la guarigione, la quale avviene senza fretta, è sempre la più sicura. Le infermità del cuore, come quelle del corpo, vengono a cavallo o in carrozza, ma se ne vanno a piedi e al piccolo trotto. Devi essere dunque coraggiose e paziente in quest'impresa, Filotea. Che pena vedere anime che, scoprendo di essere afflitte da molte imperfezioni, dopo essersi impegnate per un po' nel cammino della devozione, si inquietano, si turbano e si scoraggiano e rischiano di cedere alla tentazione, di lasciare tutto, di tornare indietro. D'altra parte, uguale pericolo occorrono quelle anime che, per la tentazione contraria, si illudono di essere liberate dalle loro imperfezioni il primo giorno della purificazione e si considerano perfette ancora prima di essere fatte. Pretendono di volare senza le ali. Filotea, quelle sono veramente in grande pericolo di cadere perché troppo presto hanno voluto sottrarsi alle mani del medico. Non alzarti prima che ci si veda, dice il profeta Davide, e alzati dopo essersi seduto. Egli stesso mette in pratica quello che dice e, una volta lavato e profumato, chiede di rimettersi all'opera. L'esercizio della purificazione dell'anima può e deve finire soltanto con la vita. Perciò non agitiamoci per le nostre imperfezioni. Quello che si chiede a noi è di combatterle. Se non le vedessimo non potremmo combatterle e non potremmo vincerle se non ci imbattessimo in esse. La nostra vittoria non consiste nel non sentirle, ma nel non acconsentirvi. E non è acconsentire esserne turbati. Anzi, ogni tanto ci fa bene una ferita in questa battaglia spirituale per fortificare la nostra umiltà. Non saremo mai vinti finché non avremo perso la vita o il coraggio. Le imperfezioni e i peccati veniali non possono strapparci la vita spirituale, che si perde soltanto con il peccato mortale. È il coraggio di combattere che non dobbiamo perdere, diceva Davide. Liberami, Signore, dalla vigliaccheria e dallo scoreggiamento. In questa guerra ci troviamo in una condizione di favore, perché per vincere ci basta la volontà di combattere. Capitolo VI Prima purificazione Dal peccato mortale La prima purificazione è quella dal peccato, il mezzo il sacramento della penitenza. Cercati il miglior confessore che puoi. Serviti anche di qualche libretto scritto a questo scopo. Leggi con attenzione e nota, punto per punto, dove hai mancato, cominciando da quando hai avuto l'uso di ragione fino a oggi. Se ti fidi poco dalla memoria, metti per iscritto quello che hai trovato. Una volta trovate e messe insieme le brutture peccaminose della tua coscienza, detestale e respingele con una contrizione e un dispiacere grande quanto il tuo cuore riesce a concepire, prendendo in considerazione questi quattro punti. Per il peccato tu hai perso la grazia di Dio, hai perso il diritto al paradiso, hai accettato i tormenti eterni dell'inferno, hai rinunciato all'eterno amore di Dio. Hai capito, Filotea, che ti parlo della confessione generale di tutta la vita che, lo so bene anch'io, fortunatamente non sempre necessaria, ma io la considero molto utile in questo inizio, per cui te la consiglio vivamente. Capita spesso che le confessioni abituali di coloro che conducono una vita ordinaria di cristiani comuni siano piene di difetti, per lo più si prepara poco o per niente, non si ha la contrizione richiesta, anzi, capita addirittura che molte volte ci si vada a confessare con il segreto proposito di tornare a peccare, visto che non si ha alcuna intenzione di evitare l'occasione, né di prendere gli opportuni accorgimenti per correggersi. In tutti questi casi la confessione generale è necessaria per dare una scossa all'anima. Inoltre, la confessione generale ci porta a conoscere noi stessi, ci provoca una salutare vergogna del nostro passato, ci fa ammirare la misericordia di Dio che ci ha atteso con pazienza, porta la pace nel cuore, la serenità nello spirito, suscita buoni propositi, offre l'occasione al nostro padre spirituale di darci consigli più adatti alla nostra reale situazione e ci apre il cuore alla semplicità fiduciosa che ci farà essere molto sinceri nelle confessioni che seguiranno. E poiché parliamo di un rinnovamento generale del cuore e della conversione totale dell'anima a Dio, per mezzo della vita devota, mi sembra, o Filotea, di avere ragione nel consigliarti questa confessione generale. Capitolo settimo. Seconda purificazione. Dagli affetti al peccato. Tutti gli israeliti uscirono materialmente dall'Egitto, ma non tutti ne uscirono con il cuore. Ecco perché nel deserto molti di esseri impiangevano le cipolle e la carne d'Egitto. Allo stesso modo ci sono dei peccatori che escono materialmente dal peccato, ma non ne abbandonano l'affetto, ossia fanno il proposito di non peccare più, ma si privano e si astengono dai piaceri del peccato con una certa malavoglia e con rimpianto. Il loro cuore rinuncia al peccato e se ne allontana, ma non per questo smette di volgersi in continuazione da quella parte, come la moglie di Lot, verso Sodoma. Si tengono lontani dal peccato, come fanno i malati con i cocomeri, quando il medico li ha minacciati di pericolo di morte, se ne dovessero mangiare. Ci stanno male a non poterne mangiare, ne parlano e mercanteggiano la possibilità di superare il divieto, almeno per assaggiarne, e giudicano fortunati quelli che possono mangiarne. Fanno la stessa cosa quei penitenti deboli e fiacchi che si astengono un po' dal peccato, a malincuore. Vorrebbero poter peccare senza andare all'inferno. Parlano con rimpianto e con piacimento del peccato, e giudicano fortunati quelli che lo fanno. Un uomo deciso a vendicarsi cambierà a proposito nella confessione, ma subito dopo lo trovi tra gli amici, felice di poter parlare della sua lite, e dice che, se non fosse per il timor di Dio, farebbe questo e quest'altro, e aggiunge che, su questo punto, la legge di Dio che impone il perdono è molto dura, volesse Dio che fosse permesso vendicarsi. Chi non vede che questo tizio, anche se legalmente fuori dal peccato, è ancora tutto preso dall'affetto al peccato e, mentre fisicamente è uscito dall'Egitto, vi abita ancora con il desiderio, bramandone le carni e le cipolle. Lo stesso si dica di quella donna che, dopo aver detestato i suoi muri perversi, si compiace di essere civetta e ricercata. Tale gente è in grande pericolo. Filotea, poiché vuoi dare inizio alla vita devota, non deve bastarti di abbandonare il peccato, ma devi sbarazzare il tuo cuore da tutti gli affetti legati al peccato, perché, oltre al pericolo di ricadere, questi miserabili affetti renderebbero perpetuamente malato e intorpidito il tuo spirito, a tal punto che non riuscirebbe a compiere il bene con prontezza, dirigenza e di frequente. Mentre proprio in questo consiste l'essenza della devozione. Le anime uscite dallo stato di peccato, ma che hanno ancora questi affetti e debolezze. Io le assomiglio alle ragazze che hanno un colore pallido, non sono malate, ma tutto il loro comportamento è da malati. Mangiano senza gusto, dormono senza riposare, ridono senza gioia, si trascinano invece di camminare. Allo stesso modo, tali anime fanno il bene con una tale stanchezza spirituale, che tolgono ogni grazie ai loro esercizi di pietà, che poi, oltretutto, sono pochi di numero e poveri di risultati. Capitolo ottavo. Come fare la seconda purificazione. La prima ragione che deve spingerci ad operare questa seconda purificazione è la coscienza viva e nitida del male enorme che ci causa il peccato. Riusciremo in tal modo a entrare in una contrizione profonda e travolgente. Infatti, la contrizione, per piccola che sia, se è sincera e soprattutto se è congiunta alla forza dei sacramenti, ci purifica sufficientemente dal peccato. Se poi la contrizione è profonda e travolgente, ci purifica anche da tutti gli affetti che derivano dal peccato. Un odio enaustio debole e fiacco ci permette di sopportare, anche se di malanimo, colui che odiamo. Se poi c'è possibile, ne stiamo lontani. Ma se il nostro odio è mortale e violento, non solo fuggiamo e troviamo insopportabile colui che odiamo, ma ci ripugna e non possiamo soffrire nemmeno la compagnia di coloro che la pensano come lui, dei suoi amici, dei suoi parenti. Non sopportiamo nemmeno la vista del suo ritratto e delle sue cose che gli appartengono. Similmente, se il penitente odia il peccato solo leggermente, benché sinceramente, è vero che fa il proposito di non peccare più, ma non è come quando lo odia con una contrizione forte e vigorosa. In tal caso, non solo detesterà il peccato, ma anche tutti gli affetti, le conseguenze e i sentieri del peccato. È per questo, Filotea, che dobbiamo rendere la nostra contrizione e il pentimento più profondi possibile, perché tutto ciò che appartiene al peccato sia travolto. Così fece la Maddalena, che, convertendosi, perse talmente il gusto del peccato e dei piaceri che non ci pensò più. E Davide, che protestava di odiare non soltanto il peccato, ma anche le sue vie e i suoi sentieri. Questo è il ringiovanimento dell'anima, che lo stesso profeta paragona a quello dell'aquila, che muta le penne. Ora, per giungere a questa presa di coscienza e della contrizione, devi immergerti con cura nelle meditazioni che qui di seguito ti propongo. Se ti ci impegnerai con serietà, con l'aiuto della grazia di Dio, strapperai dal tuo cuore il peccato e i principali affetti al peccato. Le ho impostate proprio a questo scopo. Le farai una dopo l'altra, nell'ordine che te le propongo, una al giorno, di mattino, se ti è possibile, perché è il tempo più adatto alle operazioni dello spirito e ci rifletterai sopra per tutta la giornata. Se poi non hai dimestichezza con le meditazioni, leggi quello che ne dico nella seconda parte di questo libretto. Capitolo nono. Prima meditazione. La creazione. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio. Chiedigli di ispirarti. Considerazioni. Rifletti che qualche anno fa tu non esistevi. Anzi, il tuo essere era proprio il nulla. O anima mia, dove eri allora? Il mondo esisteva da tanto e di te proprio nulla. Dio ti ha fatto fiorire da quel nulla per renderti ciò che sei, non perché avessi bisogno di te, ma per sua esclusiva bontà. Rifletti sull'essere che Dio ti ha dato. È il primo nella scala degli esseri viventi, fatto per vivere nell'eternità e per unirsi perfettamente a Dio. Affetti e propositi. Umiliati profondamente davanti a Dio, dicendo di cuore con il salmista, Signore, davanti a te sono come nulla. Come hai fatto a ricordarti di me per crearmi? Anima mia, tu eri sprofondata in quell'abisso senza fondo e ci sareste ancora se Dio non ti avesse tirata fuori. E che faresti in quel nulla? Ringrazia Dio, Creatore buono e potente. Ti sono tanto riconoscente per avermi tirato fuori dal mio nulla, per avermi resa per tua bontà quella che sono. Che cosa posso fare per benedirti degnamente e rendere grazie alla tua immensa bontà? E ora vergognati. Mio Creatore, anziché unirmi a te in amore e in spirito di servizio, mi sono ribellata indegnamente con i miei affetti sregolati. Mi sono separata e allontanata da te per confondermi con il peccato. Non mi sono ricordata dell'onore di cui ti ero debitrice. Ho dimenticato che sei il mio Creatore. Umigliati davanti a Dio. Anima mia, devi sapere che il Signore è il tuo Dio. È Lui che ti ha creato. Non ti sei fatta da sola. Signore, sono opera delle tue mani. Per quanto, d'ora in poi, non voglio più compiacermi me stessa perché sono proprio nulla. Di che cosa vorresti gloriarti? Tu polvere e cenere, o meglio nulla? Di che ti esalti? Per umiliarmi voglio fare e questo e quello, sopportare quel disprezzo, quell'altro. Voglio cambiare vita a seguire il mio Creatore e sentirmi onorata per l'essere che Egli mi ha dato. Voglio impegnarlo totalmente nell'obbedire alla Sua volontà, nei modi che mi verranno indicati e sui quali mi illuminerà il mio Padre spirituale. Conclusione. Ringraziamento. Anima mia, benedici il tuo Dio e l'odino il suo nome e tutte le viscere, perché la Sua bontà mi ha attratto dal nulla e la Sua misericordia mi ha creato. Offerta. Signore, con tutto il cuore ti offro l'essere che mi hai dato, lo dedico e lo consacro a te. Preghiera. Signore, rendimi forte in questi affetti e in questi propositi. Vergine Santa, raccomandali alla misericordia di tuo Figlio, come pure tutte quelle persone per le quali devo pregare, eccetera. Padre nostro, un'Ave Maria, e uscendo dall'orazione, raccogli un po' qua e un po' là e scegliendo tra le considerazioni fatte, confeziona un mazzetto di devozione, così durante tutto l'arco della giornata potrai adorarne il profumo. Capitolo decimo. Seconda meditazione. Il fine per il quale siamo creati. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio. Pregalo che ti ispiri. Considerazioni. Dio non ti ha messo al mondo perché aveva bisogno di te. Tu non gli sei di alcuna utilità. Lo ha fatto soltanto per dimostrare in te la Sua bontà, arricchendoti della Sua grazia e della Sua gloria. Per questo ti ha dato l'intelligenza, per conoscerlo, la memoria per ricordarlo, la volontà per amarlo, l'immaginazione per rappresentarti i Suoi benefici, gli occhi per contemplare le Sue opere, la lingua per lodarlo e così tutte le altre facoltà. Poiché si è stata creata e messa al mondo per questo, tutte le azioni contrarie devono essere bandite ed evitate e quelle che non giovano al conseguimento di questo fine non devono essere nemmeno prese in considerazione perché vuote e inutili. Considera la sventura del mondo che non pensa a queste cose, ma vive come se fosse stato creato soltanto per costruire case, piantare alberi, accumulare ricchezze e fare pazzie. Affetti e propositi Umigliati e rimprovera alla tua anima la sua miseria che per il passato è stata così grande che ha pensato poco o punto a tutto ciò. Dirai, mio Dio, a che cose mi occupavo quando non pensavo a te? Che cosa ricordavo quando dimenticavo a te? Che cosa amavo quando non amavo a te? Avrei dovuto nutrirmi di verità e mi imbottivo di vuoto. Ero schiava del mondo anziché rendere lui schiavo di me. Detesta la vita passata. Rinuncia a voi pensieri vuoti e riflessioni inutili. Rinnego voi ricordi vergognosi e frivoli. Tronco voi amicizie infedeli e sleali, favori venali e interessati, soddisfazioni amare, false cortesie. Convertiti a Dio e tu, Dio mio Salvatore, d'ora in poi sarai il solo soggetto dei miei pensieri. Non occuperò più il mio spirito in pensieri che ti siano sgraditi. La memoria sarà occupata tutti i giorni della mia vita dalla grandezza della tua bontà che tanto benevola è stata verso di me. Sarai la delizia del mio cuore e la dolcezza dei miei affetti. D'ora in poi avrò in orrore quel rincorrersi di vanità, quei divertimenti a cui davo tanto tempo, quelle occupazioni oziose che svuotavano la mia giornata, quegli affetti che ottenebravano il mio cuore. A tal fine mi servirò di questo e quel rimedio. Conclusione Ringrazia Dio che ti ha creata per un fine nobile. Tu, o Signore, mi hai creata per te, perché io goda per tutta l'eternità dell'immensità della tua gloria. Riuscirò un giorno ad esserne degna e a benedirti come meriti? Offerta Mio caro Creatore, ti offro tutti i miei affetti e i miei propositi assieme alla mia anima e al mio cuore. Preghiera Ti supplico Dio di accettare le mie ispirazioni e i miei desideri e benedire con la tua benedizione la mia anima perché riesca ad attuarli per i meriti del sangue di tuo figlio versato sulla croce, eccetera. Capitolo undicesimo Terza meditazione I benefici di Dio Preparazione Mettiti alla presenza di Dio Pregalo di ispirarti Considerazioni Considera i doni corporali che Dio ti ha dato, il corpo, i mezzi per sostentarlo, la salute, le soddisfazioni legate a Lui, gli amici e i beni materiali. Considera tutto ciò che ha dato a te e mettilo a confronto con ciò che hanno altre persone, che valgono più di te e che non hanno quello che hai tu. Gli uni sono di debole costituzione, altri malfermi di salute, difettosi nelle membra, altri sono oggetto di insulti, di disprezzo e di disonore, altri ancora oppressi dalla povertà, e Dio non ha voluto fosse così. Considera i doni dello spirito Quanta gente c'è al mondo ebite, pazza, furiosa, mentecatta? Perché non sei anche tu di quelli? Dio ti ha favorito. Quanti altri hanno avuto scarsa possibilità di istruirsi o addirittura nessuna? Per te, invece, la provvidenza divina ha voluto un'educazione civile e onorata. Considera le grazie spirituali. Tu sei figlio della Chiesa, Filotea. Dio si è fatto conoscere a te fin dalla tua infanzia. Quante volte ti ha visitato con i sacramenti? E le ispirazioni? Le illuminazioni interiori? Le correzioni per richiamarti? E quante volte ti ha perdonato? E non ricordi quante volte ti ha liberato dalle occasioni in cui ti saresti perduta? E gli anni passati non sono stati forse un tempo prezioso che Dio ti ha offerto per camminare verso il bene della tua anima? Fermati a considerare anche i dettagli e vedrai quanto buono e generoso sia stato Dio con te. Affetti e propositi Ammira la bontà di Dio. Dio è veramente buono nei miei confronti. O Signore, quanto è ricco di misericordia e grande in bontà il tuo cuore. Anima mia, canta in eterno le innumerevoli grazie di cui ti ha colmata. Pensa ora alla tua ingratitudine. Chi sono io, Signore, perché ti ricordi di me? Come è grande la mia indegnità. Ho calpestato i tuoi benefici. Ho disonorato le tue grazie. Ho abusato della tua somma bontà e l'ho disprezzata. Ho contrapposto la voragine della mia ingratitudine all'abisso della tua grazia e del tuo favore. Muoviti a riconoscenza. Orsù, cuor mio, basta con l'infedeltà, l'ingratitudine e la slealtà verso questo grande benefattore. Non avverrà più che la mia anima rifiuti di essere sottomessa a Dio, che ha operato in me tante meraviglie e mi ha colmato di tanti doni. Filotea, sii decisa e sottrai il tuo corpo alle volutà. Mettilo al servizio di Dio, che ha operato cose stupende in suo favore. Impegna seriamente la tua anima a conoscerlo a fondo, per renderlo suo, con quegli esercizi propri, ad ottenere questo risultato. Impiega con cura i mezzi che la Chiesa ti offre, per la salvezza tua e per amare Dio. Sì, sono decisa a fare regolarmente orazione, a ricevere i sacramenti, ad ascoltare la tua santa parola. Metterò in pratica le sue ispirazioni e i suoi consigli. Conclusioni Ringrazia Dio che ti ha fatto conoscere i tuoi doveri e tutti i benefici da Lui ricevuti. Offregli il tuo cuore con tutti i buoni propositi. Pregalo che ti renda forte per tradurre in atto i propositi per i meriti della morte di suo figlio. Chiedi l'intercessione della Vergine e dei Santi, Padre Nostro, eccetera. Intreccia il mazzetto spirituale. Capitolo dodicesimo Quarta meditazione Il peccato Preparazione Mettiti alla presenza di Dio Pregalo di darti la sua ispirazione Considerazioni Pensa da quanto tempo hai incominciato a peccare E come da allora i peccati si siano moltiplicati in te Li hai accresciuti ogni giorno Mettendoti contro Dio Contro te stessa Contro il prossimo In opere, in parole In desideri e in pensieri Pensa alle tue cattive inclinazioni E a come le hai assecondate E soltanto meditando su questi due punti Dovrai constatare come le tue colpe Siano più numerose dei capelli che hai in testa O meglio ancora Dei granelli di sabbia della spiaggia Pensa poi in modo particolare Al peccato di ingratitudine verso Dio Peccato comune e presente in tutti gli altri E che li rende più gravi Guarda di quanti benefici Dio ti ha colmata E di tutti ne hai abusato contro il donatore E in modo hai disprezzato molte ispirazioni Hai lasciato cadere molti impulsi al bene Ma quello che è ancor peggio Dopo che hai ricevuto i sacramenti tante volte Dove sono i frutti? Dove sono finiti gli ornamenti di cui ti aveva abbellita lo sposo? Tutto è stato sepolto nella tua cattiveria Ti sei preparata seriamente a riceverli? Pensa a quanto sei ingrata e irresponsabile Dio ti insegue per salvarti E tu fuggi per perderti Affetti e propositi Arrossisci alla tua miseria, mio Dio Dove troverò il coraggio di comparire davanti a te? Io non sono che un bubone, purulento E una fogna di ingratitudine e di cattiveria Sembra impossibile che io abbia potuto essere così sleale Non ho saputo conservare integro uno solo dei miei sensi Una sola delle facoltà della mia anima Senza corromperla, violarla, insozzarla Non ho trascorso un sol giorno della mia esistenza Senza contaminarlo con affetti indecenti E mi pare questo il modo di contraccambiare i benefici del Creatore E il sangue del Redentore Chiedi perdono e gettati ai piedi del Signore Come un figlio al prodigo Come una maddalena Come una donna che ha contaminato il letto matrimoniale Con ogni sorta di adulterio Signore, pietà di questa peccatrice Sorgente viva di misericordia Abbi pietà di questa misera peccatrice Decidi di vivere meglio, Signore Con la tua grazia Non voglio mai più cedere al peccato L'ho amato già troppo Ora lo detesto E abbraccio te Padre di misericordia Voglio vivere e morire con te Per cancellare i peccati del passato Ne farò un'accusa coraggiosa E non tollererò Che uno solo rimanga in me Farò tutto il possibile Per sradicare dal mio cuore Le erbacce in modo particolare Le più dannose A tal fine Seguirò con impegno i consigli Che mi verranno dati E non ritorrò mai Di aver fatto abbastanza Per riparare le colpe del passato Conclusione Ringrazia Dio Che ti ha atteso pazientemente E ti ha dato questi buoni affetti E ti ha dato questi buoni affetti Offri il tuo cuore impegno Pregalo che ti fortifichi Eccetera Capitolo 13 Quinta meditazione La morte Preparazione Mettiti alla presenza di Dio Chiedigli l'aiuto della grazia Immagina di essere gravemente ammalata Sul letto di morte Senza speranza di cavartela Considerazioni Pensa a quanto sia incerto Il giorno della tua morte Anima mia Un giorno tu uscirai da questo corpo Quando? In inverno O in estate In città O in campagna Di giorno O di notte All'improvviso O con preavviso Sarà per malattia O per incidente Avrai tempo di confessarti Oppure no Avrai vicino il tuo confessore E il tuo padre spirituale Di tutto ciò Non ne sai proprio nulla L'unica cosa certa È che moriremo tutti E prima di quanto pensiamo Pensa che in quel momento Per quello che riguarda te Il mondo finirà Per te Sarà proprio finita Ai tuoi occhi Tutto si capovolgerà Sì Perché i piaceri Le vanità Le gioie del mondo Gli affetti inutili Ti sembreranno Fantasmi E nebbia Ti accorgerai allora Che sei stata sciocca Ad offendere Dio Per quelle insulsaggini E quelle chimere Vedrai che quando abbiamo lasciato Dio Lo abbiamo fatto per un nulla Per contro Tanti dolci e desiderabili Ti sembreranno La devozione E le opere buone Ma perché non ho percorso Quella via bella e piacevole In quel momento I tuoi peccati Che ti sembravano peccatucci Li vedrai ingigantiti Come montagne E la tua devozione Ti sembrerà piccola piccola Pensa agli addi senza fine E pieni di languore Che la tua anima darà Alle cose di questo basso mondo Addio alle ricchezze Alle vanità Alle compagnie melense Ai piaceri Ai passatempi Agli amici E ai vicini Ai genitori Ai figli Al marito Alla moglie Per farla breve A tutti E per chiudere Al tuo corpo Che dovrai abbandonare Sangue Smunto E maciato Schifoso E maledorante Pensa alla fretta Che avranno Di prendere il tuo corpo E nasconderlo Sotto terra Ciò fatto La gente Non penserà più O quasi a te Non se ne ricorderanno più Come del resto Tu hai fatto Per gli altri Dio lo abbia in pace Si dirà E amen Tu morte Fai seriamente pensare Sei impietosa Pensa che Una volta uscita dal corpo L'anima prende il suo posto O a destra O a sinistra Tu Dove andrai? Che strada prenderai? Non dimenticare Che sarà la stessa Nella quale Ti sei incamminata In questo mondo Affetti E risoluzioni Prega Dio E gettati Tra le sue braccia Signore In quel giorno Terribile Accoglimi Sotto La tua protezione Rendimi Quel momento Felice E favorevole A costo Di rendere Tutti gli altri Della mia vita Tristi E segnati Dalla sofferenza Disprezza il mondo Già che O mondo Non mi hai dato di conoscere L'ora in cui dovrò lasciarti Ho deciso di non legarmi a te Amici miei Cari colleghi Permettetevi di volervi bene Soltanto con un'amicizia santa Che possa durare eternamente Infatti Perché dovrei contrarre con voi Un legame che poi dovrà essere troncato? Voglio prepararmi a quell'ora E prendere le opportune precauzioni Per compiere felicemente quel passo Con tutte le mie facoltà Voglio mettere ordine Nella mia coscienza E porre fine A certe manchevolezze Conclusione Ringrazia Dio Dei propositi Che ti ha dato La forza di concepire Offrili alla sua maestà Pregalo spesso Che ti conceda una morte beata Per i meriti di quella del figlio Chiedi l'aiuto Della vergine E dei santi Un pater E un ave maria E componi Un mazzetto di mirra Capitolo quattordicesimo Sesta meditazione Il giudizio Preparazione Mettiti davanti a Dio Pregalo di ispirarti Considerazioni Dopo il tempo segnato da Dio Per la durata di questo mondo Preceduto da un gran numero Di segni e prodigi spaventosi Tali da raggelare gli uomini Per lo spavento e il terrore Verrà la fine Scenderà dal cielo Un diluvio di fuoco Che brucerà E ridurrà in cenere Tutta la faccia della terra Senza risparmiare nulla Di quanto vediamo su di essa Dopo questo diluvio Di fiamme E di terrificanti Fenomeni celesti Tutti gli uomini Non ancora risorti Riprenderanno Il loro corpo Dalla terra E alla voce Dell'arcangelo Si raduneranno Nella valle di Giosafat Ma con quale differenza? Gli uni Splenderanno In un corpo glorioso Gli altri Saranno orribili In un corpo Ripugnante Considera la maestà Con la quale apparirà Il Giudice Supremo Circondato dagli angeli E dai santi Preceduto dalla croce Segno di grazia Per i buoni E di castigo Per i cattivi Più splendente Del sole Quel Giudice Supremo Con un ordine Senza appello E che verrà subito Eseguito Separerà i buoni Dai cattivi Metterà i primi Alla sua destra Gli altri Alla sua sinistra E sarà una Separazione eterna Dopo la quale I due settori Mai più Si incontreranno Operata la separazione Ed ischiuse le coscienze Apparirà con chiarezza La perversità Dei cattivi E il loro disprezzo Per il Dio Dall'altra parte Si vedrà la penitenza Dei buoni E gli effetti prodotti In essi Dalla grazia di Dio Nulla rimarrà nascosto Mio Dio Quale confusione Per gli uni Quale consolazione Per gli altri Pensa all'ultima Condanna Dei cattivi Andate Maledetti Al fuoco eterno Preparato Per il diavolo E per i suoi compagni Pesa Queste parole Così gravi Andate Dice È la condanna All'abbandono eterno Di quei disgraziati Da parte di Dio Quei miserabili Saranno per sempre Privati Della contemplazione Del suo volto Li chiama maledetti Anima mia Quale maledizione Una maledizione totale Che include Tutti i mali Maledizione Senza appello E che abbraccia Tutta l'eternità Eterna eternità Dei supplizi Quanto devi essere terribile Considera poi La sentenza Per i buoni Venite Dice il giudice È la parola Consolante Di salvezza Per mezzo Dalla quale Dio ci attira a sé E ci pone Nel mondo Della sua bontà Benedetti Del padre mio O cara Benedizione Che tutte Le include Prendete Possesso Del regno Che è stato Preparato Per voi Fin dalla creazione Del mondo Quale Grande grazie Mio Dio Poiché Quel regno Non avrà mai Fine Affetti E propositi Trema Anima mia A questo pensiero Mio Dio Chi può darmi Sicurezza Per quel giorno In cui le fondamente Del cielo Tremeranno Per lo spavento Detesta Detesta i tuoi peccati I soli Che possono darti Motivo di terrore In quel giorno Spaventoso Voglio ora Giudicarmi da sola Per non esserlo In quel giorno Voglio esaminare La mia coscienza E condannarmi Accusarmi E correggermi Perché in quel giorno Non sia il giudice A condannarmi Mi confesserò Accetterò i consigli Opportuni Eccetera Conclusione Ringrazia Dio Che ti ha dato modo Di metterti al sicuro Per quel giorno E ti ha concesso tempo Per la penitenza Offri il tuo cuore E fai una seria penitenza Pregalo di farti la grazia Di portarla a compimento Come si deve Un pater E un ave Componi Un mazzetto spirituale Capitolo quindicesimo Settima meditazione L'inferno Preparazione Mettiti alla presenza Di Dio Umiliati E domanda La sua assistenza Immagina Una città Tenebrosa Affogata In un'atmosfera Di zolfo Infiammato E pece Enauseante In quello scenario Immagina Un brulichio Di cittadini Che non possono Uscirne Considerazioni I dannati All'inferno Sono come I prigionieri Senza scampo In quella città Disgraziata I loro sensi E tutte le loro membra Sono sottoposti A indicibili tormenti Infatti Hanno usato Le loro membra Con i loro sensi Per peccare Per questo Nei loro sensi E nelle loro membra Pagano la pena Dovuta al peccato Gli occhi Per gli sguardi Perversi E maliziosi Soffriranno L'orribile vista Dei diavoli E dell'inferno Le orecchie Che si sono compiaciute Dei discorsi licenziosi Udranno Per l'eternità Pianti Lamenti E grida Di disperazione E così Di seguito Oltre a questi tormenti C'è poi Quello che Tutti li supera Ed è la privazione E la perdita Della vista Di Dio Dalla quale Sono esclusi Per sempre Se a Salonne Trovava che La perdita Della vista Di suo padre Davide Era più dura Da sopportare Dell'esilio Quale tormento Sarà mai Essere privati Per sempre Dalla vista Del dolce Suave volto Di Dio Pensa soprattutto All'eternità Di queste pene Da sola Rende l'inferno Insopportabile Se una pulce In un orecchio O l'alterazione Di una febbriciatola Rendono una breve notte Così lunga E tormentosa Pensa a quanto Deve essere spaventosa La notte Dell'eternità Con tanti tormenti Da quell'eternità Nascono La più nera Isperazione Le bestemmie Una rabbia Senza fine Affetti E propositi Spaventa La tua anima Con le parole Di Isaia O anima mia Come potrai Vivere eternamente Con quelle fiamme Inestinguibili Dentro a quel fuoco Che divora Perché vuoi Abbandonare Per sempre Il tuo Dio Riconosci Di averlo meritato E molte volte Ora voglio Incamminarmi In senso contrario Perché dovrei Sprofondare In quell'abisto Farò dunque Ogni sforzo Per evitare Il peccato Sulla causa Possibile Di quella morte Eterna Ringrazia Offri Prega Capitolo Sedicesimo Ottava Meditazione Il Paradiso Considerazioni Immagina Una bella notte Serena Contempla Il cielo Costellato Di miriade Di stelle Diverse Una dall'altra Aggiungi A quella meraviglia La bellezza Di una magnifica Giornata In cui Lo splendore Del sole Non tolga La nitida vista Delle stelle Della luna E poi Di pure Tranquillamente Che tutte Quelle bellezze Sono nulla Confronto Del Paradiso È un luogo Desiderabile E amabile Come nessun altro Una città Senza confronti Pensa Alla nobiltà Alla bellezza E alla moltitudine Di cittadini Abitanti In quella città Felice Milioni Milioni Di angeli Di cherubini I serafini Il gruppo Degli apostoli I martiri I confessori Le vergini E le madri Di famiglia Sono innumerevoli Infine Pensa al bene sommo Di cui tutti insieme godono La vista di Dio Che li gratifica Per l'eternità Del suo sguardo Pieno d'amore Travolgendo il loro cuore In un abisso di piacere È un bene Senza pari L'essere uniti Al proprio principio Sono simili Ad uccelli Spenserati Che volano E cantano eternamente Nel cielo Della divinità Che li colma Di piaceri Inesprimibili Ciascuno Senza invidia Canta al suo meglio Le lodi Del creatore Sia tu benedetto Sia tu benedetto per sempre O dolce creatore Salvatore Perché sei buono E ci comunichi Con tanta generosità La tua gloria Gli rimando Dio benedici Con una benedizione eterna I suoi santi Siate benedetti Per sempre Mie care creature Che per avermi servito Con coraggio Mi loderete eternamente Con amore Affetti e propositi Ammira e loda La patria celeste Come sei bella Celeste Gerusalemme E beati Sono i tuoi abitanti Rimprovera il tuo cuore Per il poco coraggio Dimostrato Finora E per essersi Tanto allontanato Dal cammino Verso quella Dimora di gloria Perché mi sono tanto Allontanata dal mio sommo bene Miserabile che sono L'ho fatto soltanto Per piacere insulsi E leggeri Abbandonando delizie Mille volte migliori Come ho fatto Disprezzare i beni Tanto desiderabili Per desideri così meschini Che non meritavano Alcuna attenzione Desidera con forza Di giungere A quella beata dimora Mio buono E supremo signore Perché hai voluto Guidare Di nuovo I miei passi Sul cammino Che porta a te Ti prometto Che mai più Tornerò indietro Camminiamo Cara anima mia Camminiamo Verso quella Pace infinita Camminiamo Verso quella Terra benedetta A noi promessa Che ci facciamo Qui in Egitto Mi terrò Lontano da tutto ciò Che potrebbe Distogliarmi Da questo cammino O ritardarlo Farò invece Tutto quello Che mi può favorire Nell'incamminarmi in esso Ringrazia Offri Prega Capitolo Diciassettesimo Nona Meditazione Elezione E scelta del paradiso Preparazione Mettiti alla presenza Di Dio Umiliati davanti a Lui E pregalo Che ti ispiri Considerazioni Immagina di essere In aperta campagna Sola con il tuo angelo Come il giovane Tobia Sulla via di Rage Immagina che l'angelo Ti inviti Alla contemplazione Del paradiso Spalancato in alto Davanti a te Tu vi scorgi Tutte le cose belle Sulle quali abbiamo Già meditato In basso poi Ti fa vedere La voragine Dell'inferno Anch'essa spalancata Davanti a te Con tutti i tormenti Che ti ho descritto Quando ti ho guidato Alla meditazione Dell'inferno Dopo aver immaginato Questa doppia visione Mettiti in ginocchio Davanti al tuo angelo Pensa a quanto sia vero Che tu ti trovi Tra il paradiso All'inferno Come pure è vero Che l'uno e l'altro Sono spalancati Per riceverti Secondo la scelta Che tu farai Pensa che la scelta Che farai Dell'uno o dell'altro In questo mondo Durerà eternamente Nell'altro Pensa che pur essendo Entrambi spalancati Per accoglierti Secondo la tua scelta E la sensazione Della giustizia di Dio O della sua misericordia Tuttavia Dio desidera Con un desiderio Senza pari Che tu scelga Il paradiso E l'angelo Ti fa pressione Nello stesso senso E ti offre Da parte di Dio Mille grazie E mille aiuti Per salire Cristo Gesù Dall'alto del cielo Ti guarda con amore E ti invita Con dolcezza Vieni Anima diletta A riposarti Eternamente Tra le braccia Della mia bontà Che ti ha preparato Delizie immortali Nel suo amore Generoso per te Contempla Con gli occhi Dell'anima Alla vergine santa Che ti invita Con amore Di madre Coraggio Figlia mia Non ignorare I desideri Del mio Gesù E le preghiere Che gli rivolgo Per te Perché voglio Con lui La tua salvezza Eterna Da uno sguardo Ai santi Che ti incoraggiano E un altro Milione di animi Che ti invita Con dolcezza E vuole Soltanto vederti Un giorno Unita a loro Nella loda eterna Di Dio E ti garantiscono Che il cammino Verso il cielo Non è poi Così difficile Come vuol far credere Il mondo Coraggio Ti dicono Amica cara Chi valuta bene Il cammino Della devozione Per il quale Siamo saliti Scoprirà Che siamo giunti A queste delizie Attraverso Altre delizie Infinitamente più dolci Di quelle del mondo Scelta Oh inferno Io ti detesto Per sempre Detesto i tuoi supplizi I tuoi tormenti Detesto la tua eternità Di maledizione Di infelicità Soprattutto odio Le tue eterne Precazioni E bestemmie Che scagli Contro il mio Dio Rivolgo il cuore E l'anima Dalla tua parte Oh beato paradiso Gloria eterna Felicità senza fine E leggo per sempre Irrevocabilmente La mia dimora Nelle tue belle case E nei tuoi santi E desiderabili Tabernacoli Mio Dio Benedico la tua misericordia Ed accetto L'offerta Che me ne fai Gesù Salvatore Accetto Il tuo amore Eterno Avallo L'acquisto Del posto Che tu hai fatto Per me In quella Beata Gerusalemme Solo per amarti E benedirti E benedirti Per sempre Accetti i favori Che la Vergine E i Santi Ti offrono Prometti loro Di seguirli Nello stesso cammino Tendi la mano Al tuo angelo Perché ti guidi Incoraggia la tua anima A questa scelta Capitolo diciottesimo Decima meditazione L'elezione E la scelta Della vita devota Preparazione Mettiti Alla presenza Di Dio Abbassati Davanti a Lui Domanda Il suo aiuto Considerazioni Immagina Di nuovo Di trovarti In aperta campagna Sola Con il tuo angelo A sinistra C'è il diavolo Assiso Su un grande trono Altissimo Con tanti diavoli Vicino Intorno Un'immensa Moltitudine Di mondani Che lo riconoscono Padrone Signore E gli rendono omaggio Chi peccando In un modo Chi in un altro Esamina Il contegno Di tutti i disgraziati Cortigiani Di Correda Bominio Alcuni Sono furiosi Per l'odio L'invidia La collera Altri Si uccidono Tra loro Altri Smunti Tesi E ansiosi Accumulano ricchezze Altri Poi sono presi Dalla vanità Senza provare Un solo piacere Che non sia Vuoto e sciocco Altri Ancora Abbruttiti Smarriti Corrotti Nelle loro passioni animalesche Guarda come tutti Sono senza pace Disordinati E senza ritegno Guarda come si disprezza Una vicenda Al massimo Trovi un'ipocrita Parvenza D'amore A destra C'è Gesù Cristo Crucifisso Che con un amore Cordiale Prega per quegli Infelici Dominati dal diavolo Perché si librano Da quella tirannide E li chiama a sé Intorno a lui Vedi una grande Moltitudine Devoti Con i loro angeli Ammira la bellezza Di questo regno Della devozione E' meraviglioso Vedere la schiera Delle vergini Uomini e donne Bianca più dei gigli La schiera Delle vedove Spiranti Immortificazioni E umiltà Guarda la schiera Degli sposi Che vivono insieme Con grandi dolcezze E rispetto reciproco Segno di un grande amore Guarda come quelle anime Devote Sanno unire la cura Della casa terrena Con quella del cielo L'amore del marito Con quello di Cristo Volgi lo sguardo intorno E vedrai tutti Con un contegno santo Mite Amabile Mentre ascoltano Nostro Signore Tutti vorrebbero Poterlo mettere Al centro del loro cuore Si rallegrano Ma di una gioia serena Piena di amore E controllata Si vogliono bene Tra loro Ma di un amore Bello e pulito Coloro che sono afflitti Tra quel popolo eletto Non si tormentano Più di tanto E non perdono Il contegno Noterai gli occhi Del Salvatore Che li consola E tutti vogliono Stargli vicino Tu hai già Abbandonato Satra Con la sua Disgraziata compagnia Lo hai fatto Con i tuoi santi effetti Tuttavia Non sei ancora Giunta presso Il re Gesù E non sei ancora Unita alla felice Santa compagnia Dei devoti Anzi Sei sempre rimasta A mezza strada La Vergine Santa Con San Giuseppe San Luigi Santa Monica E centomila altri Che si trovano Nella schiera Di coloro Che sono vissuti Nel mondo Ti invitano E ti incoraggiano Il re crocifisso Ti chiama per nome Vieni O amata Vieni Perché io Posso incoronarti Scelta O mondo Gente abominevole Non mi vedrai Mai più dietro Ai tuoi vessilli Ho detto Addio per sempre Alle tue pazzie Alle tue vanità Re dell'orgoglio Dell'infelicità Spirito D'inferno Io rinuncio a te E a tutte le tue invenzioni Ti odio E con te Tutte le tue opere Mi converto a te Dolce Gesù Re della felicità E della gloria Che non muore Ti abbraccio Con tutte le forze Della mia anima Ti adoro Con tutto il cuore Ti scelgo Ora e per sempre A mio re E ti prometto Fedeltà Senza pentimenti Prometto obbedienza Alle tue sante leggi Voglio ascoltare I tuoi consigli O Vergine Santa Mia cara padrona Ti prendo per guida Mi metto sotto La tua bandiera Ti prometto Un particolare rispetto E una riverenza Tutta speciale Mio Santo Angelo Presentami A quella santa assemblea Non lasciarmi Finché non mi sia unita Quella beata brigata Assieme alla quale dico E dirò sempre A prova della scelta operata Viva Gesù Viva Gesù Capitolo diciannovesimo Come fare la confessione generale Ecco dunque Cara Filotea Le meditazioni Che fanno al caso nostro Una volta che le hai Profondamente meditate In spirito di umiltà Va coraggiosamente A fare la tua confessione generale Ti prego di non angosciarti Per alcun motivo Lo scorpione è velenoso Quando ci punge Ma ridotto in olio È un efficace rimedio Contro le sue punture Il peccato è riprovevole Quando lo commettiamo Ma una volta trasformato In confessione e penitenza È pegno di onore E di salvezza La contrizione E la confessione Sono cose così belle E così profumate Che cancellano la bruttezza Distruggono il lezzo Del peccato Simone Il lebroso Diceva che Maddalena Era peccatrice Ma nostro signore Dice di no E parla soltanto Del profumo Che spande E del suo grande amore Se noi siamo molto umili O Filotea Il peccato ci darà Un grande dispiacere Perché offende Dio Ma l'accusa del nostro peccato Divrò dolce e piacevole Perché onora Dio Quando diciamo al medico Il male che ci tormenta Proviamo già un certo sollievo Quando sarai davanti A padre spirituale Immagina di essere sul calvario Ai piedi di Gesù Cristo Crucifisso Il cui sangue Grondando da tutte le parti Ti lava Dalle iniquità Infatti Anche se non si tratta Fisicamente Del sangue Del salvatore E' sempre il merito Di quel sangue Versato Che continua a scorrere Abbondantemente Sui penitenti Che si trovano Attorno al confessionale Apri bene il cuore Per farne uscire Peccati Destinati alla confessione A misura che usciranno Entrerà il merito prezioso Della passione di Cristo Per riempirlo di benedizioni Esponi tutto bene Con semplicità e naturalezza Almeno per questa volta Fa contenta La tua coscienza Dopo Ascolta la correzione E consigli del servitore di Dio E di nel tuo cuore Parla Signore Che il tuo servo ti ascolta Sì Filotea Ed io Che tu ascolti Perché ha detto Ai suoi rappresentanti Chi ascolta voi Ascolta me Dopo Prendi in mano La promessa Che ho scritto per te E che trovi Nel capitolo seguente Serve di conclusione Al tuo atto di contrizione Prima Devi meditarla Leggila Con attenzione E con tutta La partecipazione Che ti sarà possibile Capitolo ventesimo Promessa per imprimere Nell'anima Il proposito di servire Dio A conclusione Degli atti di penitenza Io Sottoscritta Prostrata davanti a Dio E a tutta la corte celeste Dopo aver considerato L'immensa misericordia Della divina bontana I confronti di me Indegna E insignificante creatura Che egli ha tratto dal nulla Conservata Nutrita E liberata da tanti pericoli E colmata di tanti benefici Ma soprattutto Dopo aver considerato La dolcezza E la clemenza superiore A quanto si può pensare In virtù della quale Tanto benignamente Mi ha sopportata Nelle mie iniquità Ispirandomi molto spesso Con amore E evitandomi A correggermi Considerando Che mi ha atteso Tanto pazientemente Perché facessi penitenza Fino all'età Che oggi ho E questo Nonostante Le mie ingratitudini Le slealtà E le infedeltà Con le quali Ho differito La conversione Disprezzando Le sue grazie E per di più Sfacetamente Offendendolo Dopo aver preso In considerazione Anche il fatto Che nel giorno Del battesimo Sono stata consacrata E donata a Dio Per essere Sua figlia E che Contrariamente La promessa Fatta allora In mio nome Ho molte volte Agendo da disgraziata E in modo Riprovevole Profanato E violato Il mio spirito Usandolo Contro la maestà divina Essendo ritornata Finalmente In me stessa Prostrata Con il cuore E con lo spirito Davanti al trono Della giustizia divina Riconosco Ammetto E confesso Di meritare Di essere accusata E convinta Del crimine Di lesa maestà divina In quanto Colpevole Della morte E passione Di Gesù Cristo Ucciso dai peccati Da me commessi Infatti Per loro Causa è morto Dopo aver sofferto I tormenti Della croce Per questo Riconosco Di essere degna Di venire condannata Alla perdizione eterna Ma oso Rivolgermi Al trono Dell'infinita misericordia Del medesimo Dio Detesto Con tutto il cuore E con tutte le forze L'iniquità Della mia vita Passata Domando E impetro Umilmente Grazie E perdono E per questo Ti chiedo Una totale Soluzione Dei miei crimini In forza Della morte Passione Di quel medesimo Signore Redentore Dell'anima mia Fidando Su quella Quale unica Speranza Per mia salvezza Ripeto Nuovamente Rinnovo La promessa Di fedeltà Fatta in mio nome A Dio In occasione In occasione Del battesimo Rinuncio Al demonio Al mondo E alla carne Detesto Le loro malefiche Suggestioni Le vanità E desideri insani Per tutta la vita Che mi resta Per l'eternità Voglio convertirmi A Dio Buono E pietoso Desidero Propongo Scelgo E decido Irrevocabilmente Di servirlo E amarlo Adesso E per l'eternità A tal fine Gli affido Gli dedico E gli consacro Il mio spirito Con tutte le facoltà La mia anima Con tutte le sue potenze Il mio cuore Con tutti i suoi affetti Il mio corpo Con tutti i suoi sensi Protesto Di non voler più In alcun modo Abusare di nessuna parte Del mio essere Contro la sua divina volontà E la sua maestà sovrana A lei Mi sacrifico E mi molo In spirito Per essere Per sempre Nei suoi confronti Una creatura leale Obbediente E fedele Senza più volermi Ricredere o pentire Ma se per suggestione Del nemico Qualche umana Infermità Dovesse capitarmi Di venire meno In qualche cosa A questa mia promessa E a questa consacrazione Fin d'ora Protesto E mi propongo Con l'aiuto Della grazia Dello spirito santo Di rialzarmi Immediatamente Appena ne avrò coscienza Di rivolgermi di nuovo Alla misericordia divina Senza attendere Un solo istante Questa è la mia volontà La mia intenzione E la mia decisione Irremovibile Di cui ho piena coscienza La confermo Senza riserve Occezioni Davanti a Dio E alla Chiesa Trionfante Alla Chiesa Militante Di mia madre Che riceve Questa mia dichiarazione Nella persona Di colui Che come ministro Mi ascolta In questo atto Ti piaccia O eterno Dio Onnipotente E buono Padre Figlio E Spirito Santo Confermare in me Questo proposito E accettare E gradire il dono Che ti faccio In questo momento Con tutto il cuore Dal profondo Di me stessa Come mi hai dato Ispirazione E volontà Per offrirtelo Dammi anche grazie E forza Per non mancare Di parola O Signore Tu sei il mio Dio Il Dio Del mio cuore Il Dio Della mia anima Il Dio Del mio spirito Come tale Ti riconosco E ti adoro Per tutta L'eternità Viva Gesù Capitolo Ventunesimo Conclusione Della prima Purificazione Fatta la promessa Rimani molto Attenta E apri bene il cuore Per ascoltare Con tutta l'anima Le parole di assoluzione Che il Salvatore Della tua anima Assiso Sul trono Della misericordia Pronuncerà lassù In cielo Davanti agli angeli E ai santi Nello stesso istante In cui In suo nome Il sacerdote Ti assolverà Quaggiù In terra La schiera Deviati Gioisce Per la tua Felicità E canta Il cantico Spirituale Di una gioia Che non ha Confronti Tutti ti accolgono E abbracciano Il tuo cuore Che ha ritrovato La grazia E la santità È un ottimo Contratto Filotea Tu doni Ora te stessa Alla maestà Di Dio E ottieni in cambio Che egli si doni A te Per l'eternità Non ti resta più Che prendere la penna E apporre la firma All'atto della tua promessa Dopodiché Ti recherai All'altare Così anche Dio Firmerà E apporrà Il suo sigillo A conferma Della soluzione E ti prometterà Il paradiso Per mezzo Del sacramento Anzi Sarà lui stesso Sigillo Di garanzia Sul tuo cuore nuovo Così la tua anima Sarà libera Dal peccato E da tutti gli affetti Al peccato Ma siccome Questi affetti Rispuntano facilmente Nell'anima A causa Della nostra Infermità E della nostra Concupiscenza Che può essere Mortificata Ma non eliminata Finché vivremo Su questa terra Io ti darò Dei consigli Se li segui Ti terrai lontana Dal peccato mortale E dai suoi affetti Cosimai Più il peccato Avrà posto Nel tuo cuore Visto poi Che gli stessi consigli Sono utili anche Per una purificazione Più radicale Prima di darteli Voglio spendere Qualche parola Per chiarirti Che cosa intendo Per purezza totale Che è quella Alla quale Desidero guidarti Capitolo Ventiduesimo Bisogna liberarsi Dall'affetto Al peccato Veniale A misura Che il giorno Cresce Scopriamo meglio Nello specchio Le macchie E le impurità Del nostro volto Così A misura Che la luce Interiore Dello Spirito Santo Illumina le nostre Coscienze Distinguiamo Distinguiamo con maggiore Chiarezza I peccati Le tendenze E le imperfezioni Che possono impedirci Di raggiungere La vera devozione La stessa luce Che ci fa notare Queste tare E questa zavorra Ci anima al desiderio Di mondarcene E di liberarcene Scoprirai dunque Cara Filotea Che oltre al peccato mortale E agli affetti Al peccato mortale Di cui ti sei già liberata Con gli esercizi Sopraindicati Nell'anima Tu conservi ancora Molte tendenze E affetti Ai peccati veniali Non dico Che scoprirai Dei peccati veniali Ma degli affetti E delle tendenze Ad essi Ora sono Due cose Ben diverse Non saremo Mai liberi Completamente Dai peccati veniali Almeno Per un lungo tempo Ma possiamo Benissimo Non avere affetto Ai peccati veniali Infatti È ben diverso Dire una frottola Una volta o due In allegria In cosa Di poco importanza Dal trovare gusto A mentire Ed essere incalliti In quel genere Di mancanza Dico che bisogna Liberare La propria anima Da tutti gli affetti Ai peccati veniali Ossia Non bisogna In alcun modo Incoraggiare Deliberatamente La volontà A rimanere Nel peccato veniale Sarebbe una debolezza Troppo grande Conservare Consapevolmente Nella nostra coscienza Un proposito Che dispiace a Dio Quale è la volontà Di voler fare Cosa lui Non gradita Il peccato veniale Per piccolo che sia Dispiace a Dio Anche se non in misura Da volere Per questo Dannarci O perderci Se il peccato veniale Gli dispiace La volontà E l'affetto Ad esso Sono un chiaro proposito Di voler dispiacere Alla maestà divina E com'è possibile Che un'anima Per bene Non soltanto Voglia dispiacere A Dio Ma sia attaccata Al desiderio Di dispiacergli Questi affetti Filotea Sono direttamente Contrari Alla devozione Come gli affetti Al peccato mortale Lo sono Alla carità Indeboliscono Le forze Dello spirito Impediscono Le consolazioni Divine Aprono la porta Alle tentazioni Se è vero Che non uccidono L'anima La rendono Però gravemente Inferma Le mosche morenti Dice il saggio Rovinano E corrompono Il pregio Dell'unguento Con ciò Vuol dire Che le mosche Le quali Non si fermano Che pochissimo Sul lunguento E ne succhiano Solo passando Rovinano Solo quello Che prendono E lasciano Il resto intatto Ma quando Vi cadono Dentro morte Gli tolgono Il pregio E nessuno Più lo vuole Allo stesso modo I peccati veniali Che capitano In un'anima Devota Senza soffermarsi Per molto tempo Non le recano Un danno Molto grave Ma se Quei peccati Rimangono Nell'anima A causa Dell'affetto Che c'è in noi Per essi Questi Le fanno perdere Senz'altro Il pregio Dell'unguento Ossia La santa devozione I ragni Non uccidono Le api Ma ne contaminano E ne corrompono Il miele E le ostacolano Con le loro ragnatele Di modo che Le api Non possono più Lavorare Questo Quando tessono Ragnatele Per fermarsi Così Il peccato Veniale Non uccide L'anima Ma corrompe La devozione E intralcia Talmente Le potenze Dell'anima Con le cattive Abitudini E tendenze Che essa Non riesce più Ad attuare La prontezza Della carità Nella quale Consiste La devozione Questo avviene Quando il peccato Veniale Alberga Nella nostra Coscienza Per l'affetto Che li portiamo Dire qualche Bugia È cosa da nulla Come pure Dire qualche Parola Fuoriposto Superare Un po' I giusti Limiti Nell'agire Negli sguardi Negli abiti Nelle battute Negli scherzi Nei balli Purché Appena Presa Coscienza Di questi Ragni Spirituali Li respingiamo E li buttiamo fuori Come fanno le api Con i ragni veri Ma Se permettiamo Loro di fermarsi Nei nostri cuori E per di più Ci affezioniamo E trattenerli E moltiplicarli Presto Troveremo Che il nostro miele È andato perduto E l'alveare Della nostra coscienza Contaminato E disfatto Ma Ripeto ancora Una volta Che senso Ha Che un'anima Generosa Trovi gusto Di spiacere a Dio Si affezioni Ad essergli Sgradita E voglia Quello che sa bene Che Dio non vuole Capitolo Ventitresimo Bisogna liberarsi Dall'affetto Alle cose inutili E pericolose I giochi I balli I banchetti Le feste Gli spettacoli In sé Non sono cose Cattive Ma indifferenti E possono essere Vissuti in bene O in male Sono tuttavia Sempre pericolose E ancor più pericoloso È attaccarsi ad esse Anche se è permesso Giocare Danzare Anghindarsi Assistere a spettacoli Onesti Fare banchetti Esserci attaccati È contrario Alla devozione E può nuocere E costituire pericolo Il male Non è farli Ma affezionarsi È da insensati Seminare nella terra Del nostro cuore Affetti Così vuoti E insulsi Occupano lo spazio Destinato Ai buoni sentimenti E impediscono Che la linfa Della nostra anima Nutra buone tendenze Gli antichi nazirei Non solo Si astenevano dal vino E da tutto ciò Che poteva ubriacarli Ma anche dall'uva Sia matura Che acerba Non perché l'uva Magari acerba Ubriachi Ma perché c'era pericolo Che mangiando uva acerba Venisse la voglia Di mangiarne di matura E mangiandone poi di matura Nascesse il desiderio Di assaggiare il mosto E bere il vino Non dico Che non dobbiamo fare Uso di queste cose Pericolose Ma insisto Che non dobbiamo Impegnarvi l'affetto Se non vogliamo Rovinare la devozione I cervi Che hanno messo Su troppo grasso Si ritirano in disparte E si nascondono Nei cespugli Sapendo che Se per caso Dovessero Essere attaccati Il grasso Non permetterebbe Loro di correre Agilmente Il cuore dell'uomo Quando si carica Di affetti inutili Superflui O pericolosi Non riesce più A correre Con prontezza Agilità E facilità Dietro al suo Dio Che è il centro Della devozione Ai bambini Piacciono farfalle E le inseguono Nessuno trova Da ridire Perché sono bambini Ma vedere Uomini maturi Attaccarsi A simili cose E correre Dietro a tali Bagatelle Sarebbe davvero Uno spettacolo Non solo ridicolo Ma penoso Lo stesso Si deve dire Di quelle cose Che ho detto sopra Perché Non soltanto Sono inutili Ma Inseguendole Rischiamo di diventare Degli originali Ed è disordinati Ecco perché Cara Filotea Ti dico che Bisogna liberarsi Da quegli affetti E ti ripeto che Se anche Le relative azioni Non sono sempre Contrari Alla devozione Di sicuro Gli affetti A tali azioni Le recano Sempre danno Capitolo Ventiquattresimo Occorre Liberarsi Dalle cattive Inclinazioni Ci sono poi In noi Altre tendenze Naturali Le quali Visto Che non hanno origine Dai nostri peccati Personali E non sono Nemmeno Veri e propri Peccati Né mortali Né veniali Noi le chiamiamo Imperfezioni E i loro atti Difetti O mancanze San Paola Per esempio Stando al racconto Di San Girolamo Era fortemente Portata Alla tristezza E ai rimpianti Tanto che In occasione Della morte Dei figli E del marito Corse il pericolo Di morire Di dolore Quella era Un'imperfezione Non un peccato Già che era Contro il suo gusto E la sua volontà Alcuni Sono per natura Loro di spirito Leggero Altri burberi Altri ancora Incapaci Di ascoltare Alcuni Sono portati Ad ingignarsi Di tutto Altri a montare In collera Altri ad innamorarsi Se guardiamo bene Troviamo pochissima gente Che non abbia Qualche imperfezione Ora Benché siano Spontanei E naturali Si riesce Con cura E attenzione A correggerle O almeno A temperarle E qualche volta Addirittura Anche a correggerle E ad eliminarle Totalmente Filotea Io ti dico Allora Che devi farlo Se si è trovato Il modo Di trasformare Le mandorle Amare I mandorle Dolci Semplicemente Facendo un'incisione Alla base Per farne uscire Il succo Perché dovrebbe Essere impossibile Far uscire Da noi Le tendenze Perverse Per diventare Migliori Non c'è temperamento Al mondo Che per buono Che sia Non possa essere Reso cattivo Dalle cattive Abitudini Al contrario Non esiste Temperamento Così perverso Che Con la grazia Di Dio In primo luogo E poi Con lo sforzo E l'impegno Non possa essere Corretto E migliorato Per questo Ora Ti darò Dei consigli E ti proporrò Esercizi Attraverso i quali Potrai liberare La tua anima Dagli affetti Pericolosi Dalle imperfezioni E da tutti Gli affetti Ai peccati Veniali In tal modo Renderai Sempre più forte La tua coscienza Contro il peccato Mortale Dio faccia La grazia Di praticarli Bene Seconda parte Conte Contiene consigli Per elevazione Dell'anima Dio Per mezzo Dell'orazione E dei sacramenti Capitolo primo Necessità Dell'orazione Poiché L'orazione Illumina L'intelletto Con la chiarezza Della luce Di Dio E scalda Il cuore Al calore Dell'amore celeste Nulla L'eguaglia Nel purificare L'intelletto Dall'ignoranza E il cuore Dagli affetti Disordinati È un'acqua Di benedizione Che fa Rinverdire E rifiorire Le piante Dei nostri Buoni desideri Monda le anime Dalle imperfezioni E attenua Nei cuori L'ardore Delle passioni Ma più Di ogni altra Ti consiglio L'orazione Mentale Che impegna Il cuore A meditare Sulla vita E la passione Di nostro Signore Se lo contempli Spesso Nella meditazione Il cuore E l'anima Ti si riempiranno Di lui Se consideri Il suo modo Di agire Prenderai Le sue azioni A modello Delle tue È lui La luce Del mondo E dunque In lui Da lui E per mezzo Di lui Che possiamo Essere illuminati E trovare La chiarezza È l'albero Del desiderio All'ombra Del quale Dobbiamo Rinfrescarci È la fontana Viva In Giacobbe Che lava Tutte le nostre Iniquità I bambini A forza Di ascoltare Le mamme E balbettare Dietro loro Imparano La loro lingua Avverrà lo stesso Per noi Se ci daremo Vicino a Salvatore Con la meditazione Osservando Le sue parole Le sue azioni E i suoi affetti Impareremo Con il suo aiuto A parlare Agire E volere Come lui Fermiamoci qui O Filotea E credimi Non possiamo Raggiungere il padre Che passando Per questa porta Come il vetro Di uno specchio Non potrebbe Chiudere la nostra Visuale Se dietro Non fosse Ricoperto Di stagno O di piombo Allo stesso modo La divinità Non potrebbe essere Da noi Contemplata In questo mondo Se non si fosse Unita Alla sacra umanità Del Salvatore La cui vita E morte Costituisce Il soggetto Più adatto Piacevole Dolce E utile Che ci sia dato Per la meditazione Ordinaria Non per nulla Il Salvatore Si chiama Il pane Disceso dal cielo Come il pane Può essere mangiato Con ogni sorta Di vivande Così Il Salvatore Può essere Meditato Considerato E cercato In tutte le nostre Orazioni E azioni Molti autori Hanno utilmente Suddiviso La vita E la morte Di nostro Signore In molti punti Per favorirne La meditazione Ogni giorno Consacra All'orazione Un'ora Prima del pranzo Perché lo spirito Sarà più libero E più fresco Per il riposo Della notte Mai più di un'ora Se non per Espresso consiglio Del tuo padre Spirituale Se ti è possibile Compi questo esercizio In chiesa Vi troverai Comodità E discreta Tranquillità Perché qui vi Nel padre Nella madre Nella moglie Nel marito Né qualunque altro Può impedirti Di rimanere in pace Per un'ora Mentre a casa Con tutti gli impegni Sarebbe problematico Trovare modo Di essere lasciati In pace Per un'ora Inizia ogni orazione Sia mentale Che vocale Mettendoti alla presenza Di Dio Mantienti fedele A questo principio Senza eccezioni E in breve Ti accorgerai Del profitto Che te ne viene Se mi ascolti Dirai il padre nostro L'ave Maria E il credo In latino Ma imparerai Nella tua lingua Il significato Delle parole Che dici Affinché E pur dicendole Nel linguaggio Comune Della chiesa Tu sia in grado Di assaporare Il senso Meraviglioso E delizioso Di queste preghiere Che devono essere dette Concentrando profondamente La mente Sul loro significato Provocando reazioni Nei tuoi affetti Non andare in fretta Per dirne molte Ma studiati Piuttosto Di dire Quelle che dici Con il cuore Un solo padre nostro Detto consentimento Vale più di molti Recitati in fretta Di corsa Dire rosario È un modo Molto utile Di pregare Perché tu sappia dirlo Per questo Devi avere Qualche libretto Che te lo insegni È cosa buona Dire anche Le litanie Del Signore Della Madonna Dei Santi E tutte le altre preghiere Che puoi trovare Nei manuali approvati E nel libro Delle ore Ma a un patto Se hai il dono Dell'orazione mentale Conservale Il primo posto E ricordati Che se dopo Quella O a causa Degli affari O per altri motivi Non puoi fare Preghiere vocali Non devi Preoccupartene Accontentati Di dire Prima e dopo La meditazione Il Padre nostro L'Ave Maria E il Credo Se mentre sei impegnata Nell'orazione vocale Senti il cuore Attirato All'orazione interiore O mentale Non resistere Lascia dolcemente Scivolare il tuo spirito E non darti pensiero Perché non hai finito Le orazioni vocali Che ti eri proposta L'orazione mentale Compiuta Al loro posto È più gradita a Dio È più utile Alla tua anima Faccio eccezione Per l'ufficio divino Se sei tenuto a dirlo In tal caso Si tratta di un dovere Da compiere Se ti dovesse capitare Di trascorrere Tutta la mattinata Senza fare orazione mentale A causa degli affari O di qualche altro motivo Però fai il possibile Perché questo Non capiti mai Rimedi al pomeriggio Possibilmente Lontano dai pasti Perché se dovessi fare Orazione in piena digestione Finiresti per assopirti E oltretutto Recaresti anche danno La salute Che se poi Non riesci a fare orazione Nemmeno nel corso Di tutta la giornata Rimedi al vuoto Moltiplicando Le orazioni giaculatorie Leggendo qualche passo Di un libro Di devozione Facendo qualche penitenza Che elimini il difetto E prendi una ferma risoluzione Di rimetterti Incareggiata Il giorno dopo Capitolo secondo Breve metodo Di meditazione E in primo luogo La presenza di Dio Primo punto Della preparazione È possibile Filotea Che tu non sappia Come va condotta L'orazione mentale Ai giorni nostri Pochi lo sanno Ed è un male È per questo Che brevemente E con semplici parole Ti espongo un metodo In attesa che tu Leggendo libri Sull'argomento E soprattutto Con la pratica Ne raggiunga Una conoscenza Più profonda E completa Inizio dalla preparazione Che costa Di due momenti Primo Mettersi alla presenza Di Dio Secondo Invocarne L'assistenza Per metterti Alla presenza di Dio Ti propongo Quattro vie Che all'inizio Possono esserti utili La prima È una viva E attenta presa Di coscienza Della onnipresenza Di Dio Dio è in tutto Ed è per tutto E non c'è luogo O cosa In questo mondo Che non manifesti La sua presenza Noi siamo simili Agli uccelli Che sono circondati Dall'aria Ovunque indirizzino Il loro volo Ovunque andiamo O ci fermiamo Dio ci è presente Tutti sanno Questa verità Ma non tutti Sono attenti A prenderne coscienza I ciechi Pur non vedendo Il principe Al cui cospetto Si trovano Non per questo Non tengono Un contegno rispettoso Se sono avvertiti Tale presenza Però Non vedendolo Dimenticano facilmente La sua presenza Di conseguenza Ancor più facilmente Dimenticano Il contegno Rispettoso Noi Siamo così Filotea Pur sapendo Che Dio È presente Non lo vediamo È la fede Che ci ricorda La sua presenza Non vedendolo Materialmente E con gli occhi Ce ne dimentichiamo Molto spesso E ci comportiamo Come se Dio Fosse molto lontano Sappiamo bene Che è presente In tutte le cose Ma non ci pensiamo Ed è quindi Come se non lo sapessimo Tornando alla preghiera Devi dire al tuo cuore Con tutto te stesso Cuor mio Dio è proprio qui La seconda via Per mettersi Alla presenza di Dio È pensare Che non soltanto Dio è presente Nel luogo In cui ti trovi Ma in modo particolare È presente Nel tuo cuore E nel profondo Del tuo spirito Ai quali dà vita e forza Quale cuore Del tuo cuore È spirito Del tuo spirito Come l'anima Infatti È diffusa In tutto il corpo È presente In ogni parte di esso E tuttavia Ha nel cuore La sua sede privilegiata Similmente Dio Pur essendo presente Dappertutto Sceglie la sua sede Particolare Nel nostro spirito Per questo Davide Chiamava Dio Il Dio Del suo cuore E San Paolo Diceva Che noi viviamo Ci muoviamo E siamo Dio Pensando a questa verità Procurerai di avere Nel tuo cuore Un grande rispetto Per Dio Perché Ivi è presente In modo particolare La terza via È di pensare Al nostro Salvatore Che nella propria umanità Vede dal cielo Tutte le persone Della terra E in modo particolare I cristiani I suoi figli E tra essi Particolarmente Quelli che sono In preghiera Di cui Nota gli atti E il comportamento Questa non è Fantasia Ma la pura verità Perché Anche se Noi non lo vediamo Lui dall'alto Ci guarda Santo Stefano Così lo vide Durante il suo martirio Possiamo dire A buon diritto Con la sposa Eccolo dietro La parete Che guarda Dalle finestre E si affaccia Dal cancello Una quarta via Può essere Quella di ricorrere Alla immaginazione E rappresentarci Il Salvatore Nella sua umanità Vicino a noi Proprio come Siamo soliti fare Con gli amici Quando diciamo Vedo il tale Che fa questo Mi sembra proprio Di vederlo E simili espressioni Se poi Ti trovi In un luogo Dove c'è Santissimo Sacramento Dell'altare Non sarebbe più soltanto Una presenza immaginaria Ma reale Le specie Le apparenze Del pane Sono come una tenda Da dietro La quale Nostro Signore Realmente presente Ci vede E pensa a noi Anche se non lo vediamo Nella sua forma Serviti di una Di queste quattro vie Per metterti Alla presenza di Dio Prima dell'orazione Non pretendere Di impiegarle Tutte insieme Ma una alla volta Con semplicità E brevità Capitolo terzo Secondo punto Della preparazione L'invocazione Ecco come devi fare L'invocazione Una volta Che la tua anima Si sente Alla presenza di Dio Deve umiliarsi In profondo sentimento Di rispetto Perché sa Di essere indegna Di trovarsi Di fronte Alla sovrana Maestà di Dio Ma poiché Sa anche Che è la sua Immensa bontà Che vuole così Gli chiede la grazia Di servirlo bene E di adorarlo Nella meditazione Che si accinge A compiere Se ti sembra Opportuno Puoi anche Servirti Di qualche parola Concisa E piena di ardore Come le seguenti Di davide Non respingermi Non respingermi Dalla tua presenza O Dio E non privarmi Della grazia Del tuo santo spirito Risplenda il tuo volto Sulla tua serva Voglio ammirare Le tue meraviglie Dammi intelletto E capirò la tua legge E la osserverò Con tutto il cuore Sono la tua serva Dammi lo spirito E altre simili Ti sarà utile Aggiungere L'invocazione All'angelo custode E a tutti i santi Presenti nel mistero Sul quale vuoi meditare Per esempio Se mediti Su quello Della morte Del signore Potrai invocare La madonna San Giovanni La maddalena Il buon ladrone Perché ti facciano Partecipe Dei sentimenti E dei movimenti Interiori Ricevuti In quel mistero Se mediti Sulla tua morte Potrai invocare Il tuo buon angelo Che sarà presente In quel momento Affinché ti ispiri Pensieri adatti E così Per gli altri misteri Capitolo quarto Terzo punto Della preparazione La presentazione Del mistero Dopo i due punti Indicati per iniziare E che sono comuni A tutte le meditazioni Ce n'è un terzo Che non è comune A tutte C'è chi lo chiama Ricostruzione del luogo Chi Lezione interiore In fin dei conti Si tratta soltanto Di presentare Alla tua immaginazione Su cui Vuoi meditare Ricostruendolo Nella sua realtà storica Per esempio Se vuoi meditare Sul nostro signore in croce Devi immaginare Di trovarti Sul monte del calvario E rivedere Tutto ciò che avvenne E si disse Nel giorno della passione O se preferisci Ed è la stessa cosa Immaginarti Che la crocifissione Di nostro signore Avvenga proprio Nel luogo In cui ti trovi Seguendo il racconto Degli evangelisti Puoi procedere Allo stesso modo Meditando sulla morte Come ti ho detto Nella meditazione Sulla stessa Oppure Come pure Per quella Sull'inferno E simili misteri Dove ci troviamo Di fronte A cose sensibili E visibili Per gli altri misteri Sulla grandezza di Dio L'eccellenza delle virtù Il fine Per il quale Siamo stati creati Non possiamo usare Questo procedimento Basato sull'immaginazione Perché si tratta Di realtà invisibili Tuttavia Possiamo sempre servirci Di qualche similitudine O qualche paragone Per aiutarci Nella meditazione Ma non sono cose facili Voglio parlartene Con molta semplicità Perché non vorrei Che tu ti sentissi Obbligata A impegnarti In invenzioni Che ti farebbero Soltanto distrarre Aiutandoci Con l'immaginazione Chiudiamo il nostro spirito Nel mistero Che vogliamo meditare Perché non si metta A correre Qua e là Proprio come Si chiude Un uccellino In gabbia O si lega Lo sparviero A la catenella Perché rimanga Sul pugno Qualcuno ti dirà Che è meglio Servirsi Semplicemente Della riflessione Di fede E di un'operazione Esclusivamente Mentale E spirituale Quando vogliamo Rappresentarci Questi misteri O anche Tenere presente Che tutto avviene All'interno Del proprio spirito Ma sono modi Troppo sottili Per l'inizio E fino a che Dio non ti innalzi Un po' Ti consiglio Filotea Di rimanere Nella valle Che ti vado Indicando Capitolo Quinto Seconda parte Della meditazione Le considerazioni All'operazione Dell'immaginazione Segue quella Dell'intelletto Che noi Chiamiamo Meditazione Non è altro Che una riflessione O anche Più di una Per muovere I nostri affetti Verso Dio E le cose divine In ciò La meditazione Differisce Dallo studio Ed altri modi Di pensare E di riflettere Che non si prefiggono L'acquisizione Della virtù O dell'amor Di Dio Ma a qualche Altro fine Come il diventare Dotti Per poi scriverne O dissertarne Dopo aver dunque Rinchiuso Il tuo spirito Come ho detto Nell'ambito Del soggetto Su cui vuoi meditare O con l'immaginazione Se si tratta Di un soggetto Sensibile O per semplice Presentazione Se non è sensibile Ti metterai a riflettere Sul medesimo Seguendo la traccia Che ti ho indicato Con gli esempi concreti Di meditazioni Presentate nella prima parte Se il tuo spirito Ci si trova a suo agio Si sente illuminato E ricava frutto Da una delle riflessioni Fermati E non andare oltre Proprio come le api Che non lasciano il fiore Fintanto che vi trovano miele Ma se in nessuna Delle considerazioni Ti trovi a tuo agio Dopo aver provato E insistito Per un po' Passa ad un'altra Tutta l'operazione Deve essere sempre Molto semplice E procedere Senza fretta Capitolo sesto Terza parte Della meditazione Affetti E propositi La meditazione Arricchisce la volontà Che è la parte effettiva Della nostra anima Di buoni movimenti Quali l'amore di Dio E del prossimo Il desiderio del paradiso E della sua gloria Lo zelo Per la salvezza delle anime L'imitazione della vita Di nostro Signore La pietà per gli altri L'ammirazione La gioia Il timore Di cadere in disgrazia di Dio Del suo giudizio Dell'inferno L'odio per il peccato La fiducia nella bontà E nella misericordia di Dio La vergogna Per i disordini Della vita passata Il nostro spirito Deve esprimersi Ed allargarsi Il più possibile In questi affetti Tuttavia Cara Filotea Non soffermarti troppo Sugli affetti generali Ma mutali subito In propositi specifici E dettagliati Per correggerti E liberarti dai difetti Per esempio La prima parola Che il nostro Signore Disse sulla croce Farà sorgere Senz'altro Nella tua anima Un affetto Che ti spingerà All'imitazione Ossia Il desiderio Di perdonare Ed amare I tuoi nemici Io ti dico Che questo è poco Se non ci aggiungi Un proposito Così formulato Coraggio Allora D'ora in poi Non mi offenderò più Di certe parole cattive Del tal vicino O della tal vicina Del mio domestico Capitolo settimo Capitolo settimo Offriamo a Dio La sua stessa bontà La misericordia La morte Il sangue Le virtù Del figlio E insieme I nostri affetti E propositi La terza È la supplica Con la quale Chiediamo E scongiuriamo Dio Di comunicarci Le grazie Le virtù Del figlio Suo Di benedire I nostri affetti E propositi Perché possiamo Dar loro seguito Poi pregheremo Per la chiesa Per i pastori I parenti Gli amici E gli altri Confidando Nell'intercessione Della madonna Degli angeli E dei santi Infine È cosa buona Aggiungere Il padre nostro E l'ave maria Le preghiere comuni A tutti i cristiani A tutto ciò Aggiungo Che è necessario Comporre Un mazzetto Di devozione Ed eccoti Cosa voglio dire Chi passeggia In un bel giardino Non ne esce Volentieri Senza cogliere Qualche fiore Da odorare E da conservare Similmente Il nostro spirito Dopo che si è immerso In un mistero Con la meditazione Deve scegliere Uno o due O anche tre punti Che lo hanno colpito Favorevolmente E che sono più adatti Al proprio progresso Spirituale Per conservarli Per il resto Della giornata E ogni tanto Aspirarne profumo Questo si deve Operare nel posto Nel quale Si è meditato Rimanendo fermi O passeggiando In solitudine Per qualche tempo Capitolo ottavo Consigli molto utili Sulla meditazione Uscendo dalla meditazione Filotea Devi portare con te Soprattutto i propositi E le decisioni prese Per metterli in pratica Immediatamente Nella giornata E questo è il frutto Irrinunciabile Della meditazione Se manca Non soltanto La meditazione È inutile Ma spesso anche Dannosa Perché le virtù Meditate Ma non praticate Gonfiano lo spirito Di presunzione E finiamo per credere Di essere quello Che ci eravamo proposto Di essere Noi potremo diventare Come ci siamo proposti Di essere Soltanto Quando i propositi Saranno pieni di vita E solidi Non quando Sono fiacchi E inconsistenti E quindi Destinati A non venire attuati Occorre Con ogni mezzo Fare sforzi Per metterli in atto Approfittando Di tutte le occasioni Sia piccole Che grandi Per esempio Se ho preso La risoluzione Di conquistare Con la dolcezza Il cuore di coloro Che mi offendono Cercherò Nel corso Della giornata Di incontrarli Per salutarli Amabilmente E se non mi sarà dato Di incontrarli Perlomeno Parlerò bene Di loro E pregherò Dio per loro Uscendo dall'orazione Che ha impegnato Il cuore Devi fare attenzione A non provocargli Scosse Rischieresti Rischieresti Di rovesciare Il balsamo Raccolto Con l'orazione Intendo dire Che Possibilmente Devi rimanere Un po' in silenzio E riportare Per gradi Il tuo cuore Dall'orazione Agli affari Conservando Il più lungo Possibile I sentimenti E gli affetti Fioriti In te Un uomo Che ha ricevuto In un bel vaso Di porcellana Un liquore Di gran pregio Da portare A casa Cammina Con attenzione Senza voltarsi Di lato Ma guarda Ma guarda Solo davanti A sé Per paura Di inciampare In un sasso O mettere Un piede In fallo E tiene Contemporaneamente D'occhio Il vaso Per non rovesciarlo Tu devi fare La stessa cosa Uscendo Dalla meditazione Non distrarti Di colpo Ma guarda Soltanto Davanti a te Ossia Se devi incontrare Qualcuno E prestargli Attenzione Fallo pure Adattati Alla necessità Ma senza Perdere di vista Il tuo cuore Perché Il cuore prezioso Dell'orazione Si perda Il meno possibile Devi abituarti A passare Dall'orazione A qualsiasi Attività E occupazione Che comporta La tua professione Anche quando Può sembrare Molto distante Dagli affetti Avuti Nell'orazione Voglio dire Che un avvocato Deve saper passare Dall'orazione Alla difesa Della causa Il commerciante Agli affari La donna sposata Ai doveri Del suo matrimonio E della casa Con dolcezza E serenità Senza mettersi In angustia Infatti Essendo entrambi Secondo la volontà Di Dio Bisogna passare Dall'una Agli altri In umiltà E devozione Qualche volta Ti potrà capitare Di sentirti Trascinare Dalla commozione Immediatamente Dopo la preparazione In tal caso Filotea Allenta le briglie E non pretendere Di seguire Il metodo Che ti ho indicato E' vero Che ordinariamente Le considerazioni Devono precedere Gli affetti E i propositi Ma se lo Spirito Santo Ti concede Gli affetti Prima delle considerazioni Non devi insistere A voler correre Dietro alle considerazioni Visto che hanno Il solo scopo Di muovere Gli affetti In breve In breve In qualunque momento Ti si presentano Gli affetti Devi accoglierli E far loro posto Poco importa Se prima O dopo Le considerazioni Ho messo Anche se Dopo a conclusione Della meditazione Con i peccatori Le preghiere vocali Altre volte Prendi un libro E leggilo Con attenzione Fino a che Il tuo spirito Si riprenda pienamente Qualche volta Sprona il cuore Con atti E movimenti Di devozione Esteriore Prostrati Per terra Metti le mani In croce Sul petto Abbraccia Il crocefisso Questo Si capisce Se ti trovi In un luogo Appartato E se Dopo tutto ciò Sei come prima Per quanto Grande sia La tua aridità Non avvilirti Ma rimani Con devoto Contegno Davanti a Dio Quanti cortigiani Nel corso Dell'anno Fanno cento volte L'anticamera Del principe Senza speranza Di potergli parlare Ma soltanto Per essere visti Da lui E compiere Il loro dovere Così Mia cara Filotea Noi dobbiamo Recarci all'orazione Semplicemente Per compiere Il nostro dovere E dimostrare La nostra fedeltà Che se poi Piace Alla divina maestà Di rivolgerci La parola E fermarsi Con noi Con le sue santi Ispirazioni E consolazioni Interiori Questo sarà Per noi Un grande onore E motivo Di un piacere Delizioso Ma se non ci fa Questa grazia Non rivolgendoci La parola Come se non ci vedesse E come se non fossimo Alla sua presenza Non per questo Dobbiamo andarcene Anzi Al contrario Dobbiamo rimanere lì Davanti alla somma Bontà Con un contegno Devoto E sereno Gradirà molto La nostra pazienza E noterà La nostra fedeltà E la nostra perseveranza E quando Ritorneremo Davanti a lui Ci favorirà E si fermerà Con noi Con le sue Consolazioni Facendoci assaporare Tutto il fascino Dell'orazione Ma anche se non Dovesse farlo Accontentiamoci Filotea È già un grandissimo onore Trovarci presso di lui Al suo cospetto Capitolo decimo Esercizio del mattino Oltre a questa orazione mentale Strutturata e completa E altre preghiere vocali Da dire durante il giorno Ci sono altre cinque forme Di preghiere brevi E che sono come Prolungamenti E fioriture Della grande orazione La prima È quella del mattino Che è una preparazione Generale Alla giornata Ecco come devi farla Ringrazia E adora Dio Dal profondo Di te stessa Per la grazia Che ti ha fatto Nel conservarti La notte passata E se in essa Tu avessi peccato Chiedigli perdono Tu sai bene Che il giorno presente Ti è concesso Perché tu possa acquistare Quello futuro Nell'eternità A questo fine Farai un fermo proposito Di spendere bene La giornata Cerca di prevedere Gli affari Gli incontri Le situazioni In cui ti troverai Nel corso della giornata Per servire Dio E quali tentazioni Potranno sopraggiungere Per offenderlo A causa della collera Della vanità O di qualche altra Mancanza di controllo E con un fermo proposito Preparati a impiegare bene I mezzi Che ti saranno offerti Di servire Dio E progredire Nella devozione Per contro Preparati a evitare O combattere E vincere Tutto ciò Che potresti incontrare E che sia contro La sua salvezza E la gloria di Dio Non basta Prendere questa risoluzione Occorre Predisporre I mezzi Per attuarla Per esempio Se prevedo Di dover trattare Un affare Con una persona Passionale E pronta Alla collera Non soltanto Devo fare il proposito Di non reagire Alle sue sfuriate Ma devo preparare Delle frasi gentili Per prevenirla O prevedere La presenza Di una persona Capace di moderarla Se prevedo La visita Ad un malato Mi organizzerò Per l'ora Le parole Di consolazione Da dirgli Gli aiuti Da portare E così Per gli altri casi Dopo di ciò Umigliati Davanti a Dio E riconosci Che da sola Nulla potresti fare Di quanto Ti sei proposta Sia per fuggire Il male Che per operare Il bene E come Come se tu avessi Il cuore in mano Offrilo Con tutti i propositi Alla maestà divina E supplicala Di prenderti Sotto la sua protezione Per portare A compimento Le tue iniziative Per far questo Serviti Delle seguenti parole O di simili Signore Eccoti Questo povero E miserabile cuore Che Per tua bontà Ha avuto Buoni affetti Ma è troppo Debole E insignificante Per riuscire A fare il bene Che vorrebbe Se non lo sostieni Con la tua Celeste benedizione Io te la chiedo Padre Buono Per i meriti Della passione Di tuo figlio Al quale io Consacro Questa giornata E tutta la vita Invoca La Madonna E il tuo angelo E i santi Perché ti stiano vicini Ma tutte queste operazioni Spirituali Devono essere fatte Brevemente E con vivacità Possibilmente Prima di uscire Dalla camera Affinché In forza Di questo esercizio Tutto quello Che farai Nel corso Della giornata Sia coperto Dalla benedizione Di Dio Ti prego Filotea Non trascurarlo Mai Capitolo Undicesimo L'esercizio Della sera E l'esame Di coscienza Prima del pranzo materiale Hai fatto la meditazione Che è come un pranzo spirituale Allo stesso modo Prima di cena Devi fare una piccola cena Devota e spirituale O almeno uno spuntino Trova un po' di tempo Prima di cena Inginocchiati davanti a Dio Raccogli il tuo spirito Vicino a Gesù Cristo Crocifisso Che ti rappresenterai Per mezzo di una riflessione semplice Come un'occhiata interiore Ravviva nel tuo cuore L'ardore della meditazione Del mattino Per mezzo di una dozzina Di vivaci aspirazioni Di atti di umiltà E di slanci pieni d'amore Verso il divin salvatore Della tua anima Se lo preferisci Potrai anche riprendere I punti più salienti Della meditazione del mattino O scuoterti Con qualche altro pensiero A tuo piacere Quanto all'esame di coscienza Che ognuno deve fare Prima di coricarsi Tutti sanno Come deve essere fatto Ringrazia Dio Che ti ha conservato Nel corso della giornata Appena terminata Esamina il comportamento Che hai tenuto Nel corso della giornata Per facilitarti il compito Rifletti dove Con chi E come sei stato impegnato Se trovi qualcosa Di fatto bene Ringrazia Dio Se al contrario Hai fatto qualcosa di male In pensieri In parole Ed in opere Chiedi perdono a Dio Con il proposito Di confessartene Alla prima occasione E correggerti Seriamente Poi Affida il tuo corpo La tua anima La chiesa I parenti Gli amici Alla divina provvidenza Prega la Madonna Il Buon Angelo E i Santi Di vegliare su di noi E per noi E con la benedizione di Dio Va a prenderti quel riposo Che Dio ha voluto Che ci fosse necessario Questo esercizio Non deve essere mai tralasciato Come del resto Quello del mattino Con quello del mattino Spalanchi la tua finestra Al sole di giustizia Con quello della sera La sbarri Alle tenebre dell'inferno Capitolo dodicesimo Il raccoglimento spirituale Ora, cara Filotea Ti auguro tanta buona volontà Per seguire di cuore Il mio consiglio In questo capitolo Ti porto a conoscenza Di uno dei modi più sicuri Per progredire spiritualmente Durante il giorno Mantieniti alla presenza di Dio Con uno dei quattro mezzi Che ti ho indicato Vedi il capitolo secondo Da uno sguardo All'azione di Dio E alla tua Scoprirai Che Dio ha sempre Gli occhi rivolti Verso di te E ti guarda Con infinito amore Tu dirai allora O Dio Perché anch'io Non ti guardo Senza stancarmi Come tu guardi me Perché tu pensi Tanto a me E io Così poco a te Dove ci troviamo Anima mia Il nostro posto È in Dio Ma dove ci troviamo Allo stesso modo Che gli uccelli Hanno i nidi Hanno i nidi sugli alberi Per potercisi rifugiare Quando ne sentono il bisogno E i cervi Hanno i loro cespugli E i loro rifugi Dove si raccolgono E si mettono a riparo Godendosi il fresco E l'ombra In estate Così O Filotea Il nostro cuore Ogni giorno Deve cercare E trovare un posto Per potersi All'occorrenza Raccogliere O sul calvario O nelle piaghe Di nostro signore O in qualche luogo vicino Potrà qui Visostare E ritemprarsi Purtra le occupazioni esteriori E difendersi Se necessario Come in una fortezza Dalle tentazioni Beata l'anima Che in tutta sincerità Potrà dire Al Signore Tu sei il mio rifugio Il mio bastone Di sicurezza Il tetto Contro la pioggia L'ombra Che mi difende Dal caldo Ricordati Sempre Filotea Di raccoglierti Spesso Nella solitudine Del tuo cuore Mentre Materialmente Ti trovi Coinvolta Nelle conversazioni E negli affari Quella solitudine Mentale Non deve essere In alcun modo Essere impedita Da quelli Che ti stanno intorno Infatti Non si trovano Intorno al tuo cuore Ma al tuo corpo Il tuo cuore Può rimanere In solitudine In compagnia Di Dio Questo esercizio Lo faceva anche Davide In mezzo a tutte In mezzo a tutte Le occupazioni Come ci risulta Da una infinità Di passi Dei salmi Come quando dice Signore Io sono sempre Con te Vedo il mio Dio Costantemente Davanti a me Ho alzato gli occhi Verso di te Mio Dio Che abito In cielo I miei occhi Sono sempre In Dio Abitualmente Le conversazioni Non sono così Impegnative Che non si possa Ogni tanto Sottrarre il cuore Per condurlo In quella solitudine Divina I genitori Di Santa Caterina Da Siena Le avevano tolto Ogni comodità Di luogo E di tempo Per pregare E meditare Nostro Signore Le ispirò Di farsi Un piccolo oratorio Spirituale Nella propria anima Nel quale Si raccoglieva Mentalmente E così Pur in mezzo A tutte le occupazioni Esteriori Poteva consacrarsi A quella Santa solitudine Di cuore In seguito Quando il mondo La sillava Non ne soffriva Alcun danno Perché Come essa diceva Si chiudeva Nella sua cameretta Interiore Nella quale Restava In dolce compagnia Con il suo Celeste sposo Per questo Consigliava Ai suoi figli Spirituali Di procurarsi Una camera Nel proprio cuore Per potervi Sostare Raccogli dunque Qualche volta Il tuo spirito Nel tuo cuore E lì Isolata dagli altri Potrai parlare Con Dio Cuore a cuore Della tua anima E dirai Con Davide Ho vegliato E sono stato Simile al pellicano Nella solitudine Come un uccello Notturno O un gufo Tra le macerie O come il pastoro Solitario Sul tetto Queste parole Oltre al senso letterale Provano che Quel grande re Prendeva Qualche ora Di solitudine Per contemplare Le cose spirituali Prese nel senso mistico Prese nel senso mistico Ci indicano Tre luoghi Di ritiro Come tre erimi Nei quali Possiamo trovare La solitudine Seguendo l'esempio Del salvatore Che sul monte Calvario È come il pellicano Del deserto Che Con il proprio sangue Ridà la vita Ai piccoli morti Nella nascita In una stalla Abbandonata Assomiglia al gufo Tra le rovine Che si lamenta E piange Le nostre mancanze E i nostri peccati Nel giorno Dell'ascensione È come il passero Che si isola E sale al cielo Che è il tetto Del mondo In questi tre luoghi Anche noi Possiamo raccoglierci Pur essendo circondati Da frastuono Delle nostre occupazioni Al beato Eleazzaro Conte di Arian In Provenza Che si trovava Lontano da casa Da molto tempo La sua devota Casta Delfina Mandò un messo Per chiedere Notizie E della salute Eleazzaro Rispose Sto bene Mia cara Se vuoi vedermi Cercami Nella piaga Del costato Del dolce Gesù Perché è là Che abito E là Mi potrei trovare In vano Mi cercheresti Altrove Quello sì Che era un Cavaliere cristiano Capitolo Tredicesimo Le aspirazioni Le giaculatorie E i buoni pensieri Ci raccogliamo in Dio Perché aspiriamo a Lui E aspiriamo a Lui Per poterci in Lui raccogliere Di modo che l'aspirazione a Dio E il raccoglimento spirituale Si sostengono a vicenda Ed entrambi hanno origine E nascono dei buoni pensieri Aspira dunque spesso a Dio Filotea Con slanci del cuore Brevi ma ardenti Canta la sua bellezza Invoca il suo aiuto Gettati in spirito Ai piedi della croce Adora la sua bontà Interagolo spesso Sulla tua salvezza Donagli mille volte al giorno La tua anima Fissa i tuoi occhi interiori Sulla sua dolcezza Tendigli la mano Come fa un bambino Con il papà Perché ti guidi Mettilo sul petto Come un profumato Mazzolino di fiori Innalzalo nella tua anima Come uno stendardo E conduci il tuo cuore In mille modi Alla ricerca dell'amore di Dio E scuotilo Perché giunga Ad un appassionato E tenero amore Per questo sposo divino Questo è il modo di innalzare Le orazioni giaculatorie Che il grande Sant'Agostino Consigliava con tanto zelo Alla devota prova Se il nostro spirito Si mette a frequentare Con intimità e familiarità Il suo Dio O filiotea Rimarrà profumato Dalle sue perfezioni Questo esercizio Questo esercizio Non disturba L'andamento della giornata Perché può trovare posto Tra gli affari E le occupazioni Senza recare loro Alcun pregiudizio Poiché Nel raccoglimento spirituale Come in questi slanci interiori Si operano soltanto Piccole e brevi interruzioni Che non nuociono A quello che stiamo facendo Ma anzi Sono di giovamento Il pellegrino Che prende un sorso divino Per sollevare il cuore E rinfrescare la bocca Benché per fare questo Sosti un po' Non si può dire Che interrompa il viaggio Anzi Recupera le forze Per poi portarlo a termine Con più celerità E maggior facilità Si ferma Per poter proseguire Più speditamente Esistono molte raccolte Di aspirazioni vocali Che sono veramente utili Ma se tu mi ascolti Non devi legarti A nessuna formula Ma dire dentro te O a voce Quelle che ti suggerirà Il cuore sul momento Te ne suggerirà A volontà È vero Che ci sono Certe massime Che possiedono Una forza particolare Per dare soddisfazione Al cuore In questo campo Come gli slanci profusi Così abbondantemente Nei salmi di Davide Le varie invocazioni Del nome di Gesù E le espressioni d'amore Che si trovano Nel cantico dei cantici Anche i canti spirituali Possono servire allo scopo Purché siano cantati Con attenzione Voglio farti un paragone Coloro che si amano Di un amore umano E naturale Hanno quasi costantemente Il pensiero Rivolto alla persona amata Il cuore trabocca di amore Per lei La bocca Non fa Che tesserne le lodi E quando l'amata È assente Manifestano la loro passione Con lettere E non c'è albero Su cui Non lasciano inciso Il loro amore Allo stesso modo Coloro che amano Dio Non possono passare Un momento Senza pensare lui Respirare per lui Tendere a lui Parlare di lui E vorrebbero Se fosse possibile Incidere sul petto Di tutti gli uomini Il santo nome di Gesù Tutte le creature Ti invitano a questo Non c'è creatura Che non proclami La lode dell'amato Dice Sant'Agostino Seguendo Sant'Antonio Che tutto ciò Che esiste al mondo Parla Magari con un linguaggio muto Del proprio amore Tutte le cose Ti incitano A buoni pensieri Da cui vengono per forza Slanci e aspirazioni a Dio Eccone qualche esempio San Gregorio Vescovo di Nazianzo Raccontava al popolo Che mentre un giorno Passeggiava lungo La riva del mare Guardava le onde Che giungendo sulla spiaggia Lasciavano conchiglie E chiocciolette Ciuffi d'erba Ostriche E altri rifiuti Che il mare rigettava Si potrebbe quasi dire Sputava sulla spiaggia Poi ritornava Con altre onde Riprendeva E inghiottiva di nuovo Una parte del tutto Gli scogli invece Rimanevano ben saldi Nonostante che le onde Li investissero con violenza E fece questa riflessione I deboli Come conchiglie Chiocciole Ciuffi d'erba Si lasciano trascinare Un momento Nell'afflizione Un altro nella gioia In valia delle onde Della sorte Ma la gente Che ha coraggio Rimane salda Immobile in mezzo A qualsiasi bufera Da questo pensiero Passava allo slancio Di Davide Signore Salvami Perché le acque Sono penetrate Fino in fondo All'anima Signore Salvami Dalle acque profonde Sono trascinato In fondo al mare La tempesta Mi fa affondare Era un momento In cui era Nella sofferenza Perché Massimo Aveva iniziato I suoi maneggi Per usurpargli La diocesi San Fulgenzio Vescovo di Ruspe Trovandosi In un'assemblea Di nobili romani Che veniva Ringata Da Teodorico Rei dei Goti Guardando Tutta quella gente Elegante Ognuno Al proprio posto Secondo il grado E il censo Disse O Dio Quanto deve essere Bella la Gerusalemme Celeste Se è tanto solenne La Roma terrestre Se a coloro Che amano La vanità In questo mondo È concesso Tanto splendore Quale deve essere Nell'altro mondo La gloria riservata Agli amanti Della verità Si dice che Sant'Anselmo Arcivescovo Di Canterbury Per nascita Onore Delle nostre montagne Era eccezionale Nel saper ricavare Buoni pensieri Un leprotto In seguito Dei cani Si rifugiò Sotto il cavallo Del santo vescovo Che per caso Passava da quelle parti Per cercare protezione Contro la morte Che lo minacciava I cani Tutti intorno Abbaiavano Ma non avevano Il coraggio Di violare L'immunità Cui la loro preda Si era affidata Tutto il seguito Ai suoi nemici Non importa proprio nulla E se la ridono E se ne andò Pensieroso Costantino Il grande Aveva scritto Una lettera A Sant'Antonio Ciò Meravigliò Molto I religiosi Che gli stavano Intorno Antonio disse Perché Vi meravigliate Che un re Scriva ad un uomo Ammirate Piuttosto che Dio eterno Abbia scritto La sua legge Ai mortali Anzi Abbia loro Parlato direttamente Per mezzo Del figlio San Francesco Vedendo una pecora Tutta sola In mezzo Ad un grege Di capre Disse al suo compagno Guarda come dolce Quella pecora In mezzo A quelle capre Così era Nostro Signore Dolce E umile In mezzo Ai farisei Un'altra volta Vedendo un agnello Sbranato Da un maiale Piangendo Esclamò Piccolo agnellino Quanto mi ricordi La morte Del mio salvatore Un grande personaggio E anche grande santo Nel nostro tempo Francesco Borgia Quando era ancora Duca di Candia Mentre andava a caccia Si immergeva In molti pensieri Spirituali Come questo Ammira come il falco Ritorni sul pugno Si lasci bendare Gli occhi E legare Alla pertica Mentre gli uomini Sono così ribelli Alla voce di Dio Il grande San Basilio Diceva che la rosa Tra le spine È un insegnamento Per gli uomini Le cose più gradevoli Di questo mondo O mortali Sono frammiste A sofferenza Niente è schietto Il rimpianto È sempre unito Alla gioia La vidovanza Al matrimonio La premura Al risultato L'umiliazione Alla gloria Il prezzo Agli onori La ripugnanza Alla delizie La malattia Alla buona salute La rosa Dice il nostro santo È un bel fiore Ma mi dà Una grande tristezza Perché mi ricorda Il mio peccato A causa del quale La terra è stata condannata A produrre spine Un'anima devota Vedendo il cielo stellato Che si specchia Nell'acqua limpida Di un ruscello Dirà Mio Dio Queste stelle Le avrò sotto i piedi Quando mi avrai accolto Nelle tue tende E come le stelle del cielo Le vedi specchiate Sulla terra Allo stesso modo Gli uomini della terra Li vede riflessi Nel cielo Della sorgente purissima Della carità divina Ci sarà anche chi Vedendo scorrere Un fiume Dirà La mia anima Non avrà riposo Finché non si immerga Nel mare profondo Di Dio Che è la sua origine Santa Francesca Romana Un giorno Mentre contemplava Un ruscello Sulla cui sponda Si era fermata A pregare Fu rapita in estasi E Senza sosta Ripeteva Queste belle parole La grazia Del mio Dio Scende con la dolcezza E la suavità Di questo ruscello Un altro Vedendo gli alberi In fiore Esclamerà Perché solo io Sono senza fiori Nel giardino Della chiesa Un altro Osservando dei pulcini Raccolti sotto la chioccia Dirà Signore Conservaci sotto La protezione Delle tue ali Un altro Ancora Alla vista del girasole Penserà Quando avverrà Dio mio Che la mia anima Segua le attrattive Della tua bontà Venendo poi Delle viole Del pensiero Coltivate Belle a vedersi Ma senza profumo Dirà Ecco come sono I miei pensieri Belli a chiaccare Ma poi Non sanno di niente Ecco Filotea Come si possono Ricavare Buoni pensieri E sante ispirazioni Dalle situazioni Di questa vita Mortale Infelici Sono coloro Che distolgono Le creature Dal loro creatore Per ricondurle Al peccato Beati invece Quelli che indirizzano Le creature Alla gloria Del loro creatore E si servono Del poco Che sono Per fare onore Alla verità San Gregorio Di Nazianzo Dice di avere L'abitudine Di indirizzare Tutte le cose Al profitto Spirituale Leggi Il devoto epitafio Che San Girolamo Ha composto Per San Paola E' bello Constatare Come sia ricco Delle ispirazioni E dei santi pensieri Che la Santa Sapeva ricavare Da qualsiasi incontro Nell'esercizio Del raccoglimento Spirituale E delle preghiere Egecolatorie Si trova La profonda radice Della devozione Può supplire La mancanza Di tutte le altre Forme di orazione Ma se manca questo Non c'è modo Di rimediare Senza questo esercizio Non è possibile La vita contemplativa Anzi sarà mal condotta Anche quella attiva Senza questo Il riposo E' ozio Il lavoro Preoccupazione Perciò Ti supplico Di abbracciarlo Con tutto il cuore Senza staccartene mai Capitolo 14 Come ascoltare la Santa Messa Non ti ho ancora parlato del sole e degli esercizi spirituali Il Santissimo e sommo sacrificio e il sacramento della Messa Centro della religione cristiana Cuore della devozione Anima della pietà Mistero ineffabile Che manifesta l'abisso della carità divina Per suo mezzo Dio Si unisce realmente a noi E ci comunica in modo meraviglioso Le sue grazie E i suoi doni L'orazione innalzata In unione a questo sacrificio divino Possiede una forza Da non potersi esprimere a parole O Filotea Per mezzo suo L'anima abbonda di doni celesti Perché abbraccia l'amato Che la ricolma talmente di profumi E di suavità spirituali Che essa assomiglia A una colonna di fumo Di legni aromatici Di mirra Di incenso E di tutte le essenze Che usa il profumiere Secondo quanto dice il cantico Organizzati in modo da partecipare ogni giorno Alla Santa Messa Per offrire assieme al sacerdote A Dio Padre Il sacrificio del Redentore Per il tuo bene E quello di tutta la Chiesa Gli angeli sono sempre presenti In gran numero Per onorare questo santo mistero Lo dice San Giovanni Crisostomo Il trovarsi uniti ad essi Per lo stesso fine Ci incoraggerà Nello sforzo di migliorarci Il coro della Chiesa trionfante E quello della Chiesa militante Si uniranno a Nostro Signore In questa azione divina Per rapire il cuore di Dio Padre E conquistarci la sua misericordia Questo con Lui In Lui E per Lui È motivo di grande felicità Per un'anima Offrire devotamente i propri affetti Per un bene così prezioso E desiderabile Se per causa di forza maggiore Non puoi essere presente con il corpo Alla celebrazione di questo incomparabile sacrificio Ci devi andare almeno con il cuore Per parteciparvi spiritualmente A una certa ora del mattino Recati in Chiesa spiritualmente Se non ti è dato altro modo Unisci la tua intenzione A quella di tutti i cristiani E compi nel luogo dove ti trovi Gli stessi atti interiori Come se tu fossi realmente presente Alla celebrazione della Santa Messa In qualche Chiesa Per partecipare convenientemente Alla Santa Messa O corporalmente O con la mente O corre Dall'inizio fino a che il sacerdote salga all'altare Fa con Lui la preparazione Ossia Mettiti alla presenza di Dio Riconosci le tue indegnità E chiedi perdono delle tue colpe Dal momento in cui il sacerdote Giunge all'altare fino al Vangelo Considera Con una riflessione semplice e generica La venuta di nostro Signore In questo mondo E la sua vita Da dopo il Vangelo Fino al Credo Rifletti sulla predicazione del Salvatore Protesta di voler vivere E morire nella fede E nell'obbedienza Alla sua Santa Chiesa Cattolica Da dopo il Credo Fino al Padre Nostro Occupa il cuore Ai misteri della morte E passione del nostro Redentore Attuati e essenzialmente Rappresentati in questo Santo Sacrificio Che tu offri a Dio Padre Assieme al sacerdote E dal resto del popolo Per la gloria di Dio Padre E la salvezza degli uomini Da dopo il Padre Nostro Pregalo in forza di essere sempre benigno con te Con i tuoi parenti Con i tuoi amici E con tutta la Chiesa Poi umiliati con tutto il cuore E ricevi con devozione La benedizione divina Che il nostro Signore ti impartisce Per mezzo del suo Ministro Ma se durante la Messa vuoi fare la tua meditazione Sui misteri che stai seguendo Giorno per giorno Non è necessario che tu segua queste indicazioni Sarà sufficiente che all'inizio manifesti la tua intenzione Di voler adorare e offrire questo Santo Sacrificio Per mezzo della meditazione e dell'orazione Poiché in tutte le meditazioni Ci sono o esplicitamente o implicitamente Le operazioni sopraindicate Capitolo quindicesimo Gli altri esercizi pubblici e comuni Oltre a ciò Filotea Le domeniche e le feste devi assistere Per quello che potrai Al canto delle ore e dei vespri Quelli sono giorni consacrate a Dio E bisogna fare qualcosa di più in suo onore e gloria Proverai una infinita dolcezza spirituale Secondo quanto ferma Santo Agostino Nelle confessioni All'inizio della conversione Assistere agli uffici divini Lo commuoveva fino alle lacrime E poi E voglio dirlo una volta per tutte Si ricava sempre maggior frutto E più consolazione Dalle celebrazioni pubbliche della Chiesa Che non dalle devozioni personali Perché Dio ha così voluto Dando la preferenza assoluta Agli atti di comunità Su quelli privati Entra volentieri Nelle confraternite Che trovi sul posto Soprattutto in quelle Le cui pratiche Offrono un frutto maggiore E più edificazione Facendo così Ti renderai molto gradita Dio E' vero che Dio Non ti fa obbligo Di far parte delle confraternite Ma te lo raccomanda La Chiesa Che A significare Questo suo desiderio Le arricchisce Di indulgenze E di altri privilegi E poi E' sempre una cosa Molto ben fatta Unirsi ad altri E cooperare con essi Per la riuscita Di buoni progetti Benché possa capitare Di fare anche in privato Pratiche di pietà Altrettanto buone Come quelle che si fanno In comune Nell'ambito della confraternita E addirittura Di trovare più trasporto In quelle private Cioè nonostante Dio è glorificato Maggiormente Dall'unione agli altri E dal contributo Che noi diamo Ai fratelli E al prossimo In un atto comune Questo vale Per tutte le preghiere E le devozioni pubbliche Alle quali Nella misura del possibile Dobbiamo dare Il contributo Del nostro buon esempio Per l'edificazione Del prossimo E il nostro affetto Per la gloria di Dio E l'unione dei cuori In azioni comuni Capitolo sedicesimo Bisogna onorare E invocare i santi Spesso Dio Ci fa aggiungere Le sue ispirazioni Per mezzo degli angeli Perciò Anche noi Dobbiamo fare La stessa cosa Indirizzando lui Le nostre aspirazioni Con lo stesso mezzo Le anime santi Dei difunti Che ora si trovano In paradiso In compagnia degli angeli Uguali ad essi Come dice Nostro Signore Hanno lo stesso ufficio Ispirarci Con loro preghiere E portare a Dio Le nostre aspirazioni Uniamo Filotea I nostri cuori A questi spiriti celesti E a queste anime Beate Come il piccolo Usignolo Impara a cantare Stando con i grandi Così Con questo scambio Con i santi Noi riusciremo A pregare E a cantare Le lodi di Dio Canterò i salmi Dice Davide Davanti agli angeli Onora Riverisci E rispetta Con amore Speciale La santa e gloriosa Vergine Maria Ella è madre Del nostro padre Sovrano E perciò Anche nostra Cara nonna Ricorriamo a lei Quali nipotini Gettiamoci Sulle sue ginocchia Con assoluta fiducia In ogni momento In ogni circostanza Facciamo appello A questa dolce madre Invochiamo il suo amore materno E facendo ogni sforzo Per evitare le sue virtù Abbiamo per lei Un sincero cuore di figli Renditi molto amico Degli angeli Impara a vederli Sempre presenti Anche se invisibili Nella tua vita Soprattutto Ama E rispetta Quello Della diogesi In cui ti trovi Quelli delle persone Con le quali vivi E in modo particolare Il tuo Pregali spesso Prendi l'abitudine Di lodarli Confida nel loro aiuto E nella loro assistenza Per tutte le circostanze Tanto spirituali Che materiali Perché si prendono a cuore I tuoi progetti Il grande Pietro Favre Primo sacerdote Primo predicatore Primo lettore Di teologia Della Santa Compagnia Di Gesù E primo compagno Del Beato Ignazio Fondatore della stessa Tornando un giorno Della Germania Dove aveva reso Grandi servizi In onore di Nostro Signore Sostando Nella nostra diogesi Suo patria D'origine Raccontava Che attraversando Molti paesi Eretici Aveva ricevuto Infinite consolazioni Nel salutare Gli angeli protettori Delle parrocchie E diceva Di averne sperimentato Sensibilmente L'assistenza Lo avevano protetto Dalle imboscate Degli eretici Avevano reso Molte anime aperte E docili Nel ricevere La dottrina Della salvezza Lo esponeva Con tanto calore Che una donna Allora giovane Avendolo udito Direttamente Dalla sua bocca Lo ripeteva Agli uditori Ancora con profonda Commozione Quattro anni fa Ossia Sessanta anni dopo L'anno scorso Ho avuto La consolazione Di consacrare Un altare Nel luogo Dove nacque Quel santo prete Nel villaggio Di Villaret Tra le nostre Più astre montagne Sceliti Qualche santo Particolare La cui vita E i cui esempi Maggiormente Ti invitano A limitazione E nella cui intercessione Ti trovi Ad avere Maggiore fiducia Come quello Del nome Che porti E che ti è stato Assegnato Nel battesimo Capitolo Diciassettesimo Come va Ascoltata La parola Di Dio Devi essere Devota Alla parola Di Dio Sia che tu Loda In conversazioni Familiari Assieme ai tuoi amici Spirituali Sia nella solennità Di un sermone Devi ascoltarla Sempre Con attenzione E rispetto Ricavane Profitto Non lasciarla Cadere a terra Ma accoglila Nel tuo cuore Come un unguento Prezioso Seguendo l'esempio Della Santissima Vergine Che conservava Con cura Nel proprio Tutte le lodi Dette In onore Del figlio Ricordati Che il nostro Signore Accoglie le parole Che gli rivolgiamo Nelle preghiere Nella misura Nella quale Accogliamo Quelle che Egli ci rivolge Con la predicazione Conserva presso di te Sempre qualche Buon libro Di devozione Come quello Di San Bonaventura Il combattimento Spirituale Di Scupoli Le confessioni Di Sant'Agostino Le lettere Di San Gironamo E simili Tutti i giorni Leggine un brano Con grande devozione Come leggeresti Lettere inviate Personalmente A te Dai Santi Del cielo Per indicarti Il cammino E darti coraggio Di avviarti In esso Leggi anche Le storie E le vite Dei Santi Nelle quali Puoi vedere La vita cristiana Come in uno specchio Adatta le loro azioni Ai casi della tua vita Secondo il tuo stato Benché molte azioni Dei Santi Non siano imitabili In senso letterale Da gente Che vive nel mondo Hanno senz'altro Qualche cosa Da insegnarci O da vicino O da lontano Per esempio Puoi imitare La solitudine Di Paolo Primo remita Con il tuo raccoglimento Spirituale E con quello reale Cose di cui In parte Abbiamo parlato Nel capitolo dodicesimo E in parte Parleremo Nella parte quinta Puoi imitare L'estrema povertà Di San Francesco Con gli esercizi Di povertà Che ti proporremo Parte terza E così Per il resto Ti accorgerai Che ci sono episodi Più illuminanti Di altri Per la nostra vita Come la vita Della beata Madre Teresa Che è notevole Per questo La vita Dei primi Gesuiti Quella di San Carlo Borromeo Arcivesco di Milano Di San Luigi Di Francia Di San Bernardo I Fioretti Di San Francesco E altre Ce ne sono anche Di quelle Che sono più adatte Per essere ammirate Che imitate Come quella Di Santa Maria Egiziaca San Simeone Stilita Le due Caterine Da Siena Da Genova Di Sant'Angela E altre simili Che non per questo Non sono una prova Piacevole Del grande amore Di Dio Capitolo Diciottesimo Come vanno accolte Le ispirazioni Chiamiamo ispirazioni Gli inviti I movimenti I rimproveri I rimorsi I interiori I lumi E le cognizioni Che Dio genera in noi Prevenendo il nostro cuore Con le sue benedizioni Con attenzione E affetto di padre Per svegliarci Scuoterci Spingerci Attirarci Verso la virtù L'amore celeste I buoni propositi In breve Verso tutto ciò Che ci mette in cammino Per il nostro bene eterno Lo sposo Lo chiama Bussare la porta E bussare al cuore Della sposa Svegliarla Se dorme Invocarla E chiamarla Quando è assente Invitarla A gustare il miele E a cogliere i frutti E i fiori Nel suo giardino A cantare E a far udire La voce Alle sue orecchie Tre Sono i movimenti Che si susseguono Nella promessa sposa Prima di giungere Al matrimonio In primo luogo Le viene proposto Il matrimonio Poi Ella lo trova Di suo gradimento Infine Dà il suo consenso Allo stesso modo Quando Dio Vuole compiere In noi Per mezzo di noi E con noi Un'opera di rilievo In primo luogo Ce la propone Ispirandocela Poi tocca a noi Esprimerci Dicendo se ci piace In terzo luogo Aderiamo con il sì Lo stesso processo Lo seguiamo Per cadere nel peccato Anche in tal caso I movimenti Sono tre La tentazione Il compiacimento Il consenso Per conquistare le virtù I gradini Sono sempre tre L'ispirazione Che è il contrario Della tentazione Il compiacimento Nell'ispirazione Che è il contrario Del compiacimento Nella tentazione E il consenso All'ispirazione Che è il contrario Del consenso Alla tentazione Anche se L'ispirazione Dovesse insistere Per tutto l'arco Della nostra vita Se non la troviamo O non la trovassimo Bella e piacevole Non saremmo In alcun modo Accetti a Dio Anzi La sua divina maestà Ne sarebbe offesa Come lo fu Nei confronti Degli israeliti Che aveva inseguito Inutilmente Per 40 anni Chiamandoli Alla conversione Senza trovare In essi risposta Giurò Che mai più Li avrebbe fatti Entrare Nella sua pace Così Un signore Che abbia Per molto tempo Corteggiato Una giovane donna Sarebbe molto Contrariato Se Dopotutto Lei non volesse Saperne Di matrimonio Il piacere Che si prova Nelle ispirazioni È Un avvio Determinante La gloria Di Dio E in tal modo Si comincia Ad essere graditi Alla divina maestà Ben che questo Compiacimento Non sia ancora Un consenso pieno Perlomeno È una disposizione Favorevole Se è vero Se è vero Che è buon segno È cosa Molto utile Con piacersi Nell'ascolto Della parola Di Dio Tanto che Possiamo Considerarlo Un'ispirazione Esteriore È cosa Altrettanto Buona E gradita Dio Con piacersi Nell'ispirazione Interiore È quel piacere Di cui parla La sposa Quando dice La mia anima Si è sciolta Di piacere Quando ha udito La voce Dell'amato Il gentiluomo È soddisfatto Quando vede Che la dama Che egli serve È contenta Del suo servizio In conclusione È il consenso Che completa L'atto virtuoso Perché anche Se ispirati E contenti Dell'ispirazione Neghiamo poi Il consenso A Dio Siamo degli ingrati E offendiamo Gravemente La maestà divina Perché Il disprezzo Sembra ancora maggiore È quanto Capitò Alla sposa Perché Pur avendole Il canto Del suo amato Toccato il cuore Di piacere Ella non gli aprì La porta E si scusò Con una ragione sciocca Lo sposo Si indignò Passò oltre E se ne andò Così un gentiluomo Che dopo aver Corteggiato Lungamente Una donna E averle reso Gentilmente Servizio Si vede Alla fine Respinto E disprezzato Avrà senz'altro Più motivo Di risentimento Di quanto ne avrebbe avuto Se fosse stato subito Accolto male E trattato peggio Risolviti Filotea Ad accettare Di buon cuore Tutte le ispirazioni Che Dio vorrà mandarti Quando ti giungeranno Accogliele Come ambasciatrici Del re Del cielo Che vuole unirsi In matrimonio Con te Ascolta con cuore sereno Quello che ti propongono Considera l'amore Che te le ha fatte mandare E trattali bene Acconsenti Con un'adesione Piena d'amore E fedele All'ispirazione In modo che Dio Che non sei in grado Di costringere Si sentirà Fortemente obbligato Dal tuo affetto Ma Prima di dare Il consenso All'ispirazione Per cose importanti E straordinarie Per non rischiare Di cadere in inganno Consigliati sempre Con la tua guida Perché esamini Se l'ispirazione È vera O falsa Se il nemico Vede un'anima pronta A consentire All'ispirazione Gliene propone Subito di false Per trarla in inganno Cosa che gli sarà Impossibile Se ella Con umiltà Ubbiderà Chi la conduce Una volta dato Il consenso Bisogna far sì Che abbia seguito E l'ispirazione Si attui Questo è il culmine Della virtù autentica Consentire nel cuore Senza passare ai fatti È come piantare Una vigna Senza volerne frutto A questo scopo È molto utile Praticare L'esercizio del mattino E il raccoglimento Spirituale Indicati sopra In tal modo Non solo Ci prepariamo A fare in modo Generico il bene Ma concretamente Lo realizziamo Capitolo Diciannovesimo La santa confessione Il nostro salvatore Ha lasciato Alla sua chiesa Il sacramento della penitenza O confessione Perché potessimo Purificarci Dalle nostre iniquità Per numerose Che siano Tutte le volte Che ci infanghiamo Perciò Filotea Non tollerare mai Per lungo tempo Che Il tuo cuore Rimanga Contagiato dal peccato Disponendo tu Di un rimedio Sempre pronto E facile Da applicare La leonessa Che si è unita Ad un leopardo Corre immediatamente Lavarsi Per togliere Da sé Il lezzo Perché il leone Avvertendolo Non si adombri E si irriti L'anima Che ha consentito Al peccato Deve avere Orrore Di se stessa E ripulirsi Immediatamente Per rispetto Alla maestà divina Che sempre la segue Perché vogliamo Lasciarci morire Spiritualmente Quando abbiamo A disposizione Un rimedio Così sicuro Confessati Devotamente E umilmente Ogni otto giorni E Se puoi Ogni volta Fai la comunione Anche se non avverti Nella coscienza Rimorso di alcun Peccato mortale In tal caso Con la confessione Non soltanto Riceverai la soluzione Dei peccati veniali Confessati Ma anche Una grande forza Per evitarli In avvenire Una grande chiarezza Per distinguerli E una efficace grazia Per rimediare A tutto il danno Che ti hanno causato Praticherai La virtù Dell'umiltà Dell'obbedienza Della semplicità E della carità Con il solo atto Della confessione Praticherai più virtù Che con qualsiasi altro Abbi sempre Un sincero dispiacere Dei peccati Che confessi Per piccoli Che siano E prendi Una ferma decisione Di correggerti Molti Si confessano Dei peccati veniali Per abitudine Quasi meccanicamente Senza pensare Minimamente Ad eliminarli E così Per tutta la vita Ne saranno dominati E perderanno Molti beni E frutti spirituali Se per esempio Ti confessi Di aver mentito Senza recar danno O di aver detto Qualche parola Grossolana O di aver giocato Troppo Pentiti E fa a proposito Di correggerti E' un abuso Confessare un peccato Sia mortale Che veniale Senza avere Intenzione Di avendarsene Perché la confessione E' stata istituita Proprio per quello scopo Non fare accuse generiche Come fanno molti In modo macchinale Tipo queste Non ho amato Dio Come era mio dovere Non ho ricevuto i sacramenti Con il rispetto dovuto E simili Ti chiarisco il motivo Ciò dicendo Tu non offri Alcuna indicazione Particolare Che possa dare al confessore Un'idea dello stato Della tua coscienza Tutti i santi del paradiso E tutti gli uomini Della terra Potrebbero dire Tranquillamente La stessa cosa Cerca qual è la ragione Specifica dell'accusa Una volta trovata Accusati Della mancanza commessa Con semplicità E naturalezza Se per esempio Ti accusi Di non avere amato Il prossimo Come avresti dovuto Può darsi Che si sia trattato Di un povero Veramente bisognoso Che tu non hai aiutato Come avresti potuto O per negligenza O per durezza di cuore O per disprezzo Vedi un po' tu Il motivo Similmente Non accusarti Di non aver pregato Dio Con la dovuta devozione Ma specifica Se hai avuto Delle distrazioni volontarie Perché non hai avuto Cura di scegliere il luogo Il tempo È il contegno Atti a favorire L'attenzione Nella preghiera Accusati Con semplicità Di quello In cui trovi Di aver mancato Senza ricorrere A quelle espressioni generiche Che nella confessione Non fanno Né caldo Né freddo Non accontartarti Non accontartarti Di raccontare I tuoi peccati veniali Solo come fatto Accusati anche Del motivo Che ti ci ha portato Non dimenticarti Per esempio Di dire Che hai mentito Senza coinvolgere Nessuno Ma chiarisci Se è stato Per vanità Se era per vantarti O scusarti O per gioco O per cociutagine Se hai peccato Nel gioco Specifica Se è stato Per soldi O per il piacere Della conversazione E così via Di anche Se sei rimasto Per lungo tempo Nel tuo male Perché in genere Il tempo Aggrava il peccato C'è molta differenza Tra la vanità Di un momento Che ha occupato Il nostro spirito Sia e no Per un quarto d'ora E quella Nella quale Il nostro cuore È rimasto immerso Per uno Due O tre giorni In conclusione Bisogna esporre Il fatto Il motivo È la durata Dei nostri peccati Perché anche se Comunemente Non siamo obbligati Ad essere così esatti Nel dichiarare I nostri peccati veniali Anzi Non siamo nemmeno Obbligati a confessarli È pur sempre vero Che coloro Che vogliono pulire Per bene l'anima Per raggiungere Più speditamente La santa devozione Devono avere Molta cura Di descrivere Al medico spirituale Il male Per piccolo che sia Se vogliono guarire Non trascurare Di aggiungere Quanto serve Per far capire Il tipo dell'offesa Come il motivo Che ti ha fatto Montare in collera O ti ha fatto Accettare il vizio Di qualcuno Per esempio Se un uomo Che non mi va a genio Mi provoca Con qualche leggera Parola per scherzo Io la prendo male E monto in collera Cosa che se L'avesse fatto Un altro Che mi è simpatico L'avrei accettata Anche se Avesse caricato La dose Preciserò dunque Con chiarezza Mi sono lasciato Trasportare A parole di collere Contro una persona Perché ho preso A male Ciò che mi aveva detto Non per le parole In se stesse Ma perché Mi è antipatico Colui che le ha dette E se fosse necessario Precisare le parole Per farti capire meglio Penso che faresti bene A dirle Accusandoci in questo modo Con naturalezza Non solo mettiamo fuori I peccati fatti Ma anche le cattive Inclinazioni Le usanze Le abitudini E le altre radici Del peccato In modo che Il padre spirituale Abbia una chiara Conoscenza del cuore Che gli ha affidato E quindi Predisponga Rimedi più opportuni Tuttavia Non fare il nome Di chi ha eventualmente Cooperato Il tuo peccato Almeno Finché ti sarà possibile Fa attenzione A numerosi peccati Che vivono E spadroneggiano Spesso Senza essere avvertiti Nella coscienza E accusali Per potertene liberare A questo fine Leggi attentamente I capitoli Sesto Ventisettesimo Ventottesimo Ventinovesimo Trentacinquesimo E trentaseiesimo Della terza parte E il capitolo ottavo Della quarta parte Non cambiare facilmente Il confessore Ma scegliene uno E rendigli conto Della tua coscienza Nei giorni Che avrai stabilito E digli Con naturalezza E franchezza I peccati commessi Di tanto in tanto Ogni mese O ogni due mesi Digli A che punto sei Con le inclinazioni Benché in quelle Non ci sia peccato Digli Se sei afflitta Dalla tristezza Dal rimpianto Se sei invece portata La gioia Al desiderio Di acquisire ricchezze E simili inclinazioni Capitolo ventesimo La comunione frequente Si dice che Mitridate Re del Ponto Avesse inventato Un veleno Con il quale aveva Talmente rinvigorito Il proprio organismo Che Quando volle avvelenarsi Per sfuggire Alla schiavitù dei romani Non riuscì a portare Il compimento Il proposito Il Salvatore Ha istituito L'augusto sacramento Dell'Eucarestia Che contiene realmente La sua carne E il suo sangue Affinché Chi ne mangia Viva eternamente Ecco perché Chiunque vi ricorre Spesso con devozione Rinforza talmente La salute E la vitalità Dell'anima Che è quasi impossibile Che rimanga avvelenata Dai cattivi effetti Di qualunque sorta siano Non è possibile Renutrirsi di questo cibo Di vita E continuare a vivere Gli affetti di morte Allo stesso modo Che gli uomini Nel paradiso terrestre Non avrebbero potuto morire Quanto al corpo In virtù del frutto Della vita del Signore Vi aveva collocato Così essi Non possono morire Spiritualmente In virtù Di questo sacramento Di vita Se è vero Che i frutti Più teneri Soggetti a corrompersi Come le ciliegie Le albicocche Le fragole Si conservano Facilmente Tutto l'anno Una volta canditi Nello zucchero Nel miele Nessuna meraviglia Che i nostri cuori Benché fragili E deboli Siano resi immuni Dalla corruzione Del peccato Quando sono trattati Con quello zucchero E quel miele Che sono la carne E il sangue Incorruttibili Del figlio O Filotea I cristiani Che saranno Condannati Resteranno Senza parola Allorché Il giudice giusto Rinfacerà loro Il torto Che hanno avuto Di lasciarsi Morire spiritualmente Quando era loro Così facile Mantenersi in vita E buona salute Nutrendosi Del suo corpo Offerto a tal fine Miserabili Dirà loro Come avete potuto Lasciarvi morire Quando avevate L'ordine Di nutrirvi Del cibo di vita Io non lodo E non biasimo Il fatto Di ricevere La comunione Eucaristica Tutti i giorni Ma consiglio Ed esorto Ciascuno A fare la comunione Tutte le domeniche Purché lo spirito Non abbia Affetti al peccato Sono parole Testuali Di Sant'Agostino Al quale Mi associo Non biasimando E non lodando Chi fa la comunione Tutti i giorni Lascio la decisione Su questo punto La discrezione Del padre spirituale Di chi vorrà Prendere decisioni A questo proposito Infatti Le disposizioni Per accostarsi Così di frequente Alla santo comunione Devono essere Di un livello Di perfezione Che non è opportuno Dare in materia Un parere generico D'altra parte Siccome tali disposizioni Che richiedono Un livello Di perfezione alto Possono trovarsi Molte anime buone Non è nemmeno Bene di stogliere E dissuadere tutti Va deciso Dopo aver preso In esame Lo stato interiore Di ciascuno In particolare Sarebbe imprudente Consigliare a tutti Indiscriminatamente La comunione Frequente Ma sarebbe Ugualmente Imprudente Biasimare Biasimare Chi la facesse Soprattutto Quando c'è di mezzo Il parere Di un prudente Direttore Di spirito Bella la risposta Di Santa Caterina Da Siena Quando A proposito Della sua comunione Quotidiana Le fu citato Sant'Agostino Che non loda E non Biasima Chi si comunica Tutti i giorni Ebbene Disse Poiché Sant'Agostino Non lo biasima Prego anche voi Di fare altrettanto E mi basta Ma vedi bene Filotea Che Sant'Agostino Esorta E consiglia Con forza Di fare la comunione Tutte le domeniche Falla anche tu Più spesso Che puoi Già che io Lo credo Tu non hai Alcun affetto Al peccato mortale E nemmeno Al peccato veniale Sei nella disposizione Richiesta da Sant'Agostino E anche qualcosa di più Perché Non solo Non hai L'affetto A peccare Ma Non hai nemmeno L'affetto al peccato Se che Se il tuo padre Spirituale Lo trova bene Puoi fare la comunione Anche più spesso Di ogni domenica Possono tuttavia Sorgere molte difficoltà Non da parte tua Ma da parte di coloro Che vivono con te Che potrebbero consigliare Al tuo saggio direttore Di non farti comunicare Così spesso Se per esempio Tu sei sottomessa A qualcuno E coloro A cui devi obbedienza E rispetto Siano così mal distruiti E così strani Da sentirsi inquieti E turbati Nel vederti fare la comunione Così spesso Nel caso Tutto considerato Sarà bene andare incontro Alla loro malattia E fare la comunione Soltanto ogni 15 giorni Ciò solo nel caso Che la difficoltà Non possa essere superata In un altro modo In questo campo Non bisogna dare direttive generali Occorre stare A quanto dice Il padre spirituale Tuttavia Mi sento in obbligo Di affermare Con certezza Che la massima distanza Tra una comunione E l'altra Non deve superare il mese Almeno in quelli Che intendono Servire Dio Devotamente Se sai essere Molto prudente Non c'è né madre Né moglie Né marito Né padre Che ti impedisca Di comunicare spesso E sai perché Perché il giorno In cui avrai fatto La comunione Non diminuirai La cura Per quello Che fa parte Dei doveri Del tuo stato Anzi Sarai più dolce E gentile E non rifiuterai L'adempimento Di nessun dovere La conseguenza Sarà che gli altri Non avranno alcun interesse A dissogliarti Da questo esercizio Che non a causa Loro Alcun pregiudizio A meno che Non siano Gretti E incapaci Di ragionare In tal caso Come già detto Usa Condiscendenza Secondo il consiglio Del tuo direttore Devo aggiungere Una parola Per la gente sposata Dio Nell'antica legge Trovava a cosa Fatta male Che i creditori Esigessero il loro debito Nel giorno di festa Ma Non se l'aveva male Se il debitore Pagava Rendeva il debito A chi lo esigeva E cosa poco conveniente Benché Non sia un grande peccato Chiedere la soddisfazione Del debito coniugale Nel giorno in cui Si è fatta la comunione Ma Non è sconveniente Anzi direi Che è meritorio Renderlo Ecco perché A causa di tali doveri Nessuno deve essere Privato della comunione Quando la sua devozione Lo spinge a chiederla Nella chiesa primitiva I cristiani Comunicavano Tutti i giorni Pur essendo sposati E benedetti Da tanti figli Ecco perché Ho detto Che la comunione frequente Non deve generare Alcuna sorta di problemi Né ai papà Né alle mamme Né ai mariti Né alle mogli Pur che l'anima Che si accosta Alla comunione Sia prudente E discreta Quanto alle malattie corporali Non ce n'è alcuna Che impedisca Questa santa partecipazione Eccetto quelle Che causano Vomito Molto frequente Per fare la comunione Ogni otto giorni Occorre Non avere peccati mortali E non avere affetto Al peccato veniale E avere un grande desiderio Di fare la comunione Ma per fare la comunione Tutti i giorni Oltre a ciò Bisogna aver superato La maggior parte Delle cattive inclinazioni Ed avere il parere favorevole Del padre spirituale Capitolo ventunesimo Come bisogna fare La comunione La preparazione Alla santa comunione Comincia la sera precedente Con molte aspirazioni E slanci d'amore Retirati per tempo In camera tua Prima del solito Così il mattino seguente Starei pronta Per alzarti più presto Se durante la notte Dovessi svegliarti Metti subito nel cuore E sulla bocca Qualche pensiero odoroso Per profumare la tua anima E prepararla A ricevere lo sposo Che veglia Mentre dormi E si prepara Ad arricchirti Di infinite grazie Ai favori Se sei pronta A riceverli Al mattino Alzati con grande gioia Per la felicità Che speri E dopo esserti Confessata Va Con grande fiducia Ma anche Con grande umiltà A ricevere Quel cibo celeste Che ti nutre Per l'immortalità Dopo aver pronunciato Dopo aver pronunciato Le sante parole Signore Non son degna Non muovere più Nella testa Nelle labbra Non per pregare E ancor meno Per sospirare Ma apri dolcemente E miele Lo trasporta La situazione interiore Deve essere di progredire Fortificarti E stabilizzarti Nell'amore di Dio Perché quello Che ti è dato Soltanto per amore Tu lo devi ricevere Con amore Non è possibile Immaginare Salvatore Impegnato In un'azione Più piena di amore E più tenera Di questa Nella quale Si può dire Che distrugga Se stesso Riducendosi in cibo Per entrare Nelle nostre anime E unirsi Intimamente Al cuore E al corpo Dei fedeli Se ti domandano Perché tu fai La comunione Così spesso Rispondi Che è per imparare Ad amare Dio Per purificarti Dalle imperfezioni Per liberarti Dalle miserie Per consolarti Nelle afflizioni Per trovare sostegno Nelle debolezze Rispondi Che sono due Categorie di persone Che devono fare Spesso la comunione I perfetti Perché essendo Ben disposti Farebbero molto male A non accostarsi La solgente Alla perfezione E gli imperfetti Per poter camminare Verso la perfezione I forti Per non rischiare Di scoprirsi Deboli E deboli Per diventare forti I malati Per guarire E i sani Per non ammalarsi Tu puoi Creatura imperfetta Debole E ammalata Hai bisogno Di comunicare Spesso Con la perfezione La forza E il medico Rispondi Che coloro I quali Non hanno Molte occupazioni Devono fare La comunione Perché ne hanno Il tempo Quelli invece Che sono molto occupati La devono fare Perché ne hanno bisogno Perché chi Lavora molto Ed è carico Di preoccupazioni Deve nutrirsi Di cibi sostanziosi E mangiare spesso Comunicati spesso Filotea Più spesso Che puoi Secondo il parere Del tuo padre Spirituale E credimi Le lepri Qui da noi Sulle nostre montagne In inverno Diventano bianche Perché non vedono E non mangiano Che neve Anche tu A forza di adorare Di nutrirti Di bellezza Di bontà Della stessa purezza Di questo Divin sacramento Diventerai bella Santa E pura Terza parte Contiene molti consigli Per l'esercizio Delle virtù Capitolo primo La scelta necessaria Nell'esercizio Delle virtù Come la regina Delle api Non esce mai Senza essere circondata Da tutto il suo Piccolo popolo Così la carità Non entra mai In un cuore Senza condurre Al suo seguito Tutte le altre virtù Come un buon capitano Le mantiene Tutte in esercizio E le impiega In vari compiti Come soldati Chi per un servizio Chi per un altro Chi in un modo Chi in un altro Chi prima E chi dopo Chi in questo luogo Chi in quell'altro Il giusto È come un albero Piantato lungo Un corso d'acqua Che porta i frutti Nella sua stagione Quando la carità Entra in un'anima Produce in essa Frutti di virtù Ciascuno A suo tempo La musica Briosa Tanto gradevole In sé Può essere fuori luogo In un lutto Sono molte Da avere il difetto Che ora ti dico Siccome Si sono impegnati In una determinata virtù Si interstansiscono A volerla praticare In tutte le circostanze E vogliono O piangere Senza interruzione O ridere Senza fine Proprio come Certi antichi Filosofi Anzi Fanno di peggio Trovano da ridire E coprono di biasimo Quelli che non li seguono Nell'esercizio Delle loro virtù L'Apostolo dice Che bisogna Rallegrarsi Con quelli Che sono contenti E piangere Con quelli Che sono afflitti Dice anche Che la carità È paziente E benevola Aperta E prudente Accondiscendente Ci sono A dire il vero Delle virtù Che hanno Un impiego Quasi universale Per cui Non soltanto Non devono essere Praticate Separatamente Ma anzi Devono arricchire Delle loro qualità Gli atti di tutte Le altre virtù Per esempio Le occasioni Di praticare La forza La magnanimità La munificenza Non sono Molto frequenti Altre virtù Invece Come La dolcezza La temperanza L'onestà E l'umiltà Devono dare colore Splendore Agli atti Di tutte le altre virtù Non è Che non ci siano Virtù Superiori In eccellenza Ma il fatto È che Queste sono richieste Con maggior frequenza Lo zucchero È più buono Del sale Ma il sale Ha un impiego Più frequente E più generale Questa è la ragione Per la quale Occorre avere Sempre pronta Una buona provvista Di queste virtù Generali Si può dire Che il loro impiego Sia necessario Quasi ininterrottamente Nell'esercizio Delle virtù Dobbiamo dare La precedenza A quelle più utili Al compimento Del nostro dovere Non a quelle Che ci piacciono Di più A Santa Paola Piacevano le asprezze Delle mortificazioni Corporali Per godere Più facilmente Delle dolcezze Dello spirito Ma il suo primo dovere Era l'obbedienza Ai superiori Questa è la ragione Per la quale San Girolamo Dice che era Da riprendere Perché si dava Digiuni incontrollati Contro il parere Del suo vescovo Gli apostoli Per contro Istituiti per Predicare il Vangelo E distribuire Il pane celeste Alle anime Giudicarono Cosa molto Ben fatta Per poter Esercitare Tale mansione Senza distrazioni Tralasciare La pratica Della virtù Della cura Dei poveri Che pure In sé È ottima Ogni vocazione Ha le sue virtù Particolari Le virtù proprie Di un vescovo Non sono quelle Di un principe Le virtù adatte Ad un soldato Non sono quelle Di una donna sposata Quelle di una vedova Sono altre ancora È vero Che tutti Devono possedere Tutte le virtù Ma questo Non vuol dire Che debbano praticarle Allo stesso modo Ognuno Deve impegnarsi In modo tutto speciale In quello proprio Dello stato In cui è stato chiamato Tra le virtù Che non riguardano In modo specifico Il nostro stato Dobbiamo dare La preferenza Alle migliori E non alle più Appariscenti Alla vista Le comete Sembrano più grandi Delle stelle E ai nostri occhi Hanno una dimensione Maggiore E invece Non sono nemmeno Paragonabili Alle stelle Né per grandezza Né per luminosità Ci sembrano Più grandi Solo perché Sono più vicine A noi E composte Di materiale Più grossolano Di quello Delle stelle Lo stesso avviene Per certe virtù Che per il fatto Che sono più vicine A noi Sono sensibili E direi quasi Palpabili Il popolino Le stima molto E le preferisce Per questo Rimane più colpito Dalla limosina Materiale Che da quella Spirituale Antepone Antepone il Cilicio Il digiuno La nudità La disciplina E le mortificazioni Del corpo Alla dolcezza Alla bontà Alla modestia E altre mortificazioni Nel cuore Se vogliamo Essere onesti Queste ultime Sono di molto Migliori Tu Filotea Devi scegliere Le virtù Più consistenti Non quelle Che godono Di maggior stima Le più efficaci Non le più Appariscenti Le migliori Non le più Onorate E' bene Che ognuno Scelga L'esercizio Particolarmente Intenso Di qualche virtù Non per questo Abbandonando Le altre Ma per tenere Sempre Abitualmente Il proprio Spirito Ordinato E occupato Una giovane donna Bellissima Splenda Più del sole Vestita Come una regina Cinta Di una corona Di olivo Apparve a San Giovanni Vescovo di Alessandria E gli disse Sono la figlia Primogenita Del re Se mi accetti Come amica Ti condurrò Alla sua presenza La riconobbe Era la misericordia Verso i poveri Che Dio Voleva da lui Vi si consacrò Con tanta Seduità Che fu chiamato San Giovanni E le Mosiniere Eulogio di Alessandria Desiderava compiere Qualche cosa Di speciale Per il signore Siccome Non aveva Abbastanza salute Per abbracciare La vita Dell'eremita O per porsi Sotto l'obbedienza Di un altro Accolse Presso di sé Un emarginato Dalla società Campione di ogni vizio E ladroneria Per esercitare Nei suoi confronti La carità E la mortificazione Per farlo ancora meglio Fece voto Di onorarlo Trattarlo E servirlo Come un domestico Nei confronti Del suo padrone Signore Ad un certo momento Sia l'uno Che l'altro Ebbero la tentazione Di separarsi Chiesero consiglio Al grande Sant'Antonio Che disse Figli miei Guardatevi bene Da separarvi Uno dall'altro Siete oramai Prossimi alla vostra fine E se l'angelo Non vi trova insieme Correte grande pericolo Di perdere Le vostre corone Il re San Luigi Considerava un premio Visitare gli ospedali E serviva Agli ammalati Di persona San Francesco Amava tanto La povertà Che la chiamava La sua signora San Domenico San Domenico Invece amava tanto La predicazione Che ne ha dato il nome Ai suoi frati San Gregorio Il Grande Sull'esempio di Abramo Trattava i pellegrini Con affetto E il re della gloria Gli fece lo stesso onore Che aveva fatto Al patriarca Abramo Presentandosi a lui In veste di pellegrino Tobia Esercitava la virtù Della sepoltura Dei morti Santa Elisabetta Che pure Era una grande principessa Amava l'abiazione Di se stessa Santa Caterina Da Genova Rimasta vedova Si consacrò Al servizio Degli ospedali Cassiano Racconta Che una ragazza Devota Volendo esercitare La virtù Della pazienza Ricorse A Santa Atanasio Che le pose A fianco Una vedova triste Collerica Dispettosa Insofferente Che Aggredendola Senza interruzione Gli diede modo Di praticare Alla perfezione La dolcezza E la condiscendenza Tra i servitori Di Dio C'è chi si impegna Nel servizio Dei malati Chi ad aiutare I poveri Chi a promuovere La conoscenza Della dottrina Cristiana Tra i piccoli Chi a radunare Le anime perdute O smarrite Chi a preparare Le chiese E ad ornare Gli altari Chi a procurare La pace E la concordia Tra gli uomini Inciò Imitano I ricamatori I quali Su fondi Diverse Dispongono In studiata Varietà Le sete L'oro L'argento Per formare Fiori Di ogni specie La stessa cosa Fanno quelle anime Pie che iniziano Uno speciale esercizio Di devozione Tale devozione Serve loro da fondo Per il ricamo Spirituale Sul quale poi Impostano le variazioni Di tutte le altre virtù In tal modo Mantengono i loro atti E i loro affetti Uniti e ordinati Proprio in forza Del rapporto In cui mantengono Le singole virtù Con la principale Per tale motivo Il loro spirito Appare nel suo bel vestito Di broccato d'oro Ricamato e trapunto Di vari motivi Al lago Quando siamo combattuti Da qualche vizio Abbracciamo la virtù Contraria Sempre che siamo In condizione di farlo Riconducendo Le altre A quella In tal modo Sconfiggeremo Il nemico E continueremo A progredire In tutte le virtù Se sono combattuto Dall'orgoglio E dalla collera Devo assolutamente Chinarmi E piegarmi All'umiltà E la dolcezza Per riuscirvi Ricorrerò All'orazione Ai sacramenti Alla prudenza Alla costanza Alla sobrietà Prendo il paragone Del cinghiale Il quale Per rendere a guzze Le zanne Di difesa Le sfrega E le appuntisce Con l'aiuto Degli altri denti Il che fa sì Che tutti Ne risultino Affilati E taglienti Allo stesso modo L'uomo virtuoso Che ha iniziato L'opera Della perfezione Deve limare E affilare Quella virtù Della quale Sente maggiormente Il bisogno Per la propria difesa E questo Per mezzo Dell'esercizio Delle altre virtù Che a loro volta Mentre affilano Quella Ne traggono vantaggio Migliorano E risultano Meno ruvide Così Capitò a Giobbe Che esercitando In modo particolare La virtù Della pazienza A causa Di tante tentazioni Cui era sottoposto Finì col diventare Perfettamente Santo e virtuoso In tutte le virtù E sotto ogni aspetto Secondo Quanto dice San Gregorio Di Nazianzo Può capitare Che Per uno solo Atto Perfetto Di una virtù Qualcuno Raggiunga L'apice Di tutte le virtù Come esempio Porta Rahab Che per aver praticato In modo perfetto L'ospitalità Giunse a Somma gloria Ciò si deve Intendere Solo per i casi In cui l'atto È stato Veramente perfetto E animato Da un grande Fervore Di carità Capitolo Secondo Continuazione Del medesimo Discorso Sulla scelta Della virtù Molto bene Dice Sant'Agostino Quando afferma Che coloro I quali Iniziano Il cammino Della devozione Commettono Certi errori Che Stando a rigore Dei canoni Sulla perfezione Sono Biasimevoli Ma per un altro Verso Sono lodevoli Perché sono Segno Della grande Pietà Che seguirà Ne sono In certo modo L'avvio Il timore servile Frutto D'ignoranza Che genera Scrupoli Eccessivi Nelle anime Di coloro Che escono Dall'abitudine Al peccato All'inizio Può essere Una virtù Raccomandabile Fa prevedere Con sicurezza Una retta Coscienza In futuro Se lo stesso Timore Dovesse Persistere In coloro Che hanno Già fatto Un certo Progresso Sarebbe Un segno Negativo Perché nel cuore Di costoro Deve dominare L'amore Che per gradi Elimina Il timore Servile Agli inizi San Bernardo Era rigido E rude Con coloro Che si ponevano Sotto La sua direzione Diceva loro Per prima cosa Che era necessario Abbandonare il corpo Per continuare Verso di lui Solo Con lo spirito Quando ascoltava Le loro confessioni Aggrediva Con tale severità Ogni loro difetto Per piccolo Che fosse E faceva Pressioni Con tanta forza Su quei poveri Principianti Che volendo Spingerli Con troppa forza Verso la perfezione Finiva per farli Rinunciare E tornare indietro Sotto quelle pressioni Ininterrotte Si scoraggiavano E si sentivano Incapaci Di affrontare Una salita Così ripida E così lunga Se rifletti Un po' Filotea Giungi Alla conclusione Che si trattava Di uno zelo Molto bruciante Di un'anima perfetta Che consigliava A quel grande santo Quel tipo di metodo Quello zelo Era senz'altro Una grande virtù In sé Ma una virtù Che pur Essendo tale Nel caso specifico Era da riprovare Dio stesso Gli apparve E lo corresse E colmò La sua anima Di uno spirito Dolce Soave Amabile E tenero Che lo resero Totalmente Un altro Si accusò Di essere Troppo rigido E severo E si trasformò In un uomo Tanto cordiale E arrendevole Con tutti Da potergli applicare Il detto Tutto a tutti Per conquistare tutti San Gerolamo Racconta Che la sua cara Figlia spirituale Santa Paola Non solo Era portata All'esagerazione Ma era testarda Nella pratica Delle mortificazioni Corporali Fino a non volersi Arrendere Al parere contrario Che il suo vescovo Sant'Epifanio Le aveva espresso Al riguardo Oltre a ciò Si era lasciata andare Talmente al pianto Per la morte Dei suoi Che aveva rischiato Di morire San Gerolamo Conclude Mi direte Che anziché Tessere le lodi Di questa santa Sto scrivendone Critiche E rimproveri Ma Davanti a Gesù Che ella Ha servito E che io Voglio servire Affermo Che non mento Né pro Né contro Come cristiano Di una cristiana Voglio dire Che io Ne sto scrivendo La storia E non un panegirico I suoi vizi Sono virtù Per gli altri Si intende dire Che gli scarti E difetti Di santa paola Sarebbero state Virtù In un'anima Meno perfetta Se consideriamo Seriamente Le cose Troveremo Degli atti Che vengono Considerati Difetti In coloro Che sono perfetti Che potrebbero Essere considerate Grandi perfezioni In coloro Che sono Imperfetti In uno Che esce Dalla malattia È buon segno Avere le gambe Gonfie Perché dimostra Che la natura Ha già ripreso vigore E si sbarazza Degli umori Superflui Ma Lo stesso sintomo Sarebbe cattivo indizio In una persona Non malata Perché starebbe A indicare Che la natura Non ha sufficiente vigore Per eliminare E assorbire Gli umori Filotea Bisogna avere Una buona opinione Di quelli Che vediamo Impegnati Nella pratica Delle virtù Anche se Frammiste Ha imperfezioni Anche i santi Li hanno praticati In tal modo Per quello Che ci riguarda Personalmente Dobbiamo impegnarci Ad esercitarle Molto seriamente Non soltanto Con fedeltà Ma anche Con prudenza A tal fine Facciamo nostro Il consiglio Del saggio Non fare affidamento Sulla tua prudenza Ma su quella Di coloro Che Dio Ti ha dato Per guidarti Ci sono Alcune cose Che molti Considerano virtù E invece Non lo sono affatto Bisogna Che te ne parli Un po' Sono Le estasi I rapimenti L'insensibilità L'insensibilità L'impassibilità L'unione Deificante Le elevazioni Le trasformazioni E simili Perfezioni Su cui si dilungano Alcuni libri Che promettono L'elevazione Dell'anima Fino alla Contemplazione Puramente Intellettuale All'adesione Essenziale Dello spirito E alla vita Superiore Vedi Filotea Queste perfezioni Non sono virtù Ma piuttosto Ricompense Che Dio concede Come premio Alle virtù O meglio ancora Saggi della felicità Della vita futura Che qualche volta Il Signore fa Intravedere Agli uomini Per far loro Desiderare Il tutto Lassù In paradiso Questa Non è una ragione Per esigere Tali grazie Anche perché Non sono In nessun modo Necessarie Per servire E amare Dio Che deve essere La nostra unica Aspirazione Non sono Grazie Che possono Essere conquistate Con lavoro E impegno Perché Più che di azioni Si tratta Di passioni Che siamo In grado Di ricevere Ma non Di procurare Aggiungo Che noi Abbiamo iniziato Un cammino Per diventare Persone oneste Gente devota Uomini Pi Donne Pie Ecco perché Dobbiamo impegnarci Sediamente Se poi Dio ha deciso Di innalzarci Fino a quelle Perfezioni angeliche Sapremo essere Anche dei buoni Angeli In attesa Con molta Semplicità Umiltà E devozione Esercitiamoci Alle piccole Virtù Messe dal nostro Signore Alla portata Del nostro Impegno E del nostro Lavoro E sono ad esempio La pazienza La bontà La mortificazione Del cuore L'umiltà L'obbedienza La povertà La castità La dolcezza Nei confronti Del prossimo La sopportazione Delle sue Imperfezioni La diligenza E il fervore Delle cose Sante Lasciamo volentieri Le altezze Alle anime Grandi Non siamo Capaci Di un ruolo Così elevato Nel servizio Di Dio Saremo già Contenti Di poterlo Servire In cucina O come Fornai Suoi servi Suoi facchini Magari Suoi camerieri E lui Soltanto Che può Decidere Chi chiamarci A far parte Degli intimi E del consiglio Privato E così Filotea Perché Questo re Di gloria Non dà Ai suoi servi Le ricompense Secondo il livello Dei compiti Assegnati Ma Secondo l'amore E l'umiltà Che hanno messo Nell'esercitarli Saul Cercava le asine Di suo padre E trovò Il regno Di Israele Rebecca Abeverò I cammelli Di Abramo E divenne Sposa Del figlio Ruth Dopo aver Spigolato Dietro Ai mititori Di Boz Si caricò Ai suoi piedi Ma egli La volle A suo fianco E divenne Sua sposa La pretesa Di cose Straordinarie Così alte Ed elevate È facilmente Occasione Di illusioni Inganni E falsità Capita qualche volta Che coloro i quali Pensano di essere Angeli Non siano nemmeno Uomini Come si deve In loro In loro Alla prova Dei fatti Trovi Soltanto Sfoggio Di parole E termini Magniloquenti Ma vuoti Di sentimenti E assenze Di opere Tuttavia Non è bene Disprezzare E censurare In modo Temerario Benediciamo Dio Per la superiorità Degli altri Ma rimaniamo Nel nostro cammino Che corre Più a valle Ma è più sicuro Meno appariscente Ma più alla portata Della nostra insufficienza E della nostra pochezza E se noi Ci manteniamo In quello Con umiltà E fedeltà Dio Ci innalzerà A grandezze maggiori Capitolo terzo La pazienza Voi avete bisogno Di pazienza Affinché Facendo La volontà Di Dio Meritiate Di conseguire La sua promessa Dice l'Apostolo Il Salvatore Aveva detto Con la pazienza Conquisterete La padronanza Delle vostre anime Dominare La propria anima È la massima Aspirazione Dell'uomo E il dominio Dell'anima È commisurato Al livello Della pazienza Ricordati Spesso Che il nostro Signore Ci ha salvato Soffrendo Con costanza È nello stesso Modo Che noi Potremo operare La nostra salvezza Sopportando La sofferenza Le afflizioni Le ingiurie Le contraddizioni I dispiaceri Con la maggiore dolcezza Che ci sarà possibile Non limitare La tua pazienza A un genere Determinato Di ingiurie O di afflizioni Ma estendile A tutte quelle Che il Signore Ti manderà O permetterà Che tu incontri Alcuni Vogliono sopportare Soltanto Le tribolazioni Che procurano onore Come per esempio Essere feriti In guerra Essere prigionieri Di guerra Essere maltrattati A causa della religione Diventare poveri Per una lite Da cui sono usciti I vincitori Io dico che Costoro Non amano La tribolazione Ma soltanto L'onore Che ne deriva Il vero paziente Ossia Chi vuole servire Dio Sopporta Con animo uguale Le tribolazioni Unite al disonore E quelle Che danno onore Se ci disprezzano Ci attaccano E ci accusano I cattivi Per un uomo Di coraggio È una vera gioia Ma se quelli Che ci attaccano Ci accusano E ci maltrattano Sono gente per bene Amici I genitori Altri parenti Allora Sì che va bene Ho una stima maggiore Per la dolcezza Con la quale San Carlo Borromeo Sopportò a lungo Gli attacchi Che gli sferrava Pubblicamente Dal pulpito Un predicatore Di fama Appartenente Ad un ordine Rigorosissimo Nell'ortodossia Che non per tutti Gli altri attacchi Sopportati Le punture Delle api Fanno più male Di quelle Delle mosche Allo stesso modo Il male Che riceviamo Dalla gente Per bene E le opposizioni Che ci fanno Risultano Molto più Diffici da sopportare Che qualunque Altra Capita Abbastanza spesso Che due brave Persone Entrambi Con la migliore Intenzione Di questo mondo Per divergenza Di opinione Si facciano Guerra Senza quartiere Accanendosi L'uno Con l'altro Non essere Paziente Soltanto Nel momento Culminante Della tribolazione Ma anche In tutti Gli inconvenienti E i guai Che si trascina Dietro Molti Accetterebbero Anche di avere Qualche guaio A condizione Di non soffrirne Conseguenze Non sono dispiaciuto Di essere caduto In povertà Dirà uno Però Questo nuovo Stato di cose Mi impedisce Di essere utile Agli amici Di educare I miei figli E di vivere In modo decoroso Come avrei voluto Dirà un altro Io non mi Precuperei Se la gente Non dicesse Che è colpa mia C'è anche quello Che non tiene In alcun conto Le maldicenze Contro di lui E le sopporterebbe Volentieri Se i presenti Non prestassero Fede al maldicente Altri ancora Accettano di provare Qualche conseguenza Del male Ma A loro parere Tutte Sono troppe Non si impazientiscono Dicono di essere malati Ma solo perché Non hanno il denaro Per farsi curare Trovano anche la scusa Che in tale stato Sono di peso Agli altri Io dico Filotea Che occorre Sopportare Con pazienza Non solo Lo stato di malattia Ma anche la malattia Che Dio vuole Nel luogo Dove vuole Circondati Dalle persone Che vuole E con gli inconvenienti Che vuole E così Per tutte le altre Tribolazioni Quando sarai colpita Dal male Contrapponi Tutti i rimedi Che Dio ha messo A tua disposizione Agire diversamente Sarebbe Tentare La divina maestà Ma Una volta Fatto ciò Aspetta Con fiducia Totale L'effetto Che Dio Vorrà loro Concedere Se Dio Crede bene Che i rimedi Vincano il male Tu Lo ringrazierai Con umiltà Ma se invece Crede bene Di permettere Che il male Vinca i rimedi Benedicili Con pazienza Io sono Del parere Di San Gregorio Quando ti accusano Giustamente Di qualche colpa Realmente commessa Umigliati molto Confessa Che meriti L'accusa Che ti è stata mossa Se poi Sei accusata Ingiustamente Discolpati Con calma Prova Che non sei Colpevole Hai l'obbligo Di rispettare La verità Anche per il buon Esempio Al prossimo Ma se dopo La tua sincera E onesta Spiegazione Dei fatti A tua discolpa Gli altri Insistono Nel caricare Su di te Le responsabilità Dei fatti Non angustiarti In alcun modo E non cercare Altre strade Per far accettare La versione Autentica Dei fatti Sai perché? Dopo che hai reso Il suo Alla verità Rendilo ora All'umiltà Lamentati Meno che puoi Per i torti Che ricevi È un fatto Certo che Chi abitualmente Si lamenta Finisce per peccare È colpa Dell'amor proprio Che ingigantisce Per professione I torti subiti Ma quello Che più ti raccomando È di non andare A lamentarti Con persone facili All'indignazione E a pensare male Se proprio Non puoi fare meno Di lamentarti Con qualcuno Sia per riparare L'offesa Sia per Calmare te stessa Rivolgeti A persone calme Piene di amore Di Dio Se non farai così Il tuo cuore Invece di ricavarne Serenità Sarà spinto Ad essere ancora Più inquieto Invece di toglierti La spina Che ti punge Appena Te la conficcherebbero Più profondamente Nel piede Ci sono poi Alcuni Che quando Sono ammalati Affletti O offesi Da qualcuno Stanno ben attenti A non lamentarsi E a dimostrare Troppa Permalosità A loro parere Ed è vero Ciò darebbe prova Di grande debolezza E di mancanza Di generosità Ma poi Nel fondo Di loro stessi Desiderano intensamente Che qualcuno Li compatisca E si danno da fare Con mille arti A tale scopo Vogliono che tutti Sappiano Che loro Sono afflitti Ma anche pazienti E coraggiosi Ti pare Che quella Sia pazienza? Chiamala come vuoi Ma quella È soltanto Una finta pazienza In fondo È soltanto Un'abile Studiata ambizione È vanità Ne ricavano gloria Ma non davanti a Dio Il vero paziente Non si lamenta Del male E non desidera Essere compatito Ne parla Con naturalezza Sincerità E semplicità Senza lamenti Senza rimpianti Senza esagerazioni Se lo compatiscono Sopporta con pazienza I compatimenti A meno che Addirittura Siano per mali Che non ha In tal caso Con molta umiltà Farà notare Che quel male Non l'ha E poi si manterrà Con animo sereno Nella pace Tra la verità E la pazienza Ammettendo sì Il male Ma senza Lamentele Nelle contrarietà Che ti piomberanno Addosso Nell'esercizio Della devozione E vedrai Che non mancheranno Ricordati Della parola Di nostro signore La donna Quando partorisce Prova dolori Molto forti Ma tutto Dimentica Alla vista Del bambino Perché ha dato Un uomo Alla vita Nella tua anima Hai concepito Il figlio Più meraviglioso Di questo mondo Gesù Cristo Prima che sia dato Completamente Alla luce E generato Può darsi Che ti procuri Ansi e sofferenza Ma fatti animo Perché Passati quei dolori Ti rimarrà la gioia Senza fine Di aver dato Tale uomo Al mondo Per quello Che ti riguarda Sarà generato Totalmente Solo quando L'avrai formato Completamente Nel tuo cuore E nelle tue azioni Con limitazione Della sua vita Quando sarai malata Offri i tuoi dolori Inconvenienti E le debolezze Per il servizio Del signore E chiedili Con insistenza Di unirli A quanto Egli ha sopportato Per te Obbedisci al medico Prendi le medicine I cibi E gli altri rimedi Per amore di Dio Ricordati del fiele Che egli ha preso Per amore nostro Desidera pure Di guarire Per servirlo Ma non rifiutare Di essere ammalata Per obbedirgli E preparati Anche alla morte Se quella lui piacesse Per lodarlo E gioire con lui Le api Nel periodo In cui fanno il miele Vivono E si nutrono Con una sostanza Molto amara Lo stesso avviene Per noi Non potremmo Mai compiere Atti di grande Dolcezza e pazienza Fare il miele Della buona virtù Finché Non saremo capaci Di mangiare Il pane Dell'amarezza E vivere Tra le sofferenze Il miele Ricavato Dei fiori Di timo Piccola erba amara E senza confronti Il migliore Lo stesso È della virtù Esercitata Nell'amarezza Delle tribolazioni Più vile Basse E abbiette Guarda spesso Con gli occhi interiori Gesù Cristo Crocifisso Spogliato Bestemmiato Calugnato Abbandonato Oppresso Da ogni sorta Di mali Tristezze E ansie E pensa Che tutte Le tue sofferenze Non sono In alcun modo Paragonabili Alle sue Né per intensità Né per numero E pensa che mai Riuscirai a soffrire Per lui Quello che Egli ha sofferto Per te Considera i tormenti Atroci Sopportati dai martiri E le sofferenze Che tante persone Sopportano E che sono Senza confronto Più penose Delle tue E poi Di a te stessa Le contrarietà Che mi affliggono Sono consolazioni E le mie spine Sono rose A confronto Di coloro Che vivono In una morte Continua Oppressi da croci Infinitamente Più gravose E questo Senza aiuti Senza consolazioni Senza alcun sollievo Capitolo quarto L'umiltà esteriore Disse il profeta Eliseo Ad una povera vedua Prendi tutti i vasi vuoti Che hai E riempili d'olio Per ricevere la grazia Di Dio Nei nostri cuori Dobbiamo vuotarli Di noi stessi Il gheppio Stridendo E fissando Gli uccelli da preda Li mette in fuga Per una forza misteriosa Per questo È il preferito Delle colombe Che vicino a lui Si sentono sicure Allo stesso modo L'umiltà Respinge Satana E conserva in noi Le grazie E i doni Dello Spirito Santo È per questo Che i santi E in modo particolare Il re dei santi E sua madre Onorano E amano L'umiltà Più di tutte Le altre virtù morali Sono diverse Le ragioni Per le quali Dobbiamo Considerare Vana la gloria Che ci viene attribuita O perché Non è in noi O anche perché Pur essendo in noi Non è nostra O anche perché Pur essendo in noi Ed essendo nostra Non è meritata La nobiltà Spetta al cavallo Allo struzzo Al sarto Ci vuole proprio Un bel coraggio Per prendere in prestito Un po' di stima Da un cavallo Da una piuma O da una piega Dell'abito Altri si sentono Importanti E si danno E si danno delle arie Per un bel paio Di baffi all'insù Per una barba Ben curata Per i capelli Ricciuti Per le mani delicate Perché sanno Danzare Giocare Cantare E non ti pare Che anche questi Abbiano una Rotellina fuori posto Vorrebbero aumentare Il proprio pregio E la propria Reputazione Con cose Frivole E insulse Ci sono poi Quelli che Per quel poco Che sanno Esigono onore E rispetto Dal mondo intero Tutti dovrebbero Secondo loro Precipitarsi A imparare Qualcosina Alla loro scuola Loro si sentono Maestri La gente Li considera Soltanto Depedanti Ci sono anche Quelli che sono Convinti Di essere Molto belli E credono Che tutti Li corteggino Tutto ciò È tremendamente Vuoto Sciocco E senza senso La gloria Che proviene Da valori Così insignificanti Deve essere Ritenuta Vana Sciocca E frivola Il bene vero Si conosce Come il vero Balsamo La prova Della genuinità Del balsamo Si fa Distillandolo Nell'acqua Se va a fondo E rimane sommerso È valutato Finissimo E prezioso Allo stesso modo Per sapere Se un uomo È veramente saggio Sapiente Generoso Nobile Bisogna vedere Se le sue doti Tendono all'umiltà Alla modestia Al nascondimento In tal caso Si tratta di doti Genuine Ma se galleggiano E si mettono in mostra Sono false E tanto maggiore Saranno gli sforzi Che faranno Per farsi notare Tanto più Sarà evidente Che non sono doti Autentiche Le perle Nate e cresciute All'aperto Al vento E al rumore Di tuoni Hanno soltanto L'involucro Di perle Dentro Sono vuote Allo stesso modo Le virtù E le belle qualità Degli uomini Nate e cresciute Nell'orgoglio Nell'esaltazione Di sé E nella vanità Hanno soltanto L'apparenza Del bene Senza linfa Senza midollo E senza solidità Gli onori La stirpe Le dignità Sono come lo zafferano Più lo calpesti E più se rinforza Rende bene Essere belli Quando ci si tiene Perde il suo pregio La bellezza Per piacere Deve essere disinvolta La scienza Ci rende ridicoli Quando ci gonfia E degenera In pedanteria Se siamo puntigliosi Per la stirpe Per il rango Per i titoli Offriamo le nostre qualità All'esame sindacatore Degli altri Alla loro inchiesta Su di noi All'indagine E così Ci ritroveremo Le nostre credute qualità Suotate E scostanti Sì Perché l'onore Che è bello Quando è ricevuto In dono Diventa dozzinale E di nessun pregio Quando è preteso Cercato E mendicato Quando il pavone Fa la ruota Per farsi notare Drizzando le sue belle piume Scopre tutto il resto E fa vedere Da tutte le parti Ciò che ha di meno bello I fiori sono belli Quando sono piantati In terra Una volta staccati Appassiscono Il profumo Della mandragora Può esserci di aiuto Per capire Coloro che la odorano Da lontano E di passaggio Ne rimangono conquistati Ma coloro Che la odorano Da vicino E con insistenza Ne rimangono Intontiti O addirittura Ammalati Lo stesso avviene Per gli onori Che danno Una dolce consolazione A chi li gode Da lontano E solo Leggermente Senza spenderci troppo E diventare ansioso Ma chi ci si attacca E se ne ciba Merita di essere Biasimato E ripreso La ricerca E l'amore Della virtù Ci rende già Un po' virtuosi La ricerca E l'amore Degli onori Invece Ci rende soltanto Meritevole Di disprezzo Di rimprovero Le persone serie Non perdono tempo Nell'utile groviglio Di gerarchie Di onori Di saluti Hanno altro da fare Questo è un terreno Per il perditempo Chi può avere perle Non va alla ricerca Di conchiglie Coloro che tendono Alla virtù Non si agitano Alla caccia di onori Ognuno ha diritto Di rimanere Nel proprio rango Senza mancare Di umiltà A condizione Che ciò avvenga Con naturalezza E senza contese Mi sembra Che si possa fare Un paragone Con quelli Che tornano dal Perù I quali Oltre all'oro E all'argento Portano con sé Anche scimmi E pappagalli Costano poco E non pesano molto Per il carico Della nave Così è di coloro Che tendono Alla virtù Senza per questo Lasciare il loro rango E gli onori Inerenti A condizione Che ciò Non sottragga loro Troppo tempo E troppa attenzione E che sia Senza aggravarsi Di dubbi Di inquietudine Di dispute E di contese Tuttavia Non parlo Di coloro La cui dignità È in rapporto Con una carica pubblica E nemmeno Di alcune situazioni Particolari Nelle quali Le conseguenze Potrebbero incidere Negativamente In tali casi Ognuno deve rimanere Al posto Che gli compete Con prudenza E discrezione Accompagnate sempre Da carità E cortesia Capitolo quinto L'umiltà interiore Tu Filotea Mi chiedi di condurti avanti Nell'umiltà Quello che ho detto Finora riguarda più Il campo della saggezza Che quello dell'umiltà Quindi Andiamo avanti Molti Non vogliono pensare Alle grazie Che Dio Ha dato loro Personalmente Non ne hanno il coraggio Perché temono di cadere Nella vanagloria E nel vuoto compiacimento E qui si sbagliano Santo Maso d'Aquino Dice che il mezzo Per giungere All'amore di Dio È il pensiero Dei suoi benefici Meglio li conosciamo E più amiamo Dio Direi proprio Che niente Può umiliarci Di fronte Alla misericordia Di Dio Quanto i suoi benefici E niente Può umiliarci Di fronte Alla sua giustizia Quanto le nostre offese Pensiamo A quello Che egli ha fatto Per noi E a quello Che noi Abbiamo fatto Contro di lui E come Dobbiamo pensare I nostri peccati Più piccoli Dobbiamo pensare Alle sue grazie Più piccole Non dobbiamo Temere Che conoscere I doni Che ha posto In noi Ci gonfi È sufficiente Che abbiamo Sempre presente Questa verità Ciò che di buono C'è in noi Non viene da noi Rifletti I muli Animali pesanti E maleoduranti Non cessano Di essere tali Solo perché Sono carichi Di mobili preziosi E profumati Appartenenti Al principe Che cosa abbiamo Di buono Che non ci sia Stato dato E se c'è stato dato Perché Insuperbircene È proprio Il contrario La seria Riflessione Sui doni ricevuti Ci rende Umili La conoscenza Genera La riconoscenza Ma se poi Vedendo i doni Di Dio In noi Venisse a sollecitarci In qualche modo La vanità C'è sempre pronto Un rimedio Infallibile Pensiamo Alla nostra Ingratitudine Alla nostra Imperfezione Alla nostra Miseria Se pensiamo Ai guai Che abbiamo Combinato Quando Dio Non era Con noi Scopriremo Subito Che quanto Di buono Riusciamo A imbastire Con Lui Non è Nel nostro Stile E del nostro Sacco Ne proveremo Gioia Sincera Perché il bene C'è Ma ne daremo Il merito A Dio Perché Lui Solo Ne è L'autore La Santa Vergine Dice che Dio Opera in lei Meraviglie E lo fa soltanto Per umiliarsi E dare gloria A Dio La mia anima Magnifica Il Signore Dice Perché ha fatto In me cose grandi Spesso diciamo Che non siamo Nulla Anzi Che siamo La miseria In persona La spazzatura Del mondo Ma resteremmo Molto male Se ci prendessero La lettera E se ci considerassero In pubblico Secondo Quanto diciamo È proprio Il contrario Fingiamo Di fuggire Di nasconderci Solo perché Ci inseguono E ci cerchino Ti mostriamo Di voler essere Gli ultimi Seduti proprio All'ultimo angolino Della tavola Ma soltanto Per passare Con grande onore A capotavola L'umiltà vera Non finge Di essere umile A fatica Dice parole Di umiltà Perché Il suo intendimento Non solo Nascondere Le altre virtù Ma soprattutto Vorrebbe riuscire A nascondere Se stessa Se le fosse Lecito mentire O addirittura Scandalizzare Il prossimo Prenderebbe Atteggiamenti Arroganti E superbi Per poterci Si nascondere E vivere Completamente Ignorata E nascosta Eccoti il mio parere Filotea O evitiamo Di dire Parole di umiltà Oppure Diciamole Con profonda Convenzione Profondamente Rispondente Alle parole Non abbassiamo Gli occhi Senza umiliare Il cuore Non giochiamo A fare gli ultimi Se non intendiamo Esserlo Per davvero Questa è La mia regola Generale E non faccio Alcuna eccezione Aggiungo Soltanto Questo La buona educazione Esige Qualche volta Che cediamo La precedenza A persone Che certamente Non l'accetteranno Questa non è Doppiezza O falso Umiltà In tal caso L'offerta Della precedenza È un segno D'onore E poiché Non c'è concesso Di tributarlo A chi Di dovere Secondo il merito Non è cosa fatta male Darne almeno Un piccolo segno Questo vale anche Per alcune espressioni Di onore E di rispetto Che Strettamente prese Non sembrano Rispecchiare La verità Ma lo sono Abbastanza Se colui Che le pronuncia Ha seriamente L'intenzione Di onorare E dimostrare Rispetto A colui Cui sono indirizzate Anche Le parole Se hanno Significato Che va oltre La nostra intenzione Non facciamo Nulla di male A servircene Quando l'uso È corrente Personalmente Preferirei Che le parole Fossero rispondenti Il più fedelmente Possibile Ai nostri pensieri E questo Per poter Seguire Sempre E dappertutto La linea Della semplicità E della spontaneità Affettuosa L'uomo Sinceramente Umile Sarebbe Più contento Se fosse Un altro Anziché Lui stesso A dire Di lui Che è un miserabile Un nulla Un buono A nulla O perlomeno Se sa Che si dice Non si oppone Ma a prova Di cuore Perché Se è vero Che ne è convinto È naturale Che ne sia contento Di vedere condivisa La sua opinione Molti affermano Molti affermano Che vogliono Lasciare L'orazione mentale Ai perfetti Perché essi Non ne sono degni Altri Protestano Che non hanno Il coraggio Di fare spesso La comunione Perché non si sentono Suffigentemente Purificati Altri ancora Dicono Di temere Di essere causa Di disonore Per la devozione Se ci si impegnano A causa Della loro enorme Miseria E fragilità Altri Rifuggono Dal mettere I loro talenti Al servizio Di Dio E del prossimo Perché Dicono Conoscono La loro debolezza E potrebbero Inorgoglirsi Vedendosi strumenti Di qualche cosa Di buono Temono Di consumarsi Facendo luce Agli altri Tutte queste Preoccupazioni Sono soltanto Inganni Una sorta Di umiltà Non soltanto Falsa Ma perversa Per mezzo Della quale Con molta Sottigliezza E senza dirlo Si critica L'operato Di Dio O almeno Si tenta Di coprire Di umiltà L'orgoglio Della propria Opinione Della propria Indole Della propria Pigrizia Domanda Dio Un segno Dall'alto Dal cielo O dal basso Dal profondo Del mare Dice il profeta All'infelice Accaz Che risponde No Non lo domanderò E non tenterò Il Signore E' veramente Perverso Ostenta Un grande Ressentimento Di rispetto Verso Dio E colorando D'umiltà La sua presunzione Rifiuta Rifiuta La grazia Di cui Dio Vuole dargli Un segno Non pensa Che rifiutare I doni Che Dio Vuole darci E' orgoglio Dobbiamo Ricevere I doni Che Dio Ci manda L'umiltà E' obbedire E seguire Da vicino I suoi disegni Dio Vuole Che noi Siamo perfetti E unendoci A lui Esige Che lo seguiamo Da vicino Il più possibile Il superbo Che confida Solo in se stesso Ha infinite ragioni Per non porre mano Ad alcuna iniziativa Ma l'umile Trova tutto il coraggio Nella sua incapacità Più si sente debole E più diventa Intraprendente Perché tutta la sua fiducia E' riposta in Dio Che si compiace Di manifestare La sua potenza Nella nostra debolezza E far trionfare La sua misericordia Basandola Sulla nostra miseria Molto umilmente E santamente Dobbiamo tentare Tutto quello Che è giudicato Opportuno Per il nostro Progresso spirituale Da coloro Che hanno La responsabilità Della nostra anima Pensare di sapere Ciò che non si sa E' stupidità Manifesta Voler fare Il sapiente In un campo In cui sappiamo Benissimo Di essere ignoranti E' una vanità Insopportabile Per conto mio Non vorrei Fare il sapiente Nemmeno in quello Che so Ma nemmeno Atteggiarmi A ignorante Quando lo richiede La carità Bisogna andare al prossimo Con franchezza E dolcezza Allo stesso tempo Non soltanto Quanto gli è utile L'istruzione Ma anche ciò Che gli fa piacere L'umiltà Nasconde Copre le virtù Per conservarle Le lascia vedere Quando lo esige La carità Per accrescerle Svilupparle E perfezionarle L'umiltà Richiama la mente Quell'albero Delle isole Di Tilo Che di notte Chiude E protegge I suoi bei fiori Di colore incarnato E li dischiude Soltanto Quando si alza Il sole Sicché la gente Del paese Dice che questo fiore Di notte dorme Così fa l'umiltà Che copre E nasconde Tutte le virtù E le perfezioni umane E le lascia apparire Solo per il servizio Della carità Perché è una virtù Del cielo Non della terra Divina Non umana È il vero sole Delle virtù Sulle quali Deve sempre brillare Si può concludere Che le forme Di umiltà Che portano Per giudizio La carità Sono certamente False Non vorrei Atteggiarmi a matto Ma nemmeno a saggio Perché se l'umiltà Mi impedisce Di fare il saggio La semplicità E la franchezza Mi impediscono Di fare il matto Se è vero Che la vanità È contraria All'umiltà È anche vero Che l'artificio L'affettazione E la finzione Sono contrarie Alla franchezza E alla semplicità E anche se qualche Celebre servitore Di Dio Ha fatto il matto Per essere Schernito Dal mondo Ammiriamolo pure Ma non imitiamolo Per lasciarsi andare A quegli eccessi Quei servi di Dio Hanno avuto Motivi personali Fuori dall'ordinario Che non ci autorizzano A trarre Conclusioni Per noi Davide saltando E danzando Più di quanto Sembrasse opportuno Davanti all'arca Dell'alleanza Non voleva Fare il matto Ma Molto semplicemente E senza Artifici Con quelle danze Voleva dimostrare La gioia Straordinaria Di cui Traboccava Il suo cuore Quando Sua moglie Micol Glielo Rimproverò Come una follia Non fece caso All'umiliazione Ma continuò A manifestare Con naturale Schiettezza La sua gioia E diede prova Di saper accettare Un po' di disprezzo Per il suo Dio Per questo Io ti dico Che Se a seguito Di atti Di una vera Schietta devozione Sarai stimata Persona Di poco conto Degna Di disprezzo O pazza L'umiltà Ti farà gioire Per quel fortunato Attacco Che non ha Le sue ragioni In te Ma in coloro Che ti attaccano Capitolo sesto L'umiltà Ci fa amare L'abiezione Procedo Oltre Filotea E ti dico Di amare L'abiezione Sempre E in tutto Ma mi chiederai Che cosa Vuol dire Amare La propria Abiezione In latino Abiezione Vuol dire Umiltà E umiltà Vuol dire Abiezione Di modo che Quando la Madonna Nel suo cantico Dice che Poiché il Signore Ha visto l'umiltà Della sua serva Tutte le generazioni La chiameranno Beata Vuol dire Che il Signore Con bontà Ha guardato La sua abiezione La sua meschinità La sua bassezza Per colmarla Di grazie E di favori C'è tuttavia Differenza Tra la virtù Dell'umiltà E l'abiezione L'abiezione È la pochezza La bassezza È la meschinità Che alberga in noi Senza che ci pensiamo La virtù Dell'umiltà Invece È la conoscenza Veritiera E la missione Della nostra abiezione L'apice Dell'umiltà Così intensa Consiste Non soltanto Nel riconoscere La nostra abiezione Ma nell'amarla Ed esserne contenti Non per mancanza Di coraggio O di generosità Ma per esaltare Maggiormente La maestà divina E dare al prossimo Una stima Maggiore Che a noi stessi Ti incoraggio A questo E per essere Più esplicito Ti dirò Che tra i mali Che ci affliggono Alcuni sono Spregevoli Altri onorati A quelli onorati Molti si adattano Ma nessuno Vuol saperne Di quelli Spregevoli Prendi Per esempio Un devoto Eremita Coperto di Cenci E tremante Dal freddo Tutti Onoreranno Il suo abito A brandelli E proveranno Compassione Per la sua Sofferenza Ma se Un povero Artigiano Un povero Galantuomo O una povera Ragazza Si trovano Nelle stesse Condizioni Verranno coperti Di disprezzo Derisi E la loro Povertà Sarà Spregevole Se un religioso Accetta Con devozione Un duro richiamo Dal superiore O un figlio Dal padre Tutti Chiameranno Quel comportamento Mortificazione Obbedienza Saggezza Se un cavaliere O una dama Dovessero subire Per amore di Dio La stessa cosa Da parte di qualcuno In qualunque cosa Si tratti Tutti La chiameranno Codardia O vigliaccheria Ecco un altro Male Spregevole Pone il caso Che uno abbia Un tumore Al braccio E un altro Al volto Il primo Soffre Soltanto Il male Ma il secondo Con il male Si trova Il disprezzo L'isolamento E l'abiazione Io ti dico Che non soltanto Devi amare Il male Che è opera Della virtù Della pazienza Tu devi amare Anche l'abiazione E questo È opera Dell'umiltà Ci sono poi Delle virtù Disprezzate E delle virtù Onorate La pazienza La dolcezza La semplicità E la stessa Umiltà Per i mondani Sono virtù Vili E da disprezzare Per contro Stimano molto La prudenza Il valore E la liberalità Ci sono addirittura Atti Della stessa virtù Che a volte Sono disprezzati E a volte Onorati Prendi ad esempio L'elemosina O il perdono Dell'offese Sono entrambi Atti di carità La prima È onorata Da tutti Il secondo È disprezzato Dal mondo Un giovanotto O una ragazza Che non si lasciano Trascinare Disordini Di una brigata Dissoluta Nel parlare Nel giocare Nel ballare Nel bere Nel vestire Come loro Saranno scherniti E criticati E il loro riservo Sarà chiamato Bigottismo O esibizionismo Amare queste conseguenze Vuol dire amare La propria abiezione Passiamo a un altro campo La visita agli ammalati Se ti mandano Dal più reietto Secondo il mondo Per te sarà Un'abiezione Per questo L'amerai Se ti mandano Da gente bene Sarà un'abiezione Secondo lo spirito Perché il merito E le virtù Saranno minori Amerai anche Quell'abiezione Se si cade Nel bel mezzo Della strada Oltre al male Ci trovi la vergogna Anche questa Va amata Ci sono alcune colpe Che non comportano Altro male All'infuori Dell'abiezione L'umiltà Non esige Che le commettiamo Apposta Ma che una volta commesse Non ce ne preoccupiamo Si tratta di certe sciocchezze Mancanze di educazione O sbadataggini Che vanno evitate Finché sia in tempo Per comportarsi Educatamente Con prudenza Ma una volta Che ci siamo caduti Bisogna accettare L'abiezione Che ne consegue Ed accettarla di cuore Per amore Dell'umiltà Ma vado oltre Se per collera O mancanza di controllo Mi sono lasciata andare A parole indecorose O offensive Di Dio E del prossimo Me ne pentirò Sinceramente Sarò profondamente Dispiaciuta Per l'offesa Che cercherò Di riparare meglio Che potrò Ma non lascerò Passare l'occasione Per accettare Volentieri L'abiezione E il disprezzo Che ricadranno Su di me Se fosse possibile Separare le due cose Respingerei Con forza Il peccato E terrei Umilmente L'abiezione Ma pur amando L'abiezione Che deriva dal male Non bisogna Rendersi Alle fatalità Del male Che ne è la causa Bisogna Correre Ai ripari Occorre farlo In modo efficace E con cura Soprattutto poi Quando il male È soltanto Una conseguenza Se sono afflitta Da un male Spregevole Al volto Farò di tutto Per guarire Senza far nulla Perché sia dimenticata L'abiezione Che me ne è venuta Se ho commesso Qualche cosa Che non offende Alcuno Non cercherò Scusa Perché Pur trattandosi Di un difetto Non è permanente Se mi scusassi Sarebbe solo Per evitare L'abiezione Che me ne viene Questo L'umiltà Non lo permette Ma se Per disattenzione O leggerezza O offeso O scandalizzato Qualcuno Riparerò L'offesa Con qualche Scusa Che risponda A verità Perché in tal caso Il male Ha radici E la carità Esige che lo sradichi Qualche volta Capita anche Che la verità Esiga Che ne poniamo Rimedio All'abiezione Per il bene Del prossimo Al quale È necessaria La nostra Buona reputazione In tal caso Pur togliendo L'abiezione Dagli occhi Del prossimo Per impedirne Lo scandalo Dobbiamo rinchiuderla E nasconderla Nel nostro cuore Perché ne sia edificato Tu Filotea Vuoi sapere Quali sono Le abiezioni migliori? Ti dico subito E senza esitazione Che quelle più utili All'anima E più gradita Dio Sono quelle Che incontriamo Per caso O che sono legate Alla nostra condizione La ragione È che Non le abbiamo Scelte noi Ma le abbiamo Ricevute Come Dio Ce le ha mandate E lui Sa scegliere Sempre meglio Di noi Se fosse necessario Scegliere Ricordati Che le più grandi Sono le migliori E sai Quali sono Le più grandi? Quelle maggiormente Contrarie Alle nostre Inclinazioni Sempre Beninteso In linea Con la nostra Vocazione Te lo dico Una volta Per sempre La nostra scelta E la nostra preferenza Rovina O almeno Diminuisce Tutte le nostre Virtù Chi ci farà La grazia Di poter dire Con il grande Re Davide Ho scelto Di essere abietto Nella casa Del Signore Piuttosto Che abitare Nelle tende Dei peccatori Il solo Che lo può Cara Filotea È colui Che per innalzare Noi È vissuto E morto Come obrobrio Dagli uomini E abiezione Del popolo Ti ho detto Molte cose Che potranno Sembrarti dure Quando ci rifletterai Sopra Ma Credimi Risulteranno Più dolci Dello zucchero Del miele Quando le metterai In atto Capitolo Settimo Come va conservato Il buon nome Praticando L'umiltà Per una virtù Ordinaria Non ci si scomoda Lodare E ad onorare A dare gloria A chi la possiede Questo si fa Soltanto Quando la virtù È eccellente Con la lode Infatti Non vogliamo Portare gli altri Ad avere stima Per le ottime qualità Di qualcuno Con l'onore Facciamo sapere A tutti Che quella stima Noi l'abbiamo La gloria Poi A mio parere È il lustro Della reputazione Che scaturisce Dalla somma Di molte lodi E onori Possiamo dire Che le lodi E gli onori Sono come pietre preziose Dalla composizione Delle quali Come un gioiello Nasce la gloria L'umiltà Non accetta Che noi pensiamo Di essere migliori E che abbiamo diritto Di essere anteposti Agli altri Non permette nemmeno Che andiamo La caccia di lodi Di onori Di gloria Cose che devono Essere tributate Soltanto All'ottimo Accetta Il consiglio Del saggio Che dice Di aver cura Del nostro buon nome Perché Il buon nome È la stima Non dell'ottimo Ma soltanto Di una semplice E ordinaria prudenza E onestà di vita Che l'umiltà Non ci impedisce Di riconoscere In noi stessi Di conseguenza Non ci vieta Di desiderarne Il relativo Buon nome È vero Che l'umiltà Disprezzerebbe Il buon nome Se la carità Non ne avesse bisogno Ma visto Che è uno Dei fondamenti Della società umana E che senza di essa Noi siamo addirittura Dannosi per la gente E non soltanto Inutili A motivo Dello scandalo Che daremmo La carità Richiede E l'umiltà Di buon grado Accetta Che noi Desideriamo E conserviamo Con cura Il buon nome Prendi a paragone Le foglie Degli alberi Che di per sé Non valgono Granché E che tuttavia Rendono un gran servizio Non solo Nel dare Un bel aspetto All'albero Ma anche Nel proteggere i frutti Finché Sono teneri È la stessa cosa Per il buon nome Che per sé Non è da considerare Fortemente Tuttavia È molto utile Non soltanto Come abbellimento Della vita Ma anche Per proteggere Le nostre virtù In modo particolare Quelle ancora Tenere E deboli L'obbligo Di conservare Il buon nome E di essere Realmente Come la gente Ci stima Esige Esige Che abbiamo Un coraggio Generoso Sostenuto Da una forte Dolce Violenza Conserviamo Le nostre Virtù Cara Filotea Perché Sono gradita Dio Grande Sommo Fine Di tutte Le nostre Azioni Ma allo stesso Modo Che coloro I quali Vogliono Conservare I frutti Non si accontentano Di fare Marmellate Ma li sigillano In vasi Adatti Alla Conservazione Così Pur rimanendo L'amore Di Dio La principale Garanzia Per le nostre Virtù Possiamo Servirci A tale Scopo Anche Del buon nome E con Utilità Tuttavia Nella difesa Del nostro Buon nome Non dobbiamo Essere Troppo zelanti Esatti E puntigliosi Quelli Che sono Delicati E sensibili In modo Esagerato Per tutto Ciò Che concerne La loro Reputazione Assomignano A quelli Che Ingulcitano Medicine Per il Minimo Disturbo Costoro Infatti Volendo Proteggere La loro Salute La rovinano Del tutto Così Chi vuole Con troppa Premura Proteggere Il proprio Buon nome Lo perde Del tutto E sai perché La tenerezza Verso se stessi Rende strani Ribelli Insopportabili Pasto ideale Per i maldicenti Non dar peso E disprezzare L'ingiuria E la calugna Ordinariamente È un rimedio Molto efficace Del risentimento Della contestazione Della vendetta Il dispetto Le rende Evanescenti Chi se ne inquieta Invece Da l'impressione Di confessare I coccodrilli Fanno del male Soltanto A coloro Che ne hanno Paura La maldicenza Fa del male Solo A chi Se ne preoccupa Il timore Eccessivo Di perdere Il buon nome Dimostra Mancanza Di fiducia Nel suo Fondamento Che è La vita onesta Le città Dotate Di ponti Di legno Su grandi Fiumi Ad ogni alluvione Temono Di vederli Travolti Quelle Invece Che sono Dotate Di ponti In pietra Temono Soltanto In caso Di piedi Eccezionali Similmente Coloro Che hanno Un'anima Cristiana Con solide Basi Non fanno Abitualmente Caso Alle alluvioni Delle lingue Malefiche Coloro Invece Che si sentono Deboli Temono Di essere Travolti Ad ogni Occasione Chi vuol Godere Di un Buon Nome Nei Confronti Di tutti Lo perde Proprio Nei Confronti Di tutti Merita Di perdere L'onore Chi vuole Mendicarlo Da coloro Che il Vizio Ha reso Indiscutibilmente Infami E senza Onore Il Buon Nome È Minata Nella Nella Devozione Se Ti Considerano Un Uomo Senza Carattere Perché Hai Perdonato L'ingiuria Lascia Correre Non Farci Caso Per Prima Cosa Abbi Presente Che Tali Giudizi Sono Messi Da Persone Vuote E Superficiali Quando Anche Poi Il Buon Nome Si Perdesse Davvero L'importante È Non Perdere La Virtù E Non Deviare Dal Suo Cammino Mi Pare Logico Che Si Dia La Preferenza Ai Frutti Sulle Foglie Ossia Ai Beni Spirituali Interiori Su Quelli Esteriori Va Bene Essere Gilosi Del Proprio Buon Nome Ma Non Idolatri E Vero Che Non Bisogna Scandalizzare L'occhio Dei Buoni Ma Nemmeno Si Deve Contentare Quello Dei Cattivi La Barba È Un Ornamento Adatto Al Volto Dell'Uomo E I Capelli A Quello Della Donna Se Si Strappano La Radice I Peli Dal Mento O I Capelli Della Testa Probabilmente Non Rispunteranno Più Ma Se Li Tagli Soltanto O Magari Anche Li Radi Rispunteranno Molto Presto Più Forti E Più Folti Lo Stesso Avviene Per Il Buon Nome La Lingua Dei Maldicenti Può Tagliarlo O Anche Addirittura Raderlo Già Che Dice Davide È Come Un Rasoio Affilato Ma Niente Paura Rispunterà Presto Più Bello Di Prima E Anche Più Forte Se Invece Il Nostro Buon Nome Viene Distrutto Dai Nostri Vizi Dalle Vigliaccherie Dalla Nostra Cattiva Condotta Beh Allora Possiamo Aspettare Tutto Il Tempo Che Vogliamo E Non Rispunterà Sarà Inutile L'attesa Perché Abbiamo Estirpato La Radice La Radice Del Buon Nome È La Bontà E L'onestà Della Vita Finché Sono Presenti In Noi Possono Sempre Rigenerare Il Quell'attività Inutile Quell'amicizia Frivola Quella Compagnia Equivoca Se Danneggiano Il Tuo Buon Nome Perché Il Buon Nome Vale Più Di Tutte Quelle Vuote Soddisfazioni Ma Se La Gente Mormora Riprova O Calunnia Perché Ti Impegni Nella Pietà Per Avanzare Nella Devozione Nel Cammino Verso Il Bene Eterno Lascia Abaiare I Cani Contro La Luna Negativa Sul Tuo Buon Nome E In tal Modo Tagliare Radere I Capelli E La Barba Del Buon Nome Sta Tranquilla Che Presto Rispunterà Il Rasoio Della Maldicenza Sarà Utile Al Tuo Onore Come La Roncola Alla Vigna Perché La Renda Copiosa Di Frutti Teniamo Sempre Gli Occhi Fissi A Gesù Cristo Crocifisso Camminiamo A Da Saggezza E Devozione Sarà Lui A Proteggere Il Nostro Buon Nome Se Permette Che Ci Sia Tolto È Solo Per Darcene Uno Migliore O Per Favorirci Nella Crescita Dell' Umiltà Ricorda Bene Che Un' Oncia Di Umiltà Vale Più Di Mille Libre Di Onore Se Veniamo Ripresi Ingiustamente Opponiamo Serenamente La Verità La Calunnia Se Persiste Insistiamo Nell' Umiltà Mettiamo Il Nostro Buon Nome Unitamente Alla Nostra Anima Nelle Mani Di Dio Non Potremo Trovare Migliore Garanzia Serviamo Dio Nella Buona E Nella Cattiva Fama Sull' Esempio Di San Paolo Potremo Così Dire Con Davide Mio Dio È Soltanto Per Te Che Ho Sopportato L'obrobrio E Che Ho Tollerato Che Talmente Atroci E Infamanti Che Nessuno Deve Accettare Di Vedersene Attribuita La Paternità Anzi Bisogna Liberarsi Anche Del Sospetto Se Si Può Fare Nel Rispetto Della Giustizia La Stessa Eccezione Va Fatta Per Le Persone Dal Cui Buon Nome Dipende L'edificazione Di Molti In Tali Casi È Necessario Perseguire La Riparazione Del Torto Ricevuto E Questo Secondo La Più Rigorosa Morale Teologica Capitolo Ottavo La Dolcezza Verso Il Prossimo E Rimedio Contro L'ira Il Sacro Crisma Che Per Tradizione Apostolica La Chiesa Usa Nelle Confermazioni E Nelle Benedizioni È Composto Di Olio D'oliva E Balsamo Questi Due Elementi Ricordano Tra L'altro Le Due Meravigliose Virtù Che Risplendevano In Modo Particolare Nella Persona Di Nostro Signore Egli Ce Le Ha Raccomandate Personalmente Quasi Che Per Mezzo Di S Soltanto Il Nostro Cuore Possa Essere Consacrato Suo Servizio E Trascinato Ad Imitarlo Imparate Da Me Dice Che Sono Mite E Umile Di Cuore L'umiltà Ci Fa Crescere Imperfezione Davanti A Dio E La Dolcezza Davanti Al Prossimo Il Balsamo Che Come Detto Sopra Scende Sempre A fondo Raffigura L'umiltà E L'olio D'oliva Che Rimane Sempre In Superficie Raffigura La Dolcezza E La Buonomia Che Superano Tutte Le Stando A San Bernardo Raggiunge La Perfezione Quando Non È Soltanto Paziente Ma Anche Dolce E Affabile Fa Attenzione Filotea Questo Mistico Crisma Composto Di Dolcezza E Di Umiltà Deve Trovarsi Dentro Al Tuo Cuore L'abile Inganno Del Nemico Infatti È Quello Di Far Si Che Molti Si Fermino Alle Parole E Agli Atteggiamenti Esterni Di Questi Due Virtù Per Cui Nella Loro Imperdonabile Superficialità Pensano Di Essere Umili E Dolci Mentre Non Lo Sono Affatto E Si Tradiscono Perché Nonostante La Loro Cerimoniosa Dolcezza E Umiltà Alla Minima Parola Leggermente Scortese Alla Più Piccola Ingiuria Scattano Con Un'arroganza Inaspettata Si Dice Che Color I Quali Si Sono Immunizzati Per Mezzo Del Controveleno Chiamato Comunemente La Grazia Di San Paolo Se Vengono Punti O Morsicati Da Una Vipera Non Si Gonfiano A Condizione Che La Grazia Fosse Fosse Di Prima Qualità Quando L'umiltà E La Dolcezza Sono Vere E Sincere Capita La Stessa Cosa Ci Difendono Dal Gonfiore E Dal Bruciore Che Le Ingiurie Abitualmente Provocano Nei Nostri Cuori Ne Consegue Che Se Reagisci Mostrandoti Orgogliosa Gonfia D'Ira Indispettita Allorché Sei Punta E Morsicata Dalle Male Lingue Vuol dire Che La Tua Umiltà E La Tua Dolcezza Non Sono Profonde E Sincere Ma Soltanto Superficiali Ed Epidermiche Il Santo Ed Illustre Patriarca Giuseppe Quando Dall'Egitto Rispedì Fratelli A Casa Del Padre Diede Loro Un Consiglio Per Via Non Adiratevi A Te Dico La Stessa Cosa Filotea Questa Vita Terrena È Soltanto Un Cammino Verso Quella Beata Non Adiriamoci Dunque Per La Strada Gli Un Contro Gli Altri Camminiamo Tranquillamente In pace Con i Fratelli E Compagni Di Viaggio Con Chiarezza E Senza Eccezioni Ti Dico Se Ti È Possibile Non Inquietarti Affatto Non Deve Esistere Alcun Pretesto Perché Tu Apra La Porta Del Tuo Cuore All'ira San Giacomo Senza Tanti L'ira Dell'uomo Non Opera Alla Giustizia Di Dio Bisogna Resistere Seriamente Al male E Reprimere I Vizi Di Coloro Di Cui Abbiamo La Responsabilità Con Costanza E Con Decisione Ma Sempre Con Dolcezza E Serenità Niente Calma Un Elefante Infuriato Come La Vista Di Un Agnellino E Nulla Tenua La Violenza Delle Canonate Come La Lana La Correzione Dettata Dalla Passione Anche Quando A Basi Ragionevoli Ha Molto Meno Efficacia Di Quella Che Viene Unicamente Dalla Ragione Questo Perché L'anima Ragionevole Sa Cedere Alla Ragione Ma Rifiuta Di Piegarsi Alla Passione Ed Alla Tirannia Di Modo Che La Ragione Accompagnata Dalla Passione E Odiosa Perché La Sua Giusta Autorità E Avvilita Dall' Alleanza Con La Tirannia I Principi Quando Fanno Visita Con Un Seguito Di Pace Onorano E Danno Gioia Ai Popoli Ma Quando Arrivano Con I Soldati Anche Se Per Il Bene Pubblico La Loro Visita E Sempre Sgradita E Apportatrice Di Danni Perché Anche Qualora Riescano A Far Osservare Rigorosamente La Disciplina Ai Loro Soldati Non Potranno Mai Riuscire An Impedire Che Scoppi Qualche Disordine In Cui Il Civile Alla Peggio E Viene Oppresso Allo Stesso Modo Quando Domina La Ragione E Distribuisce Pacificamente Castigli Correzioni Rimproveri Anche Se Lo Fa Con Rigore E Severità Tutti Le Vogliono Bene Ugualmente E Approvano Il Su Operato Ma Se Porta Con Se Lira La Collera La Stizza Che Dice Sant'Agostino Sono I Suoi Soldati D'Amabile Diventa Piuttosto Temibile E Il Cuore Nesce Sempre Maltrattato E Calpestato Dice Sempre Sant'Agostino Scrivendo A Profuturo E Meglio Chiudere La Porta All'Ira Giusta E Imparziale Anche Se Di Minime Proporzioni Perché Una Volta Entrata E Molto Difficile Farlo Uscire Poiché Entra Come Un Piccolo Germoglio E In Brevissimo Tempo Cresce E Diventa Un Albero Che Se Poi Giunge Fino Alla Notte E Il Sole Tramonta Sulla Nostra Ira Ciò E Non Tene Liberi Più Perché Essa Si Nutre Di Mille False Convinzioni Non Si È Mai Trovato Un Uomo Adirato Il Quale Fosse Convinto Che La Sua Ira Era Ingiusta Meglio Imparare A Vivere Senza Collera Che Volersi Servire Con Moderazione E Saggezza Della Collera E Quando A Causa Della Nostra Imperfezione E Devolezza Ci Coglie Di Sorpresa È Meglio Respingerla Immediatamente Che Volere Entrare In Trattativa Con Essa E Sai Perché Per Poco Che Tu Le Conceda Diventa Subito Padrona Della Piazza E Fa Come Il Serpente Che Dove Riesce A Far Passare La Testa Fa Passare Tutto Il Corpo Ma Come Faccio A Respingerla Dirai Semplicissimo Ti Rispondo Al Primo Allarme Raccogli Tutte Le Precipitazione E Violenza Ma Con Dolcezza Tuttavia Con Serio Impegno Hai Notato Quello Che Accade Nelle Sedute Di Molti Senati E Parlamenti Gli Uscieri Che Gridano Zitti Là O Zitti Qui Fanno Più Confusione Di Quelli Che Vorrebbero Far Tacere Allo Stesso Modo Può Capitarci Che Quando Con Forza Vogliamo Reprimere La Collera Provochiamo Più Agitazione Nel Nel Nostro Cuore Di Quanto Non Avrebbe Causata La Collera Il Cuore Così Agitato Non Riesce Più Ad Essere Padrone Di Se Stesso Dopo Questo Sforzo Compiuto Con Calma Segui Il Consiglio Che Sant'Agostino Già Vecchio Diede Al Giovane Vescovo Ausilio Fa Ciò Che Deve Fare Un Uomo E Se Ti Capita Ciò Che L'Uomo Di Dio Dice Nel Salmo Il Mio Occhio E Turbato Da Grande Collera Ricordi A Dio E Grida Abbi Misericordia Di Me Signore E Così Egli Stenderà La Sua Mano Destra E Reprimerà La Tua Collera Voglio Dire Che Bisogna Invocare L'aiuto Di Dio Quando Ci Sentiamo Agitati Dalla Collera Ad Imitazione Degli Apostoli Sballottati Sul Mare Dal Vento E Dalla Tempesta Comanderà Le Nostre Passioni E Subentrerà Una Grande Calma Ma Non Mi Stancherò Mai Ripeterti Che L'Orazione Che Si Fa Contro La Collera In Atto Che Ci Sta Travolgendo Deve Estere Fatta Con Dolcezza Tranquillità Non Con Violenza È Una Norma Generale Per Tutti I Rimedi Contro Questo Male Di Più Appena Ti Accorgi Che Ti Sei Lasciata Andare A Qualche Atto Di Collera Rimedia Con Un Atto Di Dolcezza Nei Confronti Della Stessa Persona Con Cui Ti Sei Irritata Rimedio Sovrano Contro La Menzogna E Correggerla Subito Appena Uno Si Accorge Di Aver La Detta Per Subito Con Un Atto Contrario Di Dolcezza C'è Un Detto Che Fa Il Caso Nostro La Piaga Recente Si Cura Meglio Fa Qualche Cosa Di Più Quando Sei Calma E Senza Alcun Motivo Di Collera Fa Rifornimento Di Dolcezza E Di Affabilità Parlando E Agendo Nelle Tue Azioni Piccole Grandi Nel Modo Più Cortese Che Ti Sarà Possibile Ricordandoti Che La Sposa Nel Cantico Dei Cantici Non Soltanto Ha Il Miele Sulle Labbra E Sulla Lingua Ma Anche Nel Petto Ove Non C'è Soltanto Miele Ma Anche Latte Perché Non Basta Avere La Parola Dolce Nei Confronti Del Prossimo Bisogna Averla Anche Nel Petto Ossia Nell' Intimo Della Nostra Anima Non Basta Nemmeno Avere La Dolcezza Del Miele Che Aromatico E Profumato E Raffigura La Dolcezza Della Conversazione Educata Con Gli Estrani Ma Bisogna Avere Anche La Dolcezza Del Latte Verso I Familiari E I Vicini In Questo Mancano Seriamente Quelli Che Sono Angeli Per La Strada E Diavoli In Casa Capitolo 9 La Dolcezza Verso Noi Stessi Uno Dei Metodi Più Efficaci Per Conseguire La Dolcezza E Quello Di Esercitarla Verso Se Stessi Non Indispettendosi Mai Contro Di Sè E Contro Le Proprie Imperfezioni E Vero Che La Ragione Richiede Che Quando Commettiamo Errori Ne Siamo Dispiaciuti E Rammaricati Ma Non Che Ne Proviamo Un Dispiacere Distruttivo E Disperato Carico Di Dispetto E Di Collera E In Questo Molti Sbagliano Grossolanamente Perché Si Mettono In Collera Poi Si Infuriano Perché Si Sono Infuriati Diventano Tristi Perché Si Sono Rattristati E Si Indispettiscono Perché Si Sono Indispettiti In Tal Modo Conservano Il Cuore Come Frutta Candita A Bagno Nella Collera Pu Anche Sembrare Che La Seconda Collera Elimini La Prima Ma In Realtà È Soltanto Per Fare Spazio Maggiore Alla Seconda Alla Prima Occasione C'è Di Più Queste Collere E Amarezze Contro Di Se Stessi Portano All'orgoglio E Sono Soltanto Espressione Di Amor Proprio Che Si Tormenta E Si Inquieta Per Le Imperfezioni Il Dispiacere Che Dobbiamo Avere Per Le Nostre Mancanze Deve Essere Sereno Ponderato E Fermo Un Giudice Punisce Molto Meglio I Colpevoli Quando Emette Sentenze Ragionevoli In Spirito Di Serenità Che Quando Procede Con Aggressività E Passione In Tal Caso Non Punerebbe Le Colpe Secondo La Loro Natura Ma Secondo La Propria Passione Allo Stesso Modo Noi Puniamo Molto Meglio Noi Stessi Se Usiamo Correzioni Serene Ponderate E Non Aspre Precipitose E Colleriche Tanto Più Che Queste Correzioni Fatte Con Irruenza Non Sono Proporzionate Alle Nostre Colpe Ma Alle Nostre Inclinazioni Per Esempio Chi E Attaccato Alla Castità Andrà Su E Poi Farà Le Matte Risate Per Una Gravissima Maldicenza Commessa Per Contro Chi Odia La Maldicenza Andrà In Crisi Per Una Leggera Mormorazione E Non Darà Peso A Una Grave Mancanza Contro La Castità E Così Via E Questo Capita Perché La Coscienza Di Costoro Non Giudica Secondo Ragione Ma Secondo Passione Devi Credermi Filotea Le Osservazioni Di Un Papà Se Fatte Con Dolcezza E Cordialità Hanno Molta Più Efficacia Per Correggere Il Figlio Della Collera E Delle Sfuriate La Stessa Cosa Avviene Quando Il Nostro Cuore È Caduto In Qualche Colpa Se Lo Riprendiamo Con Osservazioni Dolce E Serene E Dimostriamo Più Compassione Che Passione Lo Incoraggiamo A Correggersi Il Pentimento Sarà Molto Più Profondo E Lo Compenetrerà Più Di Quanto Non Farebbe Un Pentimento Pieno Di Dispetto Di Ira E Di Minacce Per Conto Mio Posto Che Ci Tenessi Molto A Non Cadere Nel Vizio Di Vanità E Cion Nonostante Ci Fossi Caduto E Seriamente Non Vorrei Correggere Il Mio Cuore Con Parole Come Le Seguenti Guarda Quanto Sei Miserabile E Abominevole Dopo Tante Risoluzioni Guarda Come Ti Sei Lasciato Travolgere Muori Di Vergogna Non Azzardarti Più Ad Alzare Gli Occhi Verso Il Cielo Cieco Svergognato Traditore Sleale Con Ragionevolmente Con Compassione Coraggio Mio Povero Cuore Eccoci Caduti Nella Trappola Da cui Avevamo Promesso Di Stare Lontano Rialziamoci E Liberiamocene Per Sempre Invochiamo La Misericordia Di Dio E Speriamo In Essa D'ora In Poi Ci Darà La Sua Assistenza Per Renderci Più Decisi Rimettiamoci In Cammino Con Umiltà Coraggio D'ora In Poi Stiamo In Guardia Dio Ci Aiuterà Ce La Faremo E Su Questa Correzione Vorrei Costruire Un Solido E Fermo Proposito Di Non Ricaderci Più Prendendo I Mezzi Più Idonei A Tal Fine Compreso Il Parere Del Mio Direttore Spirituale Se Poi Qualcuno Pensasse Di Non Essere Suffitamente Scosso Da Questo Tipo Di Correzione Potrebbe Servirsi Di Un Richiamo O Di Un Rimprovero Duro E Forte Per Provocare Una Vergogna Profonda Purché Dopo Aver Rudemente Sgridato E Strapazzato Il Proprio Cuore Chiuda Con Una Consolazione Ponendo Termine Alla Sua Amarezza E Al Suo Corruccio Con Una Dolce Santa Fiducia In Dio Ad Imitazione Di Quel Grande Penitente Che Vedendo Un'anima Afflitta La Risolevava In Questo Modo Spera In Dio Io Lo Benedirò Ancora Perché È La Salvezza Del Mio Volto E Il Mio Vero Dio Rialza Dunque Dolcemente Il Tuo Cuore Quando Cade Umiliati Grandemente Davanti A Dio Alla Conoscenza Della Tua Miseria Ma Non Meravigliarti Della Tua Caduta È Naturale Che L'infermità Sia Malata Che La Debolezza Sia Debole E La Miseria Sia Misera Disprezza Con Tutte Le Forze L'offesa Che Dio Ha Ricevuto Da Te E Con Coraggio E Fiducia Nella Sua Misericordia Rimettiti Nel Cammino Della Virtù Che Avevi Abbandonato Capitolo Decimo Le Occupazioni Vanno Affrontate Con Attenzione Ma Senza Precipitazione E Fretta Eccessiva La cura E La dirigenza Che Dobbiamo Mettere Nelle Nostre Occupazioni Non Hanno Nulla In Comune Con L'ansia La Prensione E La Fretta Eccessiva Gli Angeli Hanno Cura Della Nostra Salvezza E La Procurano Con Diligenza Ma Senza Ansia A Prensione E Fretta La Cura E La Dirigenza Sono Espressione Della Loro Carità Mentre L'ansia La Prensione E La Fretta Sarebbero Contrari Al Loro Stato Di Beatitudine Giacché La Cura E La Dirigenza Possono Essere Compagne Della Serenità E Della Pace Dello Spirito Non Invece L'ansia La Preoccupazione E Ancor Meno L'angustia Precipitosa Si Dunque Accurata Dirigente In Tutte Le Responsabilità Che Ti Saranno Affidate Filotea Se Dio Te Le Affidate Tu Ne Devi Avere Grande Cura Ma Se Ti È Possibile Non Cadere Nell'ansia E Nell'apprensione Ossia Non Affrontarle Con Cuore Inquieto Ansioso E Tormentato Non Agire Con Precipitazione Nel Compimento Dei Tuoi Doveri La Precipitazione Turba La Ragione E Il Giudizio E Ci Impedisce Di Compiere Bene Proprio Quello Verso Cui Ci Precipitiamo Quando Nostro Signore Riprende Marta Dice Marta Marta Sei Ansiosa E Ti Agiti Per Molte Cose Vedi Se Ella Fosse Stata Semplicemente Premurosa Non Si Sarebbe Agitata Ma È Proprio Perché Era Preoccupata E Inquieta Che Si Affretta E Si Agita Ed È Proprio Questo Che Nostro Signore Le Rimprovera I Fiumi Che Scorrono Dolcemente Nella Pianura Portano Grandi Battelli Con Ricche Merci Le Piogge Che Cadono Dolcemente Sulla Campagna La Rendono Feconda Di Foraggi E Di Grano Ma I Torrenti E I Corsi D'acqua Che Precipitano A valle Con Rapide Cascate Rovinano Le Campagne Circostanti E Non Sono Utili Al Traffico Lo Stesso Fanno Le Piogge Violente Tempestose Che Travolgono I Terreni Lavoro Fatto Con Violenza E Precipitazione Non Riesce Mai Bene Bisogna Affrettarsi Con Calma Dice L'antico Proverbio Colui Che Affretta Dice Salomone Corre Il Rischio Di Inciampare E Urtare Contro Tutto Facciamo Sempre Abbastanza Presto Quando Facciamo Bene I Fuchi Fanno Molto Più Rumore E Si Spostano Con Molta Più Fretta Delle Api Ma Producono Soltanto Cera Non Miele Più O Meno Fanno La Stessa Cosa Coloro Che Si Affrettano Con Un'ansia Bruciante E Con Una Prensione Disordinata Finiscono Con Il Fare Poco E Male Le Mosche Non Ci Danno Noia Per La Mole Ma Per Il Numero Allo Stesso Modo Si Può Dire Che Le Occupazioni Importanti Non Ci Mettono In Agitazione Come Le Piccole Perché Queste Si Presentano Molto Numerose Accetta In pace Le Incombenze Che Ti Capitano E Cerca Di Portarle A Termine Con Ordine Una Dopo L'altra Se Vuoi Farle Tutte In Una Volta E Disordinatamente Farai Soltanto Sforzi Che Ti Angustieranno E Prostereranno Il Tuo Spirito E Finirai Quasi Sempre Schiacciato Sotto Il Loro Peso E Senza Risultato Le Occupazioni Appoggiati Completamente Alla Providenza Di Dio Che È La Sola Che Possa Dare Compimento Ai Tuoi Progetti Tuttavia Da Parte Tua Lavora Dolcemente Per Cooperare Con Essa E Si Certa Che Se Confidi In Dio Il Risultato Che Conseguirai Sarà Sempre Il Migliore Per Te Sia Che Ti Sembri Personalmente Buono Che Cattivo Fa Come I Bambini Che E Con L'altra Raccolgono Le Fragole E Le More Lungo Le Siepi Anche Tu Fai Lo Stesso Mentre Con Una Mano Raccogli E Ti Servi Dei Beni Di Questo Mondo Con L'altra Ti Tieni Aggrappata Al Padre Celeste Volgendoti Ogni Tanto Verso Di Lui Per Vedere Se Le Tue Occupazioni E I Tue Affari Sono Di Suo Gradimento Fa Attenzione A Lasciare La Sua Mano E La Sua Protezione Pensando Così Di Raccogliere E Accumulare Di Più Se Il Padre Celeste Ti Lascia Non Farai Più Nemmeno Un Passo Ma Finirai Subito A Terra Voglio Dire Filotea Che Quando Sarai In Mezzo Agli Affari E Accupazioni Ordinarie Che Non Richiedono Un'attenzione Molto Accurata E Assidua Guarda Dio Più Delle Occupazioni Quando Gli Affari Sono Così Importanti Che Richiedono Tutta La Tua Attenzione Per Uscire Bene Ogni Tanto Da Uno Sguardo A Dio Come Fanno Coloro Che Navigano In Mare I Quali Per Raggiungere Il Porto Previsto Guardano Più Il Cielo Che La Nave Così Dio Lavorerà Con Te In Te E Per Te E Il Tuo Lavoro Soltanto La Carità Ci Eleva Alla Perfezione Ma L'Obedienza La Povertà E La Castità Sono I Tre Grandi Mezzi Per Acquistarla L'Obedienza Consacra Il Nostro Cuore La Castità Il Nostro Corpo E La Povertà I Nostri Bene L'amore E Al Servizio Di Dio Sono I Tre Bracci Della Croce Spirituale Che Poggiano Sul Quarto Che L'U Non Intendo Parlare Di Questi Virtù In Quanto Oggetto Di Voto Pubblico Riguarda Soltanto I Religiosi E Nemmeno In Quanto Oggetto Di Voto Privato Perché Il Voto Aggiunge Sempre Grazie E Meriti A Tutte Le Virtù Tuttavia Per Portarci A Perfezione Non È Necessario Che Siano Oggetto Di Voto L'importante È Che Siano Vissute Quando Sono Legate Per Metterlo Invece Semplicemente Nella Perfezione È Sufficiente Viverle C'è Molta Differenza Tra Lo Stato Di Perfezione E La Perfezione Tutti I Vescovi E Religiosi Sono Nello Stato Di Perfezione Ma Non Per Questo Sono Nella Perfezione Il Che Si Vede Anche Troppo Sforziamoci Filotea Di Mettere Bene In Pratica Queste Tre Virtù Ciascuno Secondo La Proprio Vocazione È Vero Che Non Ci Mettono Nello Stato Di Perfezione Ma Ci Daranno L'autentica Perfezione Tutti Siamo Obbligati A Praticare Queste Tre Virtù Anche Se Non Tutti Allo Stesso Modo Due Sono I Generi D'Obedienza L'Obbligatoria E La Volontaria In Forza Della Obbligatoria Devi Obbedire Umilmente Ai Tuoi Superiori Ecclesiastici Come Il Papa Il Vescovo Il Parroco E I Loro Rappresentanti Devi Poi Obbedire Ai Tuoi Superiori Civili Ossia Il Principe E i Magistrati Da Lui Preposti Al Governo Del Tuo Paese Poi Devi Obbedire Anche I Tuoi Superiori Familiari Ossia Tuo Padre Tua Madre Il Padrone La Padrona Questa Obedienza Si chiama Obbligatoria Perché Nessuno Può Dispensarsi Dall'obbligo Di Obbedire I Superiori Sono Nominati Perché Dio Che Ha Dato Loro L'autorità Di Comandare Di Governare Ognuno Nei Suoi Limiti Fa Dunque Quello Che Ti Comandato È Necessario Ma Per Essere Perfetto Devi Seguire I Loro Consigli E Anche I Loro Desideri E Le Preferenze Nella Misura In Cui Te Lo Permettono La Prudenza E La Carità Obbedisci Quando Ti Ordinano Una Cosa Gradevole Come Mangiare Prendere Un po' Di Ricreazione Può Anche Sembrare Che Non Ci Sia Grandi Virtù Ad Obbedire In Queste Cose E Certo Che Sarebbe Un Difetto Grave Disobbedire Obedisci Alle Cose Indifferenti Quale Indossare Un Abito Anziché Un Altro Passare Per Una Strada Anziché Per Un'altra Cantare O Tacere Sarà Un'Obedienza Molto Preziosa Obedisci Nelle Cose Difficili Aspre E Dure Quella Sarà Un'Obedienza Perfetta Obedisci Poi Con Dolcezza Senza Repliche Con Prontezza Senza Ritardi Con Gioia Senza Tristezza Soprattutto Obedisci Con Amore Per Amore Di Colui Che Per Amor Nostro Si è Fatto Obediente Fino La Morte In Croce E Che Come Dice San Bernardo Preferi Rinunciare Alla Vita Piuttosto Che All'Obedienza Per Imparare Ad Obedire Con Facilità Ai Tuoi Superiori Accondiscendi Senza Difficoltà Alla Volontà Dei Tuoi Pari Cedendo A Loro Parere In Ciò Che Non Ha Nulla Di Male Lasciando Da Parte Un Comportamento Litigioso Ed Aspro Adattati Volentieri Ai Desideri Dei Tuoi Inferiori Nei Limiti Almeno Finché Si Comportano Bene E Falso Credere Che Da Religioso O Da Religiosa Ci Sarebbe Più Facile Obedire Sarebbe La Stessa Cosa Se Ora Troviamo Difficile Dardo Obedire A Coloro Che Dio Ci Ha Preposto Nulla Cambierebbe Mutando Stato Chiamiamo Obedienza Volontaria Quella Cui Ci Leghiamo Per Nostra Scelta E Che Non C'è Imposta Da Alcuno Abitualmente Il Principe E Il Vescovo Non Li Scegliamo Noi Né Il Padre Né La Madre Qualche Volta Nemmeno Il Marito Ma Scegliamo Invece Il Confessore E Il Direttore Spirituale Ora Sia Che La Scelta Si Aggiunga Il Voto Di Obbedirgli Come Fece Santa Teresa Che Oltre All'obbedienza Solenne Votata Superiore Dell'Ordine Si Era Obbligata Con Voto Semplice Ad Obbedire Al Padre Graziano O Anche Senza Voto Si Prometta Obbedienza A Qualcuno Questa Rimarrà Sempre Un'obbedienza Volontaria Perché Decisa Dalla Nostra Volontà In Base Alla Nostra Scelta Bisogna Obbedire A Tutti I Superiori A Ciascuno Nel Campo Che Lo Riguarda Per Ciò Che Riguarda Lo Stato E La Cosa Pubblica Bisogna Obbedire Alle Autorità Civili Per Ciò Che Riguarda Il Campo Religioso Ai Vescovi Per Le Cose Di Casa Al Padre Al Marito Al Padrone Per La Guida Personale Dell'anima Al Confessore E Al Direttore Fatti Indicare Dal Padre Spirituale Gli Esercizi Di Pietà Che Devi Praticare Riusciranno Meglio Ed Avranno Doppia Grazia E Doppio Valore La Prima Per Se Stessi Perché Sono Pi Esercizi L'altra La Ricevono Dall'obbedienza Che Li Ha Prescritti E In Virtù Della Quale Sono Compiuti Gli Obbedienti Sono Dei Fortunati Perché Il Signore Non Permetterà Mai Che Si Perdano Capitolo Dodicesimo La Necessità Della Castità La Castità È Il Giglio Delle Virtù Rende Gli Uomini Simili Agli Angeli Niente È Bello Se Non È Puro E La Purezza Degli Uomini È La Castità Alla Castità Si Dà Il Nome Di Onestà E Alla Sua Conservazione Onore Viene Chiamata Integrità Ed Il Contrario È La Corruzione Gode Di Gloria Tutta Speciale Perché È La Bella E Splenda Virtù Dell'Anima E Del Corpo Non È Mai Permesso Prendere Piacere Impudichi Dai Nostri Corpi Poco Importa In che Modo Li Legittima Soltanto Il Matrimonio Che Con La Sua Santità Compensa Discredito Insito Nel Piacere Anche Nel Matrimonio Bisogna Avere Cura Che L'Intenzione Sia Onesta Perché Se Ci Dovesse Essere Qualche Sconvenienza Nel Piacere Che Si Prende Ci Sia Sempre L'Onestà Nell'Intenzione Che Lo Ha Cercato Il Cuore Casto È Come La Madre Perla Che Può Ricevere Soltanto Le Gocce D'acqua Che Scendono Dal Cielo Già Che Può Accogliere Soltanto I Piacere Del Matrimonio Che Viene Dal Cielo Fuori Da Ciò Non Deve Nemmeno Tollerare Il Pensiero Volottuoso Volontario E Prolungato Come Primo Grado In Questa Virtù Filotea Guarda Di Non Accogliere In Te Alcun Genere Di Piacere Inabissibile E Proibito Quali Sono Tutti Quelli Che Si Prendono Fuori Contro Le Regole Del Matrimonio Come Secondo Grado Taglia Per Quanto Ti Sarà Possibile Anche I Piaceri Inutili E Superflui Benché Permessi E Leciti Per Il Terzo Non Legare Il Tuo Affetto Ai Piaceri E Alle Soddisfazioni Che Sono Comandate E Prescritte E Vero Che Bisogna Apprendere I Piaceri Necessari Ossia Quelli Che Sono Legati Al Fine E Alla Natura Stessa Del Santo Matrimonio Ma Non Per Questo Devi Impegnare Nessi Il Cuore E Lo Spirito Dal Resto Tutti Hanno Molto Bisogno Di Questa Virtù Coloro Che Vivono Nella Vedovanza Devono Avere Una Castità Coraggiosa Che Non Soltanto Disprezza Le Occasioni Presenti E Le Future Ma Resiste Alle Fantasie Che I Piaceri Leciti Provati Nel Suggestioni Poco Oneste È Per Questa La Ragione Per Cui Sant'Agostino Ammira La Purezza Del Suo Caro Alipio Che Aveva Completamente Dimenticato E Non Teneva In Alcun Conto I Piaceri Carnali Che Aveva Conosciuto Almeno In Parte Nella Sua Giovinezza Prendi A Paragone I Frutti Un Frutto Sano E Intero Può Essere Conservato O Nella Paglia Una Volta Intaccato È Impossibile Conservarlo Se Non Facendone Marmellata Con L'Aggiunta Di Miele O Di Zuccro Così Avviene Per La Castità Non Ancora Ferita E Contaminata Sono Tanti I Modi Per Conservarla Ma Una Volta Intaccata Può Conservarla Soltanto Una Devozione Eccellente Che Come Ho Detto Spesso È L'autentico Miele E Lo Zuccro Delle Anime Le Devozione Semplice E Delicata Per Bandire Dal Loro Cuore Ogni Genere Di Pensieri Curiosi Ed Eliminare Con Disprezzo Totale Ogni Genere Di Piacere In Mondo Che A Essere Sinceri Non Meritano Nemmeno Di Essere Considerato Dagli Uomini Visto Che I Somari E Porci Li Superano In Questo Campo Quelle Anime Pure Stiano Ben Attente Senza Alcun Dubbio Dovranno Sempre Avere Per Certo Che La Castità È Incomparabilmente Molto Meglio Di Tutto Ciò Che Le Contrario Il Nemico Infatti Dice San Girolamo Spinge Fortemente Le Vergini Al Desiderio Di Provare Il Piacere A Tal Fine Lo Rappresenta Loro Molto Più Atraente E Delizioso Di Quanto Non Sia Questo Le Turba Molto Dice Quel Padre Perché Pensano Piccola Farfalla C'è Maestra Vedendo La Fiamma Così Bella Vuol Provare Se Non Sia Altrettanto Dolce E Spinta Da Questo Desiderio Non Si Arrende Finché Alla Prima Prova Ci Rimane I Giovani Agiscono Allo Stesso Modo Si Lasciano Talmente Affascinare Dal Falso Vuoto Lucichio Delle Fiamme Del Piacere Che Dopo Averci Girato Intorno Con Mille Pensieri Curiosi Finiscono Per Cadere E Perdersi In Questo Sono Più Sciocchi Delle Farfalle Perché Quelle In Una Certa Misura Hanno Motivo Di Pensare Che Il Fuoco Sia Anche Buono Perché È Veramente Bello Mentre Questi Sanno Bene Che Quello Che Vogliono È Disonesto Ma Non Per Questo Tagliano La Stima Folle Ed Esagerata Che Hanno Del Piacere Per Gli Sposati Dico Che È Sicuro Anche Se La Gente Comune Non Riesce A Pensarlo Che La Castità È Loro Molto Necessaria Per Essi Non Consiste Nel Astenersi In Modo Totale Dai Piaceri Carnali Ma Nel Sapersi Moderare Ora A Mio Parere Il Comando Adiratevi E Non Peccate È Più Difficile Di Quest'altro Non Adiratevi Affatto Riesce Più Lo stesso Si può Dire Dei Piaceri Carnali È Più Facile Astenersene Completamente Che Essere Moderati È Vero Che La Grazia Del Sacramento Del Matrimonio Dà Una Forza Particolare Per Attenuare Il Fuoco Della Concupicenza Ma La Debolezza Di Coloro Che Ne Sufruiscono Passa Facilmente Alla Permissività E Poi Alla Dissoluzione Dall'uso All'abuso Molti Ricchi Sono Per Avarizia Così Molta Gente Sposata Ruba Piaceri Disordinati Solo Per Mancanza Di Padronanza E Lussuria Benché Abbiano Un Campo Legittimo Suffigentemente Ampio Nel Quale Muoversi La Loro Concupicenza Assomiglia A un Fuoco Fatuo Che Balla Qua E Là Senza Fermarsi In Alcun Luogo È Sempre Pericoloso Prendere Medicine Troppo Forti Perché Qualora Se Non È Stata Ben Preparata Ce Ne Viene Del Danno Il Matrimonio È Stato Istituito In Parte Anche Quale Rimedio Della Concupiscenza Senz'altro È Un Rimedio Di Ottima Efficacia Ma Attenzione Perché È Molto Forte Di Conseguenza Può Essere Molto Pericoloso Se Non È Usato Con Discrezione Aggiungo Che I Casi Della Vita Oltre Alle Lunghe Malattie Spesso Separano I Mariti Dalle Mogli Ecco Perché Gli Sposati Hanno Bisogno Di Due Genere Di Castità La Prima Per Essere Capaci Di Vivere In Astinenza Assoluta Quando Sono Separati Nelle Occasioni In Cui Ho Appena Accennato La Seconda Per Essere Capaci Di Moderarsi Quando Vivono Insieme Santa Caterina Da Siena Vide Tra I Dannati Dell'Inferno Molti Che Erano Tormentati Con Supplizi Particolarmente Atroci Per Aver Profanato La Santità Del Matrimonio E Questo Era Loro Capitato Diceva Non Per La Gravità Del Peccato In Sè Perché Gli Omicidi E Le Bestemmie Sono Più Gravi Ma Perché Coloro Che Li Avevano Commessi Vi Avevano Preso L'abitudine Senza Più Farci Caso E Così Avevano Castità È Necessaria A Tutti Procura Di Essere In Pace Con Tutti Dice L'Apostolo E Di Possedere La Santità Senza Di Cui Nessuno Vedrà Dio Ora Per Santità Secondo San Girolamo E San Giovanni Crisostomo Intende La Castità Filotea È Proprio Vero Nessuno Vedrà Dio Se Non È Casto Nessuno Abiterà Nella Sua Santa Tenda Se Non È Puro Di Cuore E Come Dice Il Salvatore Stesso I Cani E Peccatori Di Sensualità Ne Saranno Esclusi E Beati I Puri Di Cuore Perché Vedranno Dio Capitolo Tredicesimo Consigli Per Conservare La Castità Filotea Tienti Lontana Dagli Inganni E Dagli Allettamenti Della Sensualità È Un Cancro Che Corrode Impercettibilmente E Da Inizi Invisibili Ti Porta In Breve A Situazioni Incontrollabili È Più Facile Evitarlo Che Guarirlo I Corpi Umani Assomignano A Vasi Di Vetro Che Non Possono Essere Trasportati Insieme Senza Porre Qualche Cosa Tra Uno E L'altro Senza Tale Precauzione Il Rischio Di Mandarli In Pezzi È Molto Grande Anche La Frutta Ci Può Insegnare Qualche Cosa Infatti Anche Se La Frutta Che Trasporti È Sana E Matura Al Punto Giusto Rischi Di Ammaccarla Tutta Sballottandola Se Non Metti Qualcosa Tra Un Frutto E L'altro Anche L'acqua Per Limpida Che Sia Quando La Versi In Un Vaso Se Ci Mette Il Muso Un Animale Sporco La Sua Limpidezza È Svanita Non Permettere Mai Filotea Che Qualcuno Ti Tocchi In Modo Screanzato Né Per Leggerezza Né Per Amicizia È Vero Che Volendo La Castità Può Essere Conservata Anche In Simili Situazioni Che Sanno Più Di Leggerezza Che Di Malizia Ma La Freschezza Del Fiore E La Castità Ne Soffre Sempre E Ci Perde Qualche Cosa Se Poi Uno Si Lascia Toccare In Modo Disonesto È La Fine Totale Della Castità La Castità Ha La Sua Radice Nel Cuore Ma È Il Corpo La Sua Abitazione Ecco Perché Si Perde A Causa Dei Sensi Esteriori Del Corpo E Per I Pensieri E Desideri Del Cuore Guardare Ascoltare Parlare Odorare Toccare Cose Disoneste È Impudicizia Se Paolo Tagliacorto La Fornicazione Non deve Nemmeno Essere Nominata Tra Di Voi Le Api Evitano Nel Modo Più Assoluto Di Toccare Le Carogne Ma Non Basta Fuggono E Non Riescono Nemmeno A Sopportare Il Lezzo Che Ne Emana Nel Cantico Dei Cantici La Sposa Dalle Mani Distilla Mirra Profumo Che Preserva Dalla Corruzione Le Sue Labbra Sono Coperte Di Un Nastro Rosso Segno Del Pudore Delle Sue Parole I Suoi Occhi Assomigliano A quelli Di Una Colomba Per La Loro Purezza Il Suo Naso È Incorruttibile Come Cedri Del Libano E Così L'anima Devota Deve Essere Casta Pura Onesta Di Mani Di Labbra Di Orecchie Di Occhi E Di Corpo A Questo Proposito Ti Porto Quello Che Dice Il Padre Del Deserto Cassiano Come Uscito Dalla Bocca Del Gran San Basilio Che Disse Un Giorno Parlando Di Se Stesso Non Ho Mai Conosciuto Donne Eppure Non Sono Vergine La Castità Si Può Perdere In Tanti Modi Quanti Sono In Genere Di Impudicizie E Di Lascivie Che Poi Secondo Che Sono Grandi O Piccole L' Familiarità Certe Passioncelle Leggere E Un Po Sensitive A Voler Essere Nel Giusto Non Ledono Gravemente La Castità Tuttavia La Indeboliscono La Rendono Malaticcia E Offuscono Il Suo Splendore Ci Sono Poi Altre Familiarità E Passioni Che Non Sono Soltanto Indiscrete Ma Viziose Non Soltanto Leggere Ma Disoneste Non Soltanto Sensitive Ma Carnali La Castità Da Queste Ne Rimarrà Sempre Almeno Ferita E Paralizzata Ho Detto Almeno Perché Abitualmente Muore E Scompare Del Tutto Quando Le Leggerezze E Lascivie Danno La Carne Il Massimo Del Piacere Voluttuoso Perché In tal Caso La Castità Perisce Nel Modo Più Indegno Perverso E Infelice Che Si Possa Immaginare E Peggio Di Quando Si Perde Per Fornicazione Adulterio Incesto Perché Questi Ultimi Sono Soltanto Peccati Ma Gli Altri Dice Tertulliano Nel Libro Dell' Impudicizia Sono Mostri Di Iniquità E Di Peccato Cassiano Non Crede Io Nemmeno Che San Basilio Si Riferisca A Queste Sregolatezze Quando Dice Di Non Essere Più Vergine Penso Che Si Riferisse Soltanto Ai Cattivi Pensieri Di Sensualità Che Pur Non Avendo Contaminato Il Corpo Avevano Contaminato Il Cuore Della Cui Castità Abitualmente Le anime Riservate Sono Molto Gelose Nel Modo Più Assoluto Filotea Non Frequentare Le Persone Licenziose Soprattutto 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 In Più Sono Anche Svergognate Il Che Avviene Quasi Sempre Sai Perché Sono Come I Caproni Che Leccando I Mandorli Dolci Li Rendono Amari Quelle anime Maleodoranti E Quei Cuori Infetti Non Riescono A Conversare Con Alcuno Poco Importa Di Quale Sesso Senza Trascinarlo In Qualche Modo Nell'ipodicizia Hanno Il Veleno Negli Occhi E Nell'alito Come I Basilischi Frequenta Piuttosto Le Persone Caste E Virtuose Pensa Leggi Spesso Cose Sante Perché La Parola Di Dio È Casta E Rende Casti Coloro Che Vi Si Compiacciano Sicché Davide La Paragona Al Topazio Pietra Preziosa Che Ha La Proprietà Di Calmare L'ardore Della Concupiscenza Tienti Sempre Vicino A Gesù Cristo Crocifisso Fallo Spiritualmente Con La Meditazione E Realmente Con La Santa Comunione Perché Allo Stesso Modo Che Coloro I Quali Si Coricano Sull' Erba Detta Agnus Castus Diventano Casti E Pur Se Tu Riposi Il Cuore Sul Nostro Signore Che È Il Verro Agnello Casto Immacolato Scoprirai Presto Che La Tua Anima E Il Tuo Corpo Sono Mondati Da Tutte Le Sozzure E Le Sensualità Capitolo Quattordicesimo La Povertà Di Spirito Osservata Nelle Ricchezze Beati I Poveri Di Spirito Perché Di Essi È Il Regno De Cieli Infelici Dunque Ricchi Di Spirito Perché Le Aspetta La Miseria Dell' Inferno Il Ricco Di Spirito È Quello Che Ha Le Ricchezze Nel Cuore Il Cuore Nelle Ricchezze Il Povero Di Spirito È Colui Che Non Ha Le Ricchezze Nel Cuore Nel Cuore Nelle Ricchezze Gli Alcioni Fanno I Nidi In Forma Di Palma E Vi Lasciano Soltanto Una Piccola Apertura In Alto Li Piazzano Sulla Riva Del Mare E Li Costruiscono Così Solidi E Impermeabili Che Se Anche Le Onde Dovessero Travolgerli Le Acque Non Penetrano Anzi Rimangono Sempre A Ricchezze E Ai Beni Caduchi Se Possidi Delle Ricchezze Non Impegnare Il Cuore In Esse Fai In Modo Di Dominarle Sempre E Pur Essendo In Mezzo Ad Esse Comportati Come Se Ne Fossi Senza Non Affogare Quel Dono Del Cielo Che È Il Cuore Nei Beni Della Terra Conservalo Sempre Superiore Ad Essi Sopra Di Essi Senza Smarrirlo In Essi I farmacisti Possiedono Quasi Sempre Del Veleno Per Servirsene In Varie Circostanze Ma Non Per Questo Sono Avvelenati Non Hanno Il Veleno Nel Corpo Ma Nel Laboratorio Allo Stesso Modo Puoi Possedere Ricchezze Senza Esserne Avvelenata Questo Se Lo Hai In Casa O Nel Portafoglio Ma Non Nel Cuore Essere Ricco Di Fatto E Povero Nel Cuore È Una Questo Mondo È Il Merito Della Povertà Per L' Altro Sai Filotea Nessuno Al Mondo Vorrà Mai Ammettere Di Essere Avaro Tutti Negano Di Essere Contagiati Da Questo Tarlo Che Inaridisce Il Cuore Chi Adduce A Scusa Il Pesante Fardello Dei Figli Chi La Necessità Di Crearsi Una Posizione Solida Non Si Possiede Mai Abbastanza Si Scopre Sempre Un Motivo Per Avere Di Più Quelli Che Poi Sono Avari Più Degli Altri Non Ammetteranno Mai Di Esserlo E Il Bello È Che In Coscienza Sono Proprio Convinti Di Non Esserlo L'Avarizia È Una Febbre Maligna Che È Più Forte Bruciante E Più Rende Insensibili Mosè Vide La Fiamma Che Bruciava Un Cespuglio Senza Consumarlo Al Contrario Il Fuoco Della Avarizia Consume Divora L'Avaro Senza Mai Bruciarlo Tra Gli Ardori E Calori Più Forti Egli Si Vanta Di Provare La Più Riposante Freschezza Di Questo Mondo E Ritiene La Sete Insaziabile Una Sete Naturale E Piacevole Se Desideri Lungamente Ardentemente E Con Ansi I Bene Che Non Possiedi Hai Un Bel Dire Che Non Li Vuoi Acquistare Ingiustamente Non Sarà Per Questo Che Cesserai Di Essere Un Autentico Avaro Chi Brama Di Bere Con Arsura Con Insistenza E Con Ansia Anche Se Desidera Bere Solo Acqua Dimostra Chiaramente Di Aver La Febbre Filotea Non So Fino A che Punto Sia Un Giusto Desiderio Voler Possedere Giustamente Quello Che Un Altro Comodo Nostro Incomodando Gli Altri Chi Già Possiede Giustamente Un Bene Non Ha Forse Più Ragione Di Conservarlo Giustamente Che Noi Di Voleglielo Portare Via Giustamente E Perché Vogliamo Allungare Il Nostro Desiderio Sul Suo Bene Per Portaglielo Via Ma Anche Volendo Supporre Che Questo Nostro Desiderio Sia Giusto Per Davvero Di Sicuro Non È Caritatevole È Certo Che Noi Saremmo Molto Contrariati Se Qualcuno Anche Giustamente Volesse Impadronirsi Di Quello Che Giustamente Possediamo Noi Questo È Il Peccato Di Acab Che Voleva Impossessarsi Giustamente Della Vigna Di Naboth Mentre Naboth Giustamente Voleva Conservarla La Desiderò Con Tanto Ardore Così A lungo E Tormentandosi Che Finì Con L'Offendere Dio Aspetta Filotea Desiderare Il Bene Del Prossimo Che Il Prossimo Abbia Il Desiderio Di Disfarsene In Tal Caso Il Suo Desiderio Renderà Il Tuo Più Che Giusto Addirittura Caritatevole Sì Sono D'accordo Che Tu Abbia Cura Di Accrescere Il Tuo Patrimonio Le Tue Possibilità Ma Sempre Con Giustizia Con Calma E Con Carità Se Sei Molto Attaccata Ai Beni Che Possiedi Se Ne Sei Tutta Presa E Ci Metti Dentro Il Cuore E Pensieri E Temi Con Un Timore Intenso E Ossessivo Di Perderli Credimi Hai Ancora La Febbre Chi Ha La Febbre Beva L'acqua Che Gli Offrono Con In Gordigia Una Bromosia E Una Soddisfazione Che I Sani Abitualmente Non Manifestano Non È Possibile Trovare Molta Soddisfazione In Una Cosa Se Non Nutriamo Per La Stessa Molto Affetto Se Capita Che Tu Perda Dei Beni E Che Il Tuo Cuore Rimanga Desolato Fortemente Afflitto Credi A me Filotea Vuol Dire Che Lì C'era Molto Del Tuo Affetto Infatti L'afflizione Per La Cosa Perduta E La Prova Più Certa Dell'affetto Che Serveva Per Essa E Allora Non Desiderare Con Una Brama Travolgente Definita Il Bene Che Non Hai Non Impegnare Troppo Il Cuore In Quello Che Possiedi Non Disperarti Per I Rovesci Che Potranno Colpirti Avrai Allora Qualche Motivo Di Pensare Che Pur Essendo Ricca Di Fatto Non Lo Sei Di Affetto Ma Sei Povera Di Spirito E Quindi Felice Perché Il Regno De Cieli E Tuo Capitolo Quindicesimo Come Deve Essere Praticata La Povertà Reale Rimanendo Ricchi Di Fatto Il Pittore Parrasio Dipingendo Il Popolo Di Atene Ebbe Un' Idea Geniale Lo Rappresentò Con Espressioni Sempre Diverse Di Collera Di Rabbia Di Incostanza Di Cortesia Di Clemenza Di Misericordia Di Alterigia Di Superbia Di Umiltà Di Vanità Di Timidezza E Tutto Ciò Contemporaneamente Io Cara Filotea Vorrei Mettere Allo stesso Modo Contemporaneamente Nel tuo Cuore La Ricchezza E La Povertà Una Grande Cura E Un Grande Disprezzo Dei Beni Temporali Devi Avere Più Cura Tu Di Rendere I Tuoi Beni Utili E Fruttuosi Di Quanta Non Ne Abbia La Gente Del Mondo Infatti I Giardinieri Dei Grandi Principi Non Sono Forse Più Accurate Dirigenti Nel Coltivare Ed Abbellire I Giardini Loro Affidati Che Se Fossero Di Loro Proprietà E Perché Semplice Pensano Che Quei Giardini Appartengono Ai Principi E Re Nelle Grazie Dei Quali Vogliono Entrare Con Quel Servizio Filotea Tutto Quello Che Possediamo Non È Nostro Dio Ce L'ha Affidato E Vuole Che Lo Rendiamo Fruttuoso E Utile Se Ne Abbiamo Cura Per Il Bene Il Nostro Servizio Gli Sarà Accetto Deve Essere Una Cura Maggiore E Più Continua Di Quella Che La Gente Del Mondo Ha Per I Propri Beni Essi Si Impegnano Soltanto Per Amore Di Se Stessi Noi Invece Lavoriamo Per Amore Di Dio Se Metti A Confronto Questi Due Amori Arrivi La Conclusione Che Poiché L'amore Di Sé È Un Amore Violento Turbolento E Ossessivo Anche La Cura Dei Beni Fondata Su Di Esso Sarà Agitata Rabbiosa E Piena Di Paure Per Contro Poiché L'amore Di Dio È Dolce Sereno E Tranquillo La Cura Dei Beni Fondata Su Di Esso Sarà Serena Dolce E Tranquilla Cerchiamo Di Essere Calmi Nella Cura Dei Nostri Beni Temporali Sia Per Conservarli Sia Anche All'occasione Per Accrescerli Se La Nostra Condizione Lo Richiede Questa È La Volontà Di Dio E Noi Dobbiamo Realizzarla Per Amore Ma Fa Attenzione Agli In Ganni Dell' Amor Proprio Sa Così Bene Scimmiottare L'amor Di Dio Che A Volte Sembra Proprio Lui Per Impedire Questo Equivoco Ossia Che La Cura Dei Beni Temporali Si Tramuti In Avalizia Oltre A Quanto Ti Ho Indicato Nel Capitolo precedente Dobbiamo Molto Spesso Praticare Una Povertà Reale Ed Effettiva Pur Vivendo Circondati Da Tutte Le Ricchezze Che Dio Ci Dato Comincia Col Disfarti Di Un Po Dei Tu Beni Dandoli Di Tutto Cuore Ai Poveri Dare Significa Impoverirsi Nella Misura In Cui Si Dà E Più Darai E Più Sarai Povera E Vero Che Dio Ti Ricompenserà Non Soltanto Nell'altro Mondo Ma Anche In Questo Infatti Niente Rende Gli Affari Tanto Prosperi Quanto L'Elemosina Tuttavia In Attesa Mancherai Di Quello Che Hai Dato Ed E 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 L'amore Rende Simili Gli Amanti Chi E E Io Non Sono Come Lui Dice San Paolo Avrebbe Anche Potuto Dire Chi E Povero E Io Non Lo Sono Come Lui L'amore Lo Rendeva Simile A Quelli Che Amava Se Dunque Ami I Poveri Parteciperai Realmente Della Loro Povertà E Sarai Povera Con Loro Se E 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 Tu Va A Trovarli A Casa Loro Parla Volentieri Con Loro Sii Contenta Se Ti Vengono Vicino In Chiesa Per Strada E Ovunque Usa Un Linguaggio Semplice Con Loro Parlando Come Usano Parlare Tra Di Loro Devi Invece Essere Ricca Di Mano Distribuendo Loro Con Abondanza Dei Tuoi Beni Vuoi Vuoi Fare Ancora Di Più Filotea Non Accontentarti Di Essere Povera Come I Poveri Ma Sii Più Povera Dei Poveri E Come Il Servo È Minore Del Padrone E Allora Tu Fatti Serva Dei Poveri Va A Servirli Nei Loro Giacigli Quando Sono Malati Intendo Di Persona Con Le Tue Mani Sii Loro La Loro Cuoca A Tue Spese Sii La Loro Cameriera La Loro Lavandaia Filotea Questo Servizio Vale Più Di Una Corona Reale Sono Preso Da Sconfinata Ammirazione Ogni Volta Che Penso Allo Zelo Con Il Quale San Luigi Lo Mise In Pratica Io Considero Quel Monarca Uno Dei Più Grandi Re Della Terra Ma Di Una Grandezza Che Abbraccia Tutti I Settori Spesso Serviva La Tavola Dei Poveri Che Manteneva Su Spese E Quasi Tutti I Giorni Il Re Gli Faceva Sedere Alla Sua Mensa E Spesso Mangiava Con Amore Quello Che Rimaneva Nei Loro Piatti Quando Visitava Gli Ammalati Negli Ospizi E Lo Faceva Spesso Abitualmente Serviva Quelli Che Erano Colpiti Dalla Malattia Più Ributtanti Come Lebrosi Cancerosi E Simili Gli Serviva A Capo Scoperto E In Ginocchio Rispettando In essi La Persona Del Salvatore Del Mondo Dimostrava Loro Una Tenerezza Che Soltanto Una Madre Primorosa Ha Per Il Proprio Figlio Santa Elisabetta Figlia Del Red Ungheria Si Univa Abitualmente Ai Povri E Qualche Volta Per Divertimento Si Vestiva Poveramente Tra Le Sue Dame E Diceva Loro Se Fossi Povera Mi Vestirei Così Cara Filotea Quel Principe E Quella Principessa Erano Poveri Sul Serio In Mezzo Alle Ricchezze Ed Erano Ricchi Nella Loro Povertà Beati Quelli Che Sono Poveri In Questo Modo Perché Di Essi Il Regno Dei Cieli Ho Avuto Fame E Mi Avete Dato Da Mangiare Ho Avuto Freddo Mi Avete Vestito Possedete Il Regno Che Vi È Stato Preparato Fin Dalla Creazione Del Mondo Dirà Nel Giudizio Finale Il Re Dei Poveri A Coloro Che A Loro Volta Avranno Voluto Essere Re Dominando Le Cose Materiali Tutti Prima Poi Incontriamo Situazioni Nelle Quali Sperimentiamo La Mancanza Di Qualche Comodità E Ne Sentiamo Il Peso Ci Capita Ad Esempio Di Ospitare Una Persona Che Vorremmo E Dovremmo Trattare Con Riguardo E Non C'è Modo A Causa Dell' Ora Oppure Ti Capita Di Avere Gli Abiti Belli In Un Luogo Mentre Ti Servirebbero In Un Altro Per Presentarti Meglio Ti Può Capitare Ancora Che In Cantina I Vini Si Siano Voltati In Aceto E Ti Rimane Solo Un Vino Cattivo E Aspro Oppure Ti Capita Spesso Di Avere Bisogno Di Qualche Cosa Anche Se Si Ricchi In Tal Caso Bisogna Saper Essere Poveri In Quello Che Manca Filotea Si Contenta In Queste Situazioni Accettale Volentieri E Sopportale Serenamente Quando Ti Capiteranno Rovesci Che Ti Impoveriranno O Molto O Poco Quali Lagrandi Nel Fuoco Le Inondazioni La Sicità Le Ruberie I Processi Allora Si Che È Il Tempo Di Praticare La Povertà Accetta Serenamente La Diminuzione Dei Beni Adattati Con Pazienza E Costanza All'impovenimento Esau Si Presentò A suo Padre Con Le Mani Coperte Di Peli E Giacobbe Lo Imitò Ma Siccome Il Pelo Che Copriva Le Mani Di Giacobbe Non Apparteneva La Sua Pelle Ma I Guanti Se Lo Poteva Togliere Senza Scorticarsi Al Contrario Il Pelo Di Esau Apparteneva Alla Sua Pelle Era Peloso Per Natura Chi Avesse Voluto Levarglilo Gli Avrebbe Causato Un Atroce Dolore Lo Avrebbe Fatto Urlare E Si Sarebbe Difeso Quando I Nostri Beni Sono Legati Al Cuore Se La Grandine I Ladri O Gli Imbroglioni Ce Ne Strappano Una Parte Che Urla Che Agitazione Che Tormento Ne Abbiamo Ma Se I Nostri Beni Sono Attaccati A Noi Solo Per La Cura Che Dio Vuole Che Ne Abbiamo E Non Sono Attaccati Al Cuore Se Ce Li Strappano Non Sarà Per Quello Che Daremo In Smanie E Cadremo In Svenimento I Vestiti Degli Uomini E Degli Animali Differiscono Proprio In Questo I Vestiti Delle Bestie Fanno Parte Della Loro Carne Quelli Degli Uomini Sono Soltanto Sovrapposti Per Poterli Indossare E Togliere Quando Si Vuole